il castello di blendings tutti i racconti di woodhouse la custodia della zucca il sole della mattina scendeva come una doccia ambrata sul castello di blendings illuminando di una luce calda le sue mura ricoperte di edera il suo parco ondulato i suoi giardini le serre e le rimesse e quei suoi abitanti che si trovavano al momento a prendere un po d'aria cadeva sui prati verdi e sulle ampie terrazze su nobili alberi e vivaci aiole fiorite cadeva sui pantaloni dal lavoro di angus mccallister capo giardiniere del nono conte di emsworth mentre si chinava con determinazione scozzese a togliere una lumaca dal suo ozio sotto una foglia di lattuga cadeva sui pantaloni bianchi di flanella dell'onorevole freddy tripwood il secondo genito di lord emsworth che si affrettava per il terreno paludoso cadeva anche sullo stesso lord emsworth e su beach il suo fedele maggiordomo erano in piedi sulla torretta sull'ala occidentale il primo col suo occhio attaccato a un potente telescopio l'ultimo che teneva il cappello che era stato mandato a trovare beach disse lord emsworth mi lord sono stato truffato o questo coso dannato non funziona vostra signoria non riesce a vedere chiaramente non riesco a vedere affatto dannazione è tutto nero il maggiordomo era un uomo attento forse se rimuovessi il coprio obiettivo all'estremità dello strumento mi lord si otterrebbero risultati più soddisfacenti eh coprio obiettivo c'è un coprio obiettivo è così toglietelo beach benissimo mi lord ah ci fu soddisfazione nella voce di lord emsworth armeggiò e girò e la soddisfazione crebbe sì così va meglio ottimo beach posso vedere una mucca davvero mi lord giù nella marcita notevole sembra due metri benissimo beach non importa che stiate ancora qui il vostro cappello mi lord mettetemelo sulla testa benissimo mi lord il maggiordomo effettuato questo atto gentile si ritirò lord emsworth continuò a guardare la mucca il nono conte di emsworth era un distratto ed amabile vecchio gentiluomo con una passione per i nuovi giocattoli anche se l'interesse principale della sua vita nel suo giardino era sempre pronto a provare qualche campo diverso l'ultimo di questi campi era questo suo telescopio ordinato a londra in un accesso di entusiasmo conseguente alla sua lettura di un articolo di astronomia in una rivista mensile era stato posto in quella posizione la sera precedente quello che stava effettuando in quel momento era il suo collaudo poi l'attrattiva della mucca cominciò a svanire era una bella mucca per essere una mucca ma come così tante mucche mancava di un sostanzioso interesse drammatico sazio dopo un po dallo spettacolo della mucca che ruminava e guardava nel nulla lord emsworth decise di girare attorno l'apparato nella speranza di cogliere qualcosa di più sensazionale e stava proprio per farlo quando nel campo della sua visione comparve l'onorevole freddi bianco e splendente passeggiava sul prato come un pastore teocriteo che va dall'appuntamento con una ninfa e un'improvvisa ruga macchiò la serenità della fronte di lord emsworth generalmente aggrottava la fronte quando vedeva freddi perché col passare degli anni quel giovane era divenuto sempre più un problema per un padre ansioso diversamente dal merluzzo maschio che quando si trova improvvisamente ad essere padre di 3 milioni 500 mila piccoli merluzzi allegramente decide di amarli tutti l'aristocrazia britannica incline a guardare con occhio prevenuto i suoi figli cadetti e freddi tripud era uno di quei figli minori che invitano in effetti i pregiudizi sembrava al capofamiglia che non ci fosse modo di gestire quel ragazzo se gli veniva permesso di vivere a londra accumulava debiti su debiti e si ficava nei guai e quando lo si riportava nei più puri ambienti del castello di blendings ciondolava sul posto meditabondo la compagnia di amleto ad el sinore doveva avere più o meno lo stesso effetto sul suo patrigno che quella di freddi tripud a blendings sul lord emsworth ed è probabile che quello che indusse quest'ultimo a mantenere su di lui il suo occhio telescopico fu il fatto che il suo comportamento fosse così misteriosamente baldanzoso la sua andatura così liberata in modo intrigante dalla sua solita depressione qualche voce interna bisbigliava lord emsworth che questo baldo giovane sorridente non era intento a niente di buono e aveva bisogno di essere sorvegliato la voce interna aveva assolutamente ragione entro trenta secondi la sua causa era stata approvata completamente sua signoria aveva appena avuto il tempo di desiderare come invariabilmente faceva ogni volta che vedeva la sua progenie che freddi fosse completamente diverso nei suoi modi morale e aspetto e fosse il figlio di qualcun altro che viveva a una notevole distanza quando da un boschetto vicino alla fine del prato sbucò una ragazza e freddi dopo un cauto sguardo sulla sua spalla procedete immediatamente a chiudere questa femmina in un caldo abbraccio lord emsworth aveva visto abbastanza si allontanò dal telescopio come un uomo distrutto uno dei suoi sogni favoriti era qualche ragazza carina e adatta appartenenti a una buona famiglia e che possedesse un po di soldi per conto suo che giungesse un giorno a togliergli freddi dalle spalle ma quella voce interna sicura ora più che mai gli diceva che quella non era lei freddi non sarebbe scivolato via in quel modo furtivo per incontrare ragazze adatte nel lui riusciva ad immaginare una ragazza adatta che avesse la testa a posto che corresse nelle braccia di freddi in quel modo entusiasta no c'era solo una spiegazione nel claustrale isolamento di blendings lontano dalla città con tutte le sue occasioni per quel genere di cose freddi era riuscito a restare invischiato colmo di angoscia e di rabbia lord emsworth scese di corsa le scale e uscì sulla terrazza qui si mise a camminare come un vecchio leopardo che aspetti l'ora del pasto finché a tempo debito ci fu un bagliore bianco tra gli alberi accanto al vialetto e un fischio allegro che segnalò l'arrivo del colpevole fu con sguardo acido e ostile che lord emsworth osservò avvicinarsi suo figlio si aggiustò il pensne e col suo aiuto poteva vedere che un fatuo sorriso di soddisfazione di sé illuminava la faccia del giovane dandogli l'aspetto di una pecora radiosa nell'occhiello del giovane c'era un mazzolino di semplici fiori di campo che mentre camminava egli carezzava di tanto in tanto con mano affettuosa fredrik gridò sua signoria il malfattore si fermò bruscamente assorto in una rosea trans non aveva visto suo padre ma tale era la solarità del suo amore che anche questo incontro non poteva batterlo si avvicinò allegramente salve capo intono cercò in mente qualche piacevole argomento di conversazione sempre un po difficile in queste occasioni bella giornata no sua signoria non si fece trascinare in una discussione sul tempo si avvicinò di un passo con l'aspetto di chi stia per soffocare i principini nella torre fredrik chiese chi era quella ragazza l'onorevole freddi sussultò convulsamente sembrò inghiottire a fatica qualcosa di grosso e seghettato ragazza balbettò ragazza ragazza capo quella ragazza che ti ho visto baciare dieci minuti fa lungo le marcite oh disse l'onorevole freddi si fermò oh ah si fermò di nuovo oh ah sì avevo intenzione di parlartene capo ah davvero tutto perfettamente corretto sai oh sì davvero tutto assolutamente corretto non c'è niente sotto voglio dire o qualcosa del genere lei è la mia fiancée un grido acuto sfuggì al lord emsworth come se una delle api che ronzavano nei cespugli di lavanda si fosse presa una pausa per pungerlo nel collo chi è tuono chi è questa donna si chiama donaldson chi è edgy donaldson edgy è il diminutivo di niagara i suoi hanno passato la luna di miele alle cascate mi dice è americana e tutto il resto danno dei nomi strani ai bambini in america proseguì freddi parlando a vuoto voglio dire niagara dimmi tu chi è è terribilmente brillante sai piena di vita ti piacerà chi è e sa suonare il sassofono chi chiese lord emsworth per la sesta volta è e dove l'hai conosciuta freddito sì l'informazione sentiva non poteva più essere elusa ed era acutamente consapevole del fatto che non rientrava nel tipo di notizie che suscitano grande gioia ebbene di fatto capo è una specie di cugina di angus mcallister è venuta in inghilterra per una visita sai e sta dal vecchio ecco come l'ho incontrata gli occhi di lord emsworth si sgranarono e lui gorgogliò debolmente aveva avuto molte spiacevoli visioni del futuro di suo figlio ma non avevano mai incluso il vederlo camminare nella navata della chiesa con una specie di cugina del suo capo giardiniere oh disse oh davvero il succo capo lord emsworth alzò le braccia al cielo come se invocasse il cielo a testimone sulla persecuzione di un bravo uomo e corse lungo la pazza ad un rapido trotto dopo aver corso per alcuni minuti si diresse all'entrata del viale di tassi il capo giardiniere si voltò al suono dei suoi passi era un uomo tarchiato di media altezza con sopracciglia che sarebbero state meglio su una fronte più grande questo aggiunto a una barba rossa e riccia gli dava un'espressione formidabile e fiera di onestà la faccia di angus mcallister ne aveva in abbondanza e anche di intelligenza ma era un po accorto di dolcezza e leggerezza mcallister disse sua signoria tuffandosi senza preamboli nel cuore del discorso quella ragazza dovete mandarla via uno sguardo di stupore annuvolò quei lineamenti di mister mcallister che non erano nascosti dietro barba e sopracciglia ragazza quella ragazza che sta con voi deve andarsene andare dove lord emsworth non era dell'umore di perdersi in dettagli dovunque disse non voglio che stia qui un giorno di più perché chiese mister mcallister cui piaceva approfondire le cose non preoccupatevi del perché dovete mandarla via immediatamente mister mcallister avanzò un'obiezione insuperabile mi sta pagando due a settimana disse semplicemente lord emsworth non digrignò i denti perché non era abituato a quella forma di esibizione delle emozioni ma fece un saldo di circa 10 pollici in aria e fece cadere il suo pensne e anche se normalmente era un uomo ragionevole ed equo ben al corrente che i conti moderni devono pensarci due volte prima di usare il loro diritto feudale sui loro amplo aie assunse la truculenza di un grande proprietario terriero del primo periodo normanno nell'atto di cacciare un serbo ascoltatemi callister ascoltatemi o voi mandate via oggi quella ragazza o potete andarvene e parlo sul serio un'espressione curiosa comparve sulla faccia di angus mcallister sempre nei territori non occupati era lo sguardo di un uomo che non ha dimenticato ben hockburn un uomo consapevole di appartenere al paese di william wallace e di robert bruce fece dei rumori scozzesi sul retro della sua gola vostra signoria accetti il mio preavviso disse con dignità formale vi pagherò un mese di paga invece del preavviso e voi ve ne andrete oggi pomeriggio ripete lord emsworth con spirito disse mister mcallister lord emsworth lasciò il campo di battaglia con un senso di pura eccitazione sempre preda della furia animale del conflitto non sentì alcuna fitta di rimorso al pensiero che angus mcallister lo aveva servito fedelmente per dieci anni né egli passò per la mente che avrebbe potuto sentire la mancanza di mcallister ma quella sera mentre sedeva a fumare la sua sigaretta dopo cena la ragione così violentemente espulsa scivolò timidamente di nuovo sul trono e una mano fredda sembrò improvvisamente posarsi sul suo cuore senza angus mcallister cosa sarebbe accaduto alla zucca l'importanza di questa zucca nella vita del conte di emsworth richiede forse una parola di spiegazione ogni antica famiglia dell'inghilterra ha qualche piccola falla nel suo albo d'onore e quella di lord emsworth non faceva eccezione per generazioni passate i suoi antenati avevano compiuto nobili imprese avevano fatto uscire dal castello di blendings statisti e guerrieri governatori e condottieri di popolo ma non avevano secondo l'opinione dell'attuale proprietario del titolo realizzato grandi successi per quanto potessero apparire splendide le cronache familiari a prima vista restava il fatto che nessun conte di emsworth aveva mai vinto un primo premio per le zucche alla fiera di shrewsbury per le rose sì per i tulipani vero per le cipolle garantito ma non per le zucche e lord emsworth lo sentiva profondamente per molte stati passate aveva lottato infaticabilmente per rimuovere questa macchia dallo stemma della famiglia solo per vedere rotolare le sue speranze ma quell'anno la sua vittoria sembrava in vista perché era stata donata blendings dal cielo una competitrice di tali dimensioni che sua signoria che l'aveva vista crescere praticamente da piccola non poteva vederne il fallimento certamente si diceva mentre guardava la sua rotondità dorata anche ser gregoli parslow parslow di matchingham hall vincitore per tre anni successivi non sarebbe mai stato in grado di produrre niente che sfidasse questo superbo vegetale ed era questa zucca suprema di cui temeva il benessere che lui stesso aveva messo a rischio licenziando angus mccallister perché angus era il suo allenatore ufficiale capiva la zucca in vero nel suo riservo scozzese e sembrava addirittura amarla con angus andato come sarebbe stato il raccolto tali erano le meditazioni di lord emsward mentre rivedeva lo stato delle cose e anche se col passare dei giorni cercava di dirsi che angus mccallister non era l'unico uomo al mondo che comprendeva le zucche e che aveva ogni fiducia la più completa e incrollabile fiducia in robert barker prima secondo in carica dopo angus ora promosso a capo giardiniere e custode della speranza di blendings sapeva che la sua era stata solo una sciocca bravata quando sei proprietario di una zucca con una grande vincitrice nella tua scuderia giudichi gli uomini con degli alti standard e ogni giorno diveniva più evidente che robert barker era solo un ripiego entro una settimana lord emsward stava rimpiangendo angus mccallister potrebbe essere pura immaginazione ma per la sua eccitata fantasia anche la zucca sembrava rimpiangere angus sembrava perdere peso ed essere abbattuta e nella decima notte dopo la partenza di mccallister lord emsward fece uno strano sogno era andato con re george a mostrare alla sua graziosa maestà la zucca promettendogli uno spettacolo unico e quando erano arrivati là nell'angolo del recinto c'era una cosetta delle dimensioni di un pisello si svegliò tutto sudato con nelle orecchie ancora le urla di delusione del suo sovrano e l'orgoglio aveva avuto la sua ultima convulsione ed era collassato riassumere angus sarebbe stata una resa ma doveva essere fatto beach disse quella mattina dopo colazione avete per caso l'indirizzo di mccallister sì vostra signoria replicò il maggiordomo sta a londra all'undici di buxton crescent buxton crescent mai sentito è credo vostra signoria un pensionato o qualcosa del genere dalle parti di cromwell road mccallister era abituato a far nel suo quartier generale ogni volta che andava in visita a londra per la sua vicinanza a kensington gardens gli piaceva disse beach con rimprovero rispettoso perché angus era suo amico da nove anni star vicino ai fiori vostra signoria due telegrammi che vi passarono nelle 12 ore successive suscitarono qualche pettegolezzo nella piccola città di market blendings il primo diceva mccallister 11 buxton crescent cromwell road london ritornate subito emsworth il secondo lord emsworth castello di blendings shropshire no mccallister lord emsworth aveva una di quelle menti capaci di ospitare un pensiero solo alla volta se anche e la possibilità che angus mccallister potesse rifiutarsi di tornare non gli era passata in testa era difficile adattarsi a questo nuovo problema ma alla fine ci riuscì prima di notte aveva deciso robert barker quella canna rotta poteva rimanere in carica per un altro giorno o due e nel frattempo doveva andare a londra ad assumere un vero capo giardiniere il migliore capo giardiniere che il denaro potesse procurarsi era opinione del dottor johnson che a londra si trovi tutto quello che la vita possa offrire un uomo credeva che sia stanco di londra è stanco della vita stessa lord emsworth fosse stato consapevole di questa affermazione l'avrebbe contestata caldamente odiava londra odiava le sue folle i suoi odori i suoi rumori i suoi omnibus i suoi taxi e i suoi marciapiedi e in aggiunta a tutti i suoi altri difetti l'infelice città non sembrava in grado di produrre un solo decente capo giardiniere andò da un'agenzia all'altra intervistando candidati e nessuno di loro si avvicinava neanche ad un miglio ai requisiti necessari a lui non piacevano le loro facce non si fidava delle loro referenze è una cosa dura da dire di qualsiasi uomo ma che fosse dannato se il migliore di loro era almeno all'altezza di robert barker fu perciò con un umore cupo e acido che sua signoria avendo pranzato frugalmente al senior conservative club il terzo giorno della sua visita stava sui gradini al sole chiedendosi come diamine mai poteva arrivare alla fine del pomeriggio aveva passato la mattina a rifiutare capo giardinieri e la sessione successiva non doveva arrivare fino alla mattina dopo e che cosa c'era oltre che respingere capo giardinieri cosa c'era da fare per un uomo di gusti ragionevoli in tutto questo tempo in questa disperata città e poi gli venne in mente un'affermazione fatta da beach il maggiordomo alla tavola della colazione sui fiori di kensington gardens poteva andare a kensington gardens e guardare i fiori stava per fermare un taxi dalla fila lungo la strada quando ad un tratto emerse dall'hotel magnificente un giovanotto questo giovanotto procedeva ad attraversare la strada e mentre si avvicinava sembrò a lord emsworth che ci fosse nel suo aspetto qualcosa di stranamente familiare lo guardò per un lungo istante prima di poter credere ai suoi occhi poi con un grido inarticolato si precipitò giù per i gradini proprio mentre l'altro iniziava a salirli oh salve capo esclamò l'onorevole freddi chiaramente stupito cosa cosa stai facendo qui chiese lord emsworth parlò con calore giustamente londra in quanto risultante in varie scappatelle vivaci che ancora permanevano nella mente di un padre che aveva dovuto pagarne i conti era terreno proibito per freddi il giovanotto chiaramente non era a suo agio aveva l'aria di chi sia stato spinto verso un ingranaggio pericoloso in cui tema di restare impigliato trascinò i piedi per un momento poi sollevò il piede sinistro e strofinò con esso il retro del suo polpaccio destro il fatto è capo sai che ti è proibito venire a londra assolutamente capo ma il fatto è che e perché chiunque se non un imbecille vorrebbe venire a londra quando potrebbe stare a blendings lo so capo ma il fatto è a questo punto freddi avendo rimesso il suo piede vagante sul marciapiede sollevò l'altro e con esso strofinò il retro del suo polpaccio sinistro volevo vederti disse sì volevo proprio vederti questo non era strettamente accurato l'ultima cosa al mondo che l'onorevole freddi voleva era vedere il suo genitore era venuto al senior conservative club per lasciare un biglietto scritto con cura dopo averlo consegnato era stata sua intenzione filarsela come un coniglio questo incontro imprevisto aveva sconvolto i suoi piani vedermi disse lord emsworth perché avevo qualcosa da dirti molte notizie confido che siano di sufficiente importanza per giustificare la tua venuta a londra contro i miei espressi desideri o sì o sì 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 o direi è dannatamente importante sì non per esagerare ma dannatamente importante dico capo sei abbastanza in forma da sopportare un certo shock un pensiero terrificante corse nella mente di lord emsworth il misterioso arrivo di freddi i suoi modi strani la sua curiosa esitazione e disagio potevano forse significare afferrò febbrilmente il braccio del giovanotto frederick parla dimmi l'hanno distrutta i gatti era un'idea fissa di lord emsworth che nessuna argomentazione avrebbe indotto ad abbandonare che i gatti avevano la capacità di compiere dei terribili misfatti verso la sua zucca ed erano in continuo agguato per l'occasione di farlo e il suo comportamento nell'occasione in cui uno di quella banda uscì dalle stalle aggirandosi nel giardino della cucina lo trovò a contemplare la speranza di blending se si strofinò socevolmente contro la sua gamba ancora permaneva nella memoria di quell'animale freddi sgranò gli occhi gatti perché dove chi i quali gatti frederick c'è qualcosa che non va nella zucca in un modo materialista e rozzo ci devono essere inevitabilmente dei pochi in cui le zucche non fanno risuonare nessuna corda l'onorevole freddi triput era uno di questi era abituato a parlare beffardamente di tutte le zucche ed era arrivato addirittura al punto di alludere alla speranza di blendings come persi l'ansia di suo padre perciò lo fece solo ridacchiare non che io sappia disse allora cosa vuoi dire tuonò lord emsworth ferito dalla risatina cosa intendi col venire qui e allarmarmi spaventandomi a morte per giove con le tue sciocchezze sul fatto che io possa sopportare o meno uno shock l'onorevole freddi guardò attentamente il suo genitore in fermento le sue dita scivolate in tasca si chiusero su un biglietto lo estrasse senti capo disse nervosamente penso che la cosa migliore sarebbe per te leggere questo volevo lasciartelo dal portiere e bene dagli un'occhiata arrivederci capo devo vedere una persona e affidata la nota alla mano del padre l'onorevole freddi si voltò e se ne andò lord emsworth perplesso e irritato lo osservò allontanarsi e saltare in un taxi ribollì di impazienza praticamente qualsiasi comportamento da parte di suo figlio freddi aveva il potere di irritarlo ma era quando era vago misterioso e incoerente che il giovane lo irritava di più guardò la lettera che aveva in mano la rigirò la tastò poi perché gli era improvvisamente venuto in mente che se avesse voluto conoscerne il contenuto avrebbe fatto meglio a leggerla ruppe la busta la nota era breve ma piena di sostanza caro capo terribilmente spiacente e tutto il resto ma non potevo sopportarlo più sono venuto a londra con la due posti e eggi ed io ci siamo sposati stamani sembrava un po complicato ma ma il padre di eggi che è venuto dall'america ha fatto in modo di sistemare le cose con una licenza speciale o una cosa del genere un tipo capace verrà a trovarti vuole avere un lungo colloquio con te su tutto l'affare fagli una buona accoglienza e tutto il resto se non ti dispiace perché è davvero tosto e ti piacerà ebbene ciao il tuo affessionato figlio freddi p.s non ti dispiace vero se mi prendo la due posti per un po può tornarmi utile per la luna di miele il senior conservative club è un edificio solido e massiccio ma mentre lord emsworth sollevava gli occhi a muto lito dalla lettera gli sembrò che stesse vorticando in una danza tutto ciò che lo circondava stava ballando nello stesso modo in una spessa nebbia era profondamente commosso non è troppo dire che era scosso fino in fondo al suo essere a nessun padre piace essere ignorato e sfidato dal suo figlio né è ragionevole aspettarsi che un uomo abbia un'allegra visione della vita quando affronta la prospettiva di mantenere per il resto dei suoi anni un figlio minore la moglie di un figlio minore e forse anche dei nipoti per un tempo apprezzabile resto in piedi sul marciapiede radicato sul posto i passanti inciampavano in lui o brontolando facevano delle deviazioni per evitare una collisione i cani gli annusavano le caviglie individui dall'aspetto in disordine cercavano di attrarre la sua attenzione per parlare dei loro affari finanziari lord emsworth non faceva caso a nessuno di essi restò dove era a bocca aperta come un pesce finché d'un tratto le sue facoltà sembrarono tornare un bisogno imperativo di fiori e di alberi verdi calò sul lord emsworth il rumore del traffico e il calore del sole sul marciapiede di pietra lo affliggevano come un incubo fece un segno energico a un taxi di passaggio kensington gardens disse e si appoggiò al sedile imbottito qualcosa che somigliava vagamente alla pace si fece strada nell'anima di sua signoria mentre pagava ed entrava nella fresca ombra del parco anche dalla strada aveva colto un bagliore di eccitanti rossi e gialli e mentre camminava sul vialetto d'asfalto e girava l'angolo le aiole fiorite balzarono alla sua vista in tutta la loro gloria consolante respirò lord emsworth rapito e si fermò davanti a uno splendido tappeto di tulipani un uomo dall'aspetto ufficiale che indossava un berretto e un uniforme si fermò nell'udire l'esclamazione e lo guardò con approvazione e perfino con affetto bel tempo osservò lord emsworth non replicò non aveva udito c'è qualcosa in una bella iola di fiori che agisce sugli uomini che amano i loro giardini come una droga e lui era in una sorta di trance già aveva dimenticato completamente dove fosse e gli sembrava di essere tornato nel suo paradiso di blendings si avvicinò di un passo all'aiuola puntando come un setter l'approvazione dell'uomo dall'aspetto ufficiale crebbe quest'uomo dal berretto era il guardiano che aveva il diritto della giustizia alta bassa e mediana su quella sezione dei giardini anche lui amava queste aiole e sembrava vedere in lord emsworth un'anima affine il pubblico generale era troppo incline a passare avanti perso nei suoi affari e questo spesso feriva il guardiano del parco in lord emsworth pensò di riconoscere una persona del tipo giusto bel iniziò si interruppe con un grido acuto se non l'avesse visto coi suoi occhi non ci avrebbe creduto ma ahimè non c'era possibilità di errore con un terribile shock realizzò di essere stato ingannato da questo attraente sconosciuto decentemente vestito anche se un po in disordine pulito rispettabile all'apparenza lo straniero era in realtà un pericoloso criminale il tipo più malvagio di delinquente nella classifica del guardiano del parco era un raccoglitore dei fiori di kensington gardens perché mentre pronunciava la parola bell quell'uomo aveva superato con leggerezza la bassa gringhiera aveva camminato sulla striscia di prato e prima di poter dire tempo si era accinto al suo nero lavoro nel breve istante in cui le corde vocali del guardiano del parco avevano rifiutato di obbedirgli era due tulipani avanti nella sua caccia e aveva raggiunto il terzo ehi ruggì il guardiano ritrovando ad un tratto la parola ehi laggiù lord emsworth si girò con un sussulto benedetto me mormorò con rimprovero era ora in pieno possesso delle sue facoltà per quello che erano e comprendeva l'enormità della sua condotta ritornò sull'asfalto contrito mio caro amico iniziò pieno di rimorso il guardiano del parco iniziò a parlare rapidamente e a lungo di tanto in tanto lord emsworth muoveva le labbra e faceva gesti di scusa ma non poteva arginare la marea più sonoro e più retorico diventava il guardiano e più densa e più interessata era la folla rapidamente crescente di spettatori e poi nel fiume di parole parlò un'altra voce che cos'è tutto questo la forza si era materializzata sotto forma di un grosso e solido poliziotto il guardiano sembrò capire che era stato sopravanzato parlo ancora ma non più come un padre che rimproveri un figlio che sbaglia il suo atteggiamento ora era più quello di un fratello maggiore che chieda giustizia al padre contro un giovane delinquente in un passaggio commovente perorò la sua causa dice osservò il poliziotto giuridicamente parlando lentamente in maiuscole come se si rivolgesse a uno straniero privo di tutela dice che stavate cogliendo i fiori l'ho visto gli ero vicino come sono vicino a voi vi ha visto interpretò il poliziotto e vi era vicino lord emsworth si sentiva debole e sconvolto senza un pensiero di irritare o far male a chiunque sembrava aver scatenato le passioni spaventose di una rivoluzione francese e provava un senso di quanto fosse ingiusta questo tipo di cosa che stava accadendo a lui fra tutti un uomo che vacillava già sotto i tormenti di giobbe devo chiedervi nome indirizzo disse il poliziotto più rapidamente una matita spuntò per un attimo nella bocca severa e alleggiò ben inumidita sulla pagina vergine del suo tacquino quel terribile tacquino davanti a cui indietreggiano tassisti e tremano autisti di bus io io mio caro ragazzo voglio dire ufficiale io sono il conte di emsworth molto è stato scritto sulla psicologia delle masse volto a quanto straordinaria inesplicabile sia ma la maggior parte di questi scritti sono esagerati una folla in genere si comporta in un modo perfettamente naturale e intelligibile quando per esempio vede un uomo con un vestito di tweed stazzonato e un cappello di cui dovrebbe vergognarsi che viene fermato perché raccoglie fiori nel parco e l'uomo dice che è un conte e sa ride quella folla rise il poliziotto non si fermò per unirsi al divertimento della massa ma il suo labbro si arricciò sardonicamente avete un biglietto da visita a vostra signoria nessuno che conoscesse intimamente lord emsworth avrebbe fatto una domanda così sciocca il suo astuccio da biglietti da visita era la cosa che sempre perdeva per seconda quando veniva in visita a londra immediatamente dopo aver perso il suo ombrello io temo disse il poliziotto e la folla emise un'altra felice risata da iena così intensamente irritante che sua signoria sollevò la testa china e trovò abbastanza spirito da lanciare uno sguardo indignato e nel far così il suo sguardo spaventato sparì dai suoi occhi macallister esclamò due nuovi arrivi si erano appena uniti alla folla ed essendo di corporatura ossuta si erano già fatti largo tra i primi posti uno era un signore alto bello di aspetto autoritario che se non avesse portato degli occhiali senza montatura sarebbe sembrato un imperatore romano l'altro era più basso e più robusto con una vivace barba rossa macallister gemette pietosamente sua signoria macallister mio caro amico per favore dite a quest'uomo chi sono dopo quello che era accaduto tra lui e il suo ex datore di lavoro un uomo di minore statura di angus macallister avrebbe potuto vedere nella situazione di lord emsworth una semplice giustizia un uomo di minore magnanimità avrebbe pensato che gli veniva reso quello che si era meritato non così questo splendido cittadino di glasgow già disse è lord emsworth chi siete chiese in modo inquisitorio il poliziotto ero capo giardiniere al castello esattamente velò lord emsworth precisamente il mio capo giardiniere il poliziotto fu scosso lord emsworth poteva non sembrare un conte ma non si poteva negare il fatto che angus macallist era supremamente capo giardinieresco convinto ammiratore dell'aristocrazia il poliziotto capì che lo zelo gli aveva fatto fare qualche errore in questa crisi tuttavia si comportò contatto magistrale se la rifece con la folla interessata circolare prego circolare ordinò austeramente dovreste sapere che non si blocca il passaggio in un luogo pubblico circolare si mosse guidando la folla davanti a lui come un cane pastore l'imperatore romano con gli occhiali senza montatura avanzò verso lord emsworth tendendogli una grande mano piacere di conoscervi infine disse mi chiamo donaldson lord emsworth per un momento il nome non significò niente per sua signoria poi il suo significato lo colpì e si raddrizzò con fare altezzoso ci scuserete angus disse mister donaldson è da tempo che voi ed io dobbiamo avere un piccolo colloquio lord emsworth lord emsworth stava per parlare quando colse lo sguardo dell'altro erano occhi attenti fermi grigi con una forza curiosa in essi che ti faceva sentire stranamente inferiore c'è ogni ragione di credere che mister donaldson fosse stato abbonato per anni a questi corsi di personalità pubblicizzati nelle riviste che garantiscono a chi compri le prime dieci lezioni per corrispondenza la capacità di guardare il capo negli occhi e farlo vacillare mister donaldson guardò negli occhi lord emsworth e lord emsworth vacillò come state disse tepolmente ora ascoltate lord emsworth proseguì mister donaldson non c'è alcun senso nell'avere dei sentimenti ostili tra membri di una stessa famiglia penso che abbiate saputo a quest'ora che vostro figlio e mia figlia si sono sistemati personalmente ne sono felice quel ragazzo è un bravissimo ragazzo lord emsworth ammicò state parlando di mio figlio frederick disse incredulo di vostro figlio frederick ora al momento indubbiamente vi sentite un po ferito non vi biasimo avete ogni diritto di sentirvi irritato più di un giradito ma dovete ricordare sangue giovane sarane sono convinto un dolore costante per quello splendido giovanotto state sempre parlando di mio figlio frederick di frederick sì sarà dicevo un dolore costante per lui sapere che è in corso nel vostro risentimento dovete perdonarlo lord emsworth deve avere il vostro sostegno immagino che dovrà averlo dannazione disse sua signoria infelicemente non posso lasciarlo morire di fame la mano di mr donaldson fece un ampio e grandioso gesto non preoccupatevi di questo baderò io a questo aspetto non sono un uomo ricco disse lord emsworth piuttosto desolato c'era stato qualcosa nella larghezza dei modi dell'altro che gli aveva fatto nutrire delle speranze dubito continuò mr donaldson francamente perché era un uomo che credeva nella franchezza in queste cose di arrivare tutto considerato a circa 10 milioni lord emsworth vacillò come un virgulto alla brezza di 10 milioni 10 milioni avete detto 10 milioni di dollari tra 9 e 10 suppongo non di più dovete ricordare disse mr donaldson con un tocco di scusa che le condizioni sono cambiate moltissimo in america recentemente abbiamo passato tempi difficili veramente difficili molti dei miei amici sono stati colpiti più duramente di me ma le cose si stanno riprendendo sì sir si stanno riprendendo sono un fermo sostenitore del presidente roosevelt e del new deal sotto il new deal i cani americani stanno iniziando a mangiare più biscotti quello avrei dovuto dirlo è il mio campo io sono il donaldson dei biscotti per cani donaldson biscotti per cani donaldson davvero davvero pensa un po avete sentito parlare dei biscotti per cani donaldson chiese ansiosamente il proprietario mai disse lord emsworth cordialmente o bene io sono questo e come dicevo le cose si stanno riprendendo bene in tutto il paese i nostri venditori ci dicono che i cani americani stanno ricominciando ad essere sempre più consapevoli dei biscotti e quindi sono in una posizione con la vostra approvazione di offrire a freddry con lavoro fisso e probabilmente remunerativo propongo sempre col vostro consenso ovviamente di inviarlo a long island city per iniziare a imparare gli affari non ho dubbi che col tempo si rivelerà una risorsa per la ditta lord emsworth non riusciva a concepire alcun modo in cui freddi potesse essere una risorsa per una ditta di biscotti per cani ad eccezione forse che come assaggiatore ma si astenne dal freddare l'entusiasmo dell'altro dicendolo in ogni caso il pensiero di quel giovanotto che si guadagnava realmente da vivere e che lo faceva a 3000 miglia dal castello di blendix probabilmente lo avrebbe ammutolito sembra pieno di ingegno ma secondo me per poter fare del suo meglio e promuovere il biscotto donaldson come dovrebbe essere promosso deve sentire di avere il vostro sostegno morale lord emsworth il sostegno morale di suo padre sì 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 disse lord emsworth di cuore un senso di reale adorazione per mr donaldson lo stava pervadendo liberarsi di freddi cosa che non era riuscito a realizzare in 26 anni questo fabbricante di biscotti per cani simili a un dio lo aveva realizzato in meno di una settimana che uomo oh sì 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 disse lord emsworth sì davvero decisamente partono mercoledì ottimo la mattina presto splendido posso portargli un messaggio amichevole da parte vostra un messaggio paterno di perdono certamente 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 informate frederick che gli faccio i miei migliori auguri lo farò ditagli che guarderò i suoi futuri progressi con notevole interesse esattamente ditagli che spero che lavorerà sodo e che si farà un nome proprio così e concluse lord emsworth parlando con una serietà paterna bene in tono con quel momento solenne ditagli di non affrettarsi a tornare a casa strinse la mano di mr donaldson con sentimenti troppo profondi per parlare ancora poi corse velocemente nel punto in cui stava angus mccallister davanti all'aiola di tulipani mccallister la barba del capo giardiniere oscillò occupamente guardò il suo ex datore di lavoro con occhi freddi non è mai difficile distinguere tra uno scozzese cupo e un raggio di sole e lord emsworth che osservava l'uomo arcigno poteva vedere con un'occhiata in quale delle due categorie cadeva angus mccallister la sua lingua sembrava appiccicata al palato ma si costrinse a parlare mccallister desidero mi chiedo cosa mi chiedo desidero voglio dire balbettò milmente lord emsworth avete per caso già accettato un lavoro ne sto considerando due tornate da me implorò sua signoria con la voce rotta robert barker è peggio di niente tornate da me angus mccallister osservò rigidamente i tulipani lo farò disse alla fine tornerete esclamò lord emsworth gioiosamente splendido ottimo eccellente non ho detto che tornerò ho pensato che abbiate detto lo farò disse sua signoria confuso non ho detto lo farò ho detto lo farei disse rigidamente mister mccallister vuol dire forse sì forse no lord emsworth posò una mano tremante sulla sua spalla mccallister vi aumenterò lo stipendio la barba si torse dannazione e ve lo raddoppierò le sopracciglia vibrarono mccallister angus disse lord emsworth a voce bassa tornate la zucca ha bisogno di voi in un'epoca impegnata e frettolosa come quella di oggi un'epoca in cui ci sono innumerevoli impegni nel tempo di ognuno è possibile che qua e là nei ranghi di quelli che hanno letto questa cronaca ce ne possano essere uno o due che per varie ragioni si sono scoperti incapaci di assistere all'ultima fiera agricola di shrewsbury per questi vanno aggiunti alcune parole ser gregory parslow parslow di matchingham hall c'era ovviamente ma non sarebbe sfuggito all'attenzione di un attento osservatore che il suo contegno mancava di quell'arroganza saltezzosa che lo aveva caratterizzato in altri anni di tanto in tanto mentre camminava nel tendone dedicato all'esibizione degli ortaggi lo si sarebbe potuto vedere mordersi il labbro e gli occhi avevano qualcosa di quello sguardo meditabondo che doveva aver avuto napoleone a waterloo ma c'era della buona stoffa in ser gregory era un gentiluomo e uno sportivo nella tradizione dei parslow non c'era niente di piccolo o meschino a metà del tendone si fermò e con un rapido gesto virile tese la mano mi congratulo con voi emsworth disse con voce roca lord emsworth alzò lo sguardo con un sussulto era immerso nei suoi pensieri eh oh grazie grazie mio caro amico grazie 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 mille esitò em non possiamo vincere entrambi eh ser gregory ci pensò e capì che aveva ragione no disse no capisco cosa volete dire non possiamo vincere entrambi indubbiamente a noi e passò oltre con chissà quali avvoltoi che gli rodevano il petto e lord emsworth con angus mccallister che era stato un silenzioso e barbuto testimone della scena al suo fianco si voltò ancora una volta a guardare con riverenza quello che giaceva sul fondo ricoperto di paglia di una delle cassette più grosse mai viste nella città di shrewsbury un cartello era stato attaccato all'esterno della cassetta recava la semplice scritta zucche primo premio lord emsworth agisce per il meglio la stanza della governante al castello di blendings quartier generale dello staff domestico che sovveniva ai bisogni del conte di emsworth era in circostanze normali un appartamento piacevole e allegro accoglieva il sole del pomeriggio e la carta che ricopriva le pareti era stata concepita in un umore gioviale da qualcuno che riteneva che l'occhio umano posandosi su 97 simultanei uccelli rosa appollaiati su 97 cespugli azzurri di rose non poteva non esserne gradevolmente stimolato e rinfrescato pure con l'ingresso di beach il maggiordomo era come se si fosse insinuato nella sua atmosfera un freddo squallore e mrs twemlow la governante posò il suo lavoro a maglia e lo guardò allarmata c'è qualcosa che non va mr beach il maggiordomo guardò meditabondo dalla finestra la faccia era tirata e respirava pesantemente come un uomo che stia soffrendo per una combinazione di emozioni forti e adenoidi un raggio di sole che stava avanzando baldanzosamente lungo il tappeto vide la sua faccia e scomparve abbattuto sono giunto a una decisione mrs twemlow a che riguardo da quando sua signoria ha iniziato a farsela crescere ci ho visto sempre più chiaro e ora ho deciso quando sua signoria tornerà da londra darò le dimissioni 18 anni ho servito nella famiglia di sua signoria cominciando come sotto la che e arrivando alla mia attuale posizione ma ora è giunta la fine non vorrete dire che ve ne andate solo perché sua signoria si è fatto crescere una barba è l'unico modo mrs twemlow quella barba sta indebolendo la posizione di sua signoria nell'intera campagna sapete che all'ultima scuola domenicale ha udito gridare castoro no sì e questo spirito beffardo e di mancanza di rispetto si diffonderà e ancor peggio quella barba gli sta alienando ai migliori elementi della contea ho visto ser gregory parslo parslo guardarla fisso mentre pranzava con noi venerdì scorso non è una bella barba ammise la governante non lo è e sua signoria deve esserne informato finché rimango al suo servizio è impossibile per me parlare perciò darò le mie dimissioni una volta fatto le mie labbra non saranno più sigillate e pane tostato e imburrato quello sotto quel piatto mrs twemlow sì mister bice prendete una fetta vi tirerà su tirarmi su disse il maggiordomo con una risata cupa che suonava come un rintucco funebre fu una fortuna che lord emsward seduto nel momento in cui si svolgeva questa conversazione nel salotto da fumo del senior conservative club di londra non sospettasse la suprema calamità che stava per cadergli addosso perché aveva già molte cose in mente negli ultimi pochi giorni in vero tutto sembrava essere andato storto angus mccallister il suo capo giardiniere aveva riferito un'importante invasione di pidocchi nelle rose una mucca favorita e rispettata che immaginava di far partecipare al prossimo concorso delle mucche dal latte jersey aveva contratto una misteriosa malattia che stava sfidando le capacità del veterinario locale e per finire era arrivato un telegramma dal figlio minore di sua signoria l'onorevole frederick tripwood che annunciava che era tornato in inghilterra e voleva vedere immediatamente suo padre questo sentiva lord emsward mentre guardava attorno a sé gruppetti di felici conservatori senior era l'evento più sgradevole di tutti che cosa mai faceva freddy in inghilterra otto mesi prima aveva sposato l'unica figlia dei biscotti per cani donaldson di long island city negli stati uniti d'america e proprio a long island city ora avrebbe dovuto trovarsi a promuovere i migliori interessi dell'industria dei biscotti per cani invece era a londra e secondo il suo telegramma nei guai lord emsward si passò una mano sul mento per aiutarsi a pensare e fu vagamente irritato da qualche ostacolo che si insinuava nel percorso delle sue dita concentrando le sue facoltà per quello che erano su questo ostacolo scoprì essere la sua barba lo irritò fino a quel momento nelle situazioni di stress aveva sempre tratto conforto dalla sensazione di un mento liscio gli sembrava ora di passare la mano tra le alghe e ingiustamente perché certamente non era per colpa di quel giovane che si era fatto crescere la barba provò del risentimento verso l'onorevole freddy fu in quel momento che vide suo figlio avvicinarsi attraversando la stanza da fumo salve capo disse freddy ebbene frederick disse lord emsward seguì un silenzio freddy stava ricordando che non incontrava suo padre dal giorno in cui gli aveva fatto scivolare in mano un biglietto che gli annunciava il suo matrimonio con una ragazza che lord emsward non aveva mai visto se non una volta attraverso un telescopio quando lui freddy la stava baciando nel parco del castello di blendings lord emsward dal canto suo stava meditando su quella frase nei guai che aveva formato una parte così importante del telegramma di suo figlio per 15 anni aveva aiutato freddy con riluttanza ad uscire dai guai e ora quando sembrava che gli fosse stato tolto dalle spalle per sempre stava ricominciando tutto da capo siediti disse in modo petulante freddy stava in piedi su una gamba sola e questo atteggiamento forzato irritava lord emsward va bene disse freddy prendendo una sedia dico capo a quando la mietitura cosa la barba quasi non ti riconoscevo un altro spasmo di irritazione percorse sua signoria non preoccuparti della mia barba se non importa a te disse freddy cordialmente è stato dannatamente buono da parte tua a capo precipitarti così in città sono venuto perché nel tuo telegramma hai detto che eri nei guai inglese disse freddy con approvazione molto inglese anche se non riesco a immaginare che tipo di guai non saranno di nuovo problemi di soldi o no non soldi fosse stato tutto lì mi sarei rivolto al bravo suocero il vecchio donaldson è un asso pensa un gran bene di me davvero ho incontrato mister donaldson solo una volta ma mi è parso un uomo di gran discernimento è quello che dico anche io lui pensa che io sia uno splendore se fosse semplicemente una questione di un po di contanti potrei averne da lui in un attimo ma non sono i soldi il problema e eggi mia moglie e sai ebbene mi ha lasciato ti ha lasciato assolutamente scomparsa con un biglietto sul puntaspilli ora sta al sa voi e non vuole che mi avvicini e io sono in un appartamento in king street a rodermi il vecchio cuore se capisci cosa intendo lord emsworth emise un profondo sospiro osservava tristemente suo figlio meravigliandosi che un giovane anche uno specialista come suo figlio freddi avesse il potere di distruggere così abilmente i suoi affari per un vero miracolo questo suo figlio era riuscito a convincere la figlia di un milionario a sposarlo e ora sembrava che l'avesse fatta andar via anni prima quando era ragazzo e romantico come la maggior parte dei ragazzi sua signoria aveva un po rimpianto che gli emsworth anche se un clan antico non possedessero una maledizione di famiglia certo non sospettava che ne sarebbe diventato il padre la colpa disse con voce priva di intonazione immagino che sia stata tua in un certo senso sì ma che cosa è accaduto precisamente ebbene è andata così capo sai come mi sia sempre piaciuto il cinema vado a vedere tutti i film che posso eccetera ebbene una notte ero sveglio e improvvisamente ho avuto l'idea di una sceneggiatura mia ed era anche dannatamente buona era di un pover uomo che aveva un incidente e i tipi all'ospedale gli dicevano che un'operazione era l'unica cosa che poteva salvarlo ma lo operavano solo se gli dava 500 dollari di anticipo e lui non aveva 500 dollari perciò sua moglie abborda un milionario ma che cos'è chiese lord emsworth questa idiozia idiozia capo disse freddy ferito ti sto solo raccontando la mia sceneggiatura non ho nessun desiderio di sentirla quello che sono ansioso di sapere in poche parole se possibile è la ragione della rottura tra te e tua moglie te la sto dicendo è tutto partito con questa sceneggiatura quando l'avevo scritta naturalmente volevo venderla a qualcuno e proprio allora pauline petit è venuta a destra e ha preso una casa a grit neck e un mio amico mi ha presentato a lei chi è pauline petit santo cielo capo freddy sgranò gli occhi stupito non vuoi dire che stai qui a dirmi che non hai mai sentito parlare di pauline petit la stella del cinema non hai visto schiavi della passione no neanche catene di seta mai né passione viola né lacci dorati né seduzione grande scott capo non hai vissuto e allora questa donna ebbene un tipo mi ha presentato a lei vedi e io ho iniziato a spianare la strada perché si interessasse a questa mia sceneggiatura perché se le piaceva ovviamente voleva dire tutto ebbene questo piano voleva dire vederla molto spesso capisci e una sera è accaduto che jay nyork ci ha incontrato mentre mangiavamo qualcosa in un posto buon dio o era una cosa perfettamente rispettabile capo tutto strettamente in regola solo una relazione d'affari ma il guaio è che io avevo nascosto la cosa ad eggi perché volevo sorprenderla volevo poter andare da lei con la sceneggiatura accettata e dirle che non era uno stupido come sembravo qualsiasi donna capace di crederlo e sfortunatamente le avevo detto che dovevo andare a chicago quella sera per affari perciò una cosa tira l'altra ebbene come ho detto ora lei è al savoy e io chi è jay nyork un cipiglio oscurò i lineamenti sereni di freddy un impiastro capo uno dei peggiori una gebusea e una malicita se non fosse stato per lei credo che avrei sistemato la cosa ma lei si è impadronita di eggi e l'ha suggestionata e le ha intossicato la mente questa donna capo ha un fratello nello sfondo e voleva che eggi sposasse suo fratello e io credo che stia inducendo eggi ad andare a parigi e a divorziare per poter dare un'altra occasione a quel disgraziato fratello dannazione a lui così ora capo è il momento dell'azione ora è il momento di darsi da fare come mai prima conto su di te io cosa diavolo ti aspetti che faccia beh andare da lei e implorarla nei film lo fanno sempre ho visto migliaia di film in cui il vecchio padre canuto idiozie e sciocchezze disse lord emsworth colpito nel suo punto debole perché come tanti uomini prestanti nell'età matura aveva l'impressione di essere appena brizzolato hai fatto il tuo brodo e ora ci devi bollire eh voglio dire te la devi cavare da solo ti sei creato da solo questo guaio col tuo comportamento idiota e devi accettarne le conseguenze vuoi dire che non vuoi andare a implorare no vuoi dire di sì voglio dire di no non vuoi implorare disse freddi desiderando chiarire il concetto rifiuto di farmi trascinare nella faccenda non vuoi nemmeno darle un colpo di telefono no o su capo si sportivo la sua stanza la 67 puoi andare da lei in un attimo e difendere la mia causa tutto al prezzo di due pens facci un salto no freddi si alzò con una faccia tirata benissimo disse teso allora posso benissimo dirti capo che la mia vita tanto vale sia finita il futuro non ha niente in servo per me sono un relitto se egiva a parigi e divorzia mi ritirerò in qualche posto tranquillo e passerò là gli anni che restano della mia esistenza dal relitto addio capo addio oi oi disse freddi tristemente come regola generale lord emsworth dormiva presto e sodo e una delle poche qualità che condivideva con napoleone bonaparte era di addormentarsi nel momento stesso in cui toccava il cuscino ma quella sera appesantito dai suoi guai aspirò in vano all'incoscienza e in qualche momento nelle ore piccole del mattino si sedette nel letto tremante gli era giunto un improvviso orribile pensiero freddi aveva detto che nell'evento che sua moglie ottenesse il divorzio si proponeva di ritirarsi per il resto della sua vita in qualche posto tranquillo e se avesse inteso con le parole posto tranquillo il castello di blendings la possibilità faceva tremare lord emsworth come un attacco di malaria freddi aveva visitato blendings per lunghi periodi prima di allora ed era una ben meditata opinione di sua signoria che il ragazzo fosse una minaccia peggiore alla vita felice dell'inghilterra rurale che non i pidocchio l'alfa epizotica la prospettiva di averlo a blendings per un tempo indefinito colpiva lord emsworth come una botta alla base del cranio si aprì una linea di pensiero interamente nuova nel suo recente colloquio si chiese era stato gentile come avrebbe dovuto essere non era stato forse un po duro non aveva forse mancato di un filo di simpatia aveva assolto il suo ruolo di padre come avrebbe dovuto le risposte alle domande nell'ordine detto erano le seguenti no sì sì no svegliatosi dopo un sonno tardivo e sorseggiando il suo primo tè lord emsworth si scoprì pieno di una nuova decisione aveva cambiato idea era sua intenzione andare ora da sua nuora e implorarla come nessun suocero aveva mai implorato fino a quel momento un uomo che ha avuto una notte disturbata non è al suo meglio nella mattina successiva fino a dopo pranzo lord emsworth si sentì troppo intorpidito per essere un buon imploratore ma una visita ai fiori di kensington gardens seguita da una fantastica costoletta e da mezza bottiglia di chiaretto al regent grill lo misero in forma eccellente il torpore era svanito e si sentiva di spirito pronto e allerta e infatti arrivando al savoy hotel si comportò con un'astuzia di cui non si sarebbe sospettato capace fino ad allora sul punto di dare il suo nome all'impiegato della reception si fermò poteva benessere riflette che questa sua nuora includendo l'intera famiglia emsworth nella sua faida se avesse saputo che la stava aspettando di sotto avrebbe distrutto l'intero programma rifiutandosi di vederlo meglio decise non rischiare allontanatosi dal banco si diresse all'ascensore e poi si trovò fuori della suite 67 batte sulla porta non ci fu risposta batte di nuovo e non ricevendo ancora nessuna risposta si sentì un po sopraffatto non era un uomo molto previdente e la possibilità che sua nuora potesse non essere in casa non gli era passata per la mente stava per andar via quando sbirciando la porta vide che era socchiusa la spinse e entrato si trovò in un bel salottino colmo come sono inclini ad esserlo le stanze femminili di fiori di ogni tipo i fiori erano sempre un magnete per lord emsworth e per qualche felice minuto si spostò da un vaso di fiori all'altro annusando fu dopo aver annusato forse per la ventesima volta che ebbe l'impressione che la stanza contenesse una curiosa eco era come se ogni volta che annusava anche qualche altra persona stesse annusando eppure il posto sembrava vuoto per sottomettere l'acustica ad un test finale sua signoria annusò ancora una volta ma stavolta il suono che seguì aveva un carattere più sinistro suonava per lord emsworth esattamente come un ringhio era un ringhio dando un'occhiata verso il pavimento si accorse immediatamente che vicino alle sue caviglie c'era quello che a prima vista sembrava un manicotto per signora ma essendo questo uno dei suoi pomeriggi di acume mentale realizzò un attimo dopo che non era un manicotto ma un cane giocattolo del tipo che le donne sono fin troppo inclini a lasciare nei loro salotti che dio mi benedica esclamò lord emsworth raccomandando piamente la sua salvezza al cielo come tanti dei suoi più rudi antenati avevano fatto in simili circostanze sui campi di battaglia del medioevo arretrò a disagio il cane lo seguì sembrava non avere gambe ma muoversi solo per fede allontanatevi sir disse lord emsworth odiava i cani piccoli lo mordevano perdeteli di vista un attimo e vi afferrano alla caviglia prima di accorgervene scoprendo che le sue manovre lo avevano portato a una porta decise di rifugiarvisi aprì la porta e vi scivolò attraverso buon sangue non mente un emsworth si era rifugiato in modo simile ad agent court si trovava ora in una camera dal letto e a giudicare dallo stato delle cose era probabile che ci restasse per un po il cane lanoso beffato da un'intelligenza superiore non stava ora facendo alcun tentativo di nascondere il suo dolore aveva gettato via ogni pretesa di neutralità armata e stava latrando con spaventosa intensità e timbro stridulo e ogni tanto grattava con fuori impotente i pannelli inferiori della porta allontanatevi sir tuonò sua signoria che c'è lord emsworth fece un salto era talmente convinto del fatto che quelle stanze fossero disabitate che la voce esprimendosi dove non avrebbe dovuto esserci alcuna voce colpì i suoi centri nervosi come una bomba chi c'è il mistero che aveva iniziato ad assumere un aspetto soprannaturale fu sciolto dall'altra parte della stanza c'era una porta ed era da dietro quella porta che la voce parlava venne in mente lord emsworth che faceva parte semplicemente della generale malignità del fato che avesse scelto per una formale visita di suocero alla nuora il momento in cui lei stava facendo il bagno si avvicinò alla porta e parlò con voce sua dente vi prego di non allarmarvi mia cara chi siete cosa state facendo nella mia stanza non c'è motivo di allarmà si interruppe bruscamente perché le sue parole si erano rivelate fondamentalmente non vere c'era motivo di allarmarsi la porta della camera da letto si era aperta e il cane simile al manicotto latrando odio stava dirigendosi nella sua particolare andatura senza gambe verso le sue caviglie il pericolo suscita insospettate qualità in ogni uomo lord emsworth non era un acrobata professionista ma il salto che fece in questa crisi avrebbe giustificato il fatto che lo si ritenesse tale volteggiò in aria come un uccello che torna al nido da dove si trovava il letto era ad una notevole distanza ma lo raggiunse anche con qualche pollice di vantaggio e restò là tremante sotto di lui il cane lanoso rugiva come l'oceano alla base di una scogliera fu a questo punto che sua signoria si accorse di una giovane donna che stava in piedi sulla soglia attraverso cui era appena passato in questa donna c'erano vari punti che avrebbero trovato poco favore agli occhi di un esperto di fascino femminile era troppo bassa troppo quadrata e troppo solida aveva un mento troppo determinato e i suoi capelli erano di una sgradevole tinta rossastra ma la cosa che a lord emsworth piacque meno di lei fu la pistola che stava puntando alla sua testa chi c'è è un uomo disse la ragazza dietro la pistola so che un uomo mi ha parlato chi è non lo so un tipo di aspetto malvagio l'ho visto ciondolare nel corridoio di fronte alla tua porta allora ho preso la pistola e sono venuta vieni fuori non posso sono tutta bagnata non è facile per un uomo che in piedi sul letto con le mani in alto recuperare la sua dignità ma lord emsworth fece il meglio che poter mia cara signora cosa state facendo qui ho trovato la porta socchiusa e siete entrato per vedere se c'erano cassette di gioielli socchiuse anche credo aggiunse la giovane donna alzando la voce per farsi udire meglio dall'invisibile bagnante credo che sia dopy smith chi dopy smith il tipo che la polizia ha detto che cercava di rubare i tuoi gioielli a new york deve averti seguito fin qui non sono dopy smith signora esclamò sua signoria io sono il conte di emsworth davvero sì sì lo siete sono venuto a trovare mia nuora ebbene eccola la porta del bagno si aprì e ne emerse un'affascinante figura drappeggiata in un kimono anche in quel momento teso lord emsworth provò uno stupore sterrefatto al pensiero che una tale ragazza si fosse mai abbassata a sposare suo figlio frederick chi hai detto che era chiese raccomandandosi ancora di più nella stima di sua signoria chinandosi a prendere il cane lanoso per tenerlo al sicuro nelle braccia dice che è il conte di emsworth io sono il conte di emsworth la ragazza col kimono l'osservò attentamente mentre lui scendeva dal letto sai jane disse con una nota di incertezza nella voce potrebbe essere somiglia molto a freddy l'orribile insulto sul suo aspetto personale ha muto lì lord emsworth come altri uomini aveva avuto dei momenti neri quando il suo aspetto non lo soddisfaceva completamente ma non aveva mai supposto di avere una faccia simile a quella di freddy la ragazza con la pistola emise un'esclamazione stupefatta benedetto il cielo gridò non vedi vedo cosa ebbene è freddy mascherato cerca di raggiungerti in questo modo è proprio il tipo di mossa scenica che riterrebbe furba levatela ralf andeler ti riconosco tesa una mano afferrò la barba di sua signoria in una morsa maligna e tirò con tutte le forze di una ragazza moderna allenata a giocare fin dall'infanzia a hockey tennis ed esercizi svedesi non era passato in mente al lord emsworth un momento prima che qualcosa avrebbe potuto rendere la sua situazione più sgradevole di quanto non fosse già capì ora di essersi sbagliato un'agonia superiore ai suoi più vivi sogni fiammeggiò per tutto il suo corpo che si ritraeva la ragazza lo guardò con uno sguardo un po frustrato disse delusa sembra vera a meno che continuò con un tono più ottimista non sia stata fissata con una colla speciale o qualcosa del genere sarà meglio che riprovi no non farlo disse la nuora di sua signoria non è freddi l'avrei riconosciuto subito allora è un ladro dopo tutto mettiti in quell'armadio george mentre telefono per un poliziotto lord emsworth fece alcuni passi di danza non entrerò in armadi insisto per essere ascoltato non so chi sia questa donna il mio nome è jane york se siete curioso ah la donna che intossica la moglie di mio figlio contro di lui so tutto di voi si rivolse alla ragazza col kimono ieri mio figlio frederick mi ha implorato con un telegramma di venire a londra l'ho visto al mio club fate smettere di abbaiare quel cane perché non dovrebbe abbaiare disse miss york e a casa sua mi ha detto proseguì lord emsworth alzando la voce che c'era stato un piccolo frainteso tra voi un piccolo frainteso questa è buona disse miss york ha pranzato con quella donna per un motivo e non appena li ho visti disse miss york ho capito quale fosse quel motivo l'onorevole mrs trippwood guardò la sua amica incerta credo che sia vero disse e che sia davvero lord emsworth sembra sapere tutto quello che è accaduto come potrebbe saperlo se freddy non glielo avesse detto se questo tipo è un ladro d'oltreoceano è certo che lo saprebbe la cosa era sul broadway whispers e su town gossip no ma comunque il telefono suonò vivacemente vi assicuro iniziò lord emsworth bene disse la sgradevole miss york al ricevitore mandatelo su guardò sua signoria con un occhio trionfante siete sfortunato amico mio disse lord emsworth è appena arrivato e sta salendo ci sono certe situazioni in cui il cervello umano può essere scusato se vacilla quello di lord emsworth non vacillò veramente piuttosto si mise a danzare come se fosse a rischio di staccarsi da sempre egli uomo sognatore distratto non adatto al vortice della vita aveva subito quel pomeriggio un calvario che avrebbe potuto sconvolgere persone più pratiche e questo annuncio straordinario che arrivava a concludere tutto quello che aveva passato era troppo per lui caracollò nel salotto e si lasciò cadere su una sedia gli sembrava di vivere in un incubo e certamente nella figura che entrò alcuni momenti dopo non c'era niente che correggesse quest'impressione avrebbe tranquillamente potuto entrare in un incubo di chiunque sentendosi perfettamente a suo agio fin dall'inizio la figura era quella di un uomo alto e magro con capelli bianchi e una lunga barba fluente della stessa tinta venerabile per quanto sembrasse strano che a una persona di tale aspetto non avessero sparato a vista all'inizio della sua carriera essa aveva ovviamente raggiunto un'età molto avanzata era o un uomo di circa 150 anni che era piuttosto giovane per la sua età o un uomo di 110 anni che sembrava più vecchio a causa dei suoi guai mia cara bambina tubò la figura con voce fiacca e tremante freddi gridò la ragazza col kimono o dannazione disse la figura ci fu una pausa rotta da una sorta di gemito proveniente da lord emsworth ad ogni minuto che passava sua signoria si sentiva sempre più sfinito buon dio capo disse la figura vedendolo sua moglie indicò lord emsworth freddi questo è tuo padre o sì direi ovviamente assolutamente ma ha detto che non sarebbe venuto ho cambiato idea disse lord emsworth con voce bassa e abbattuta te lo avevo detto jane disse la ragazza ho sempre pensato che fosse lord emsworth certamente ora vedi la somiglianza una specie di lamento sfuggì a sua signoria davvero sembrò così disse con voce rotta guardò ancora una volta suo figlio e chiuse gli occhi ebbene disse miss york col suo detestabile modo pratico volgendo la sua personalità dominante sul nuovo venuto ora che siete qui freddi tripwood vestito da babbo natale qual è l'idea e g vi aveva detto di non avvicinarvi mai più a lei un giovane della sua innata debolezza di carattere si sarebbe ritirato disfatto davanti a questo attacco ma l'amore aveva apparentemente reso freddi tripwood un uomo d'acciaio toltosi la barba e le sopracciglia diresse uno sguardo raggelante a miss york non voglio parlare con voi disse siete un serpente in seno voglio dire è un serpente nell'erba o davvero sì lo siete avvelenate la mente di edgy contro di me se non fosse stato per voi avrei potuto parlarle da sola e raccontarle la mia storia da uomo a uomo ebbene sentiamola ora avete avuto molto tempo per provarla freddi si voltò verso sua moglie con un ampio gesto io si fermò dico edgy vecchia mia stai benissimo con quel chimono andate al punto disse miss york questo è il punto disse mrs freddi non senza una certa dolcezza ma se pensi che stia benissimo perché va in giro con attrici del cinema con capelli color carota rosso dorato suggerì freddi con deferenza carota carota sia hai assolutamente ragione non mi sono mai piaciuti allora perché ci stavi pranzando insieme sì perché chiese miss york vorrei che non vi mischiaste disse freddi con petulanza non sto parlando con voi potreste anche per quel che ci guadagnate stai tranquilla jane ebbene freddi edgy disse l'onorevole freddi è andata così non credere mai ad un uomo che comincia una storia in quel modo disse miss york per favore stai tranquilla jane sì freddi stavo cercando di vendere a quella femmina color carota una sceneggiatura e te lo stavo tenendo nascosto perché volevo che fosse una sorpresa freddi tesoro era davvero così non vorrei dirmi iniziò miss york incredula assolutamente e per tenermi in contatto con la donna che posso benissimo dire mi disgustava profondamente fin dall'inizio ho dovuto lisciarla un po di tanto in tanto ovviamente lo devi fare con questa gente naturalmente fa tutta la differenza se gli fai mangiare qualcosina che la prepari a sentire parlare di affari tutta la differenza miss york che sembrava aver temporaneamente perso il fiato lo ritrovò non vorrei dirmi esclamò voltandosi in una sorta di folle disperazione verso la moglie offesa che davvero credi a questa bufala ovviamente ci crede disse freddi vero tesoro certo dolcezza e inoltre disse freddi estraendo dalla sua tasca anteriore una carta colorata con l'aria di chitti rifuori dalla manica un asso in più che fa tutta la differenza in una partita combattuta canitamente posso provarlo qui c'è un telegramma che mi è arrivato stamattina dalla super ultra art film company che mi offre mille dollari per la sceneggiatura perciò un'altra volta ti asterrai dal giudicare i tuoi simili alla luce bestiale della tua immaginazione sì disse sua moglie devo dire jane che hai combinato un vero pasticcio in futuro vorrei che smettessi di mischiarti negli affari degli altri ben detto disse freddi con un buon senso non poco luminoso e posso aggiungere se vuoi sapere la mia opinione disse miss york penso che sia un falso cosa è un falso quel telegramma cosa volete dire un falso esclamò freddi indignato leggetelo voi stessa è facilissimo ricevere telegrammi spediti da un amico a new york che vi mandi il telegramma non capisco disse freddi sconcertato io sì disse sua moglie e nei suoi occhi brillava la luce che brilla solo negli occhi delle mogli che essendosi bevuta la storia del marito si risentono delle critiche distruttive di altri e non voglio più vederti jane york anche io assenti freddi in turchia infilerebbero una ragazza così in un sacco e la butterebbero nel bosforo potrei anche andarci disse miss york e non tornate disse freddi la porta è dietro di voi la specie di trance che aveva tenuto nella sua presa lord emsworth durante i precedenti scambi di conversazione stava svanendo e ora vedendo che miss york sembrava essere poco popolare al resto della compagnia quanto a lui stesso egli ritornò gradualmente in vita la sua ripresa fu facilitata dallo sbatter della porta e dallo spettacolo di suo figlio freddi che stringeva fra le braccia una moglie che sua signoria non aveva dimenticato era la figlia di probabilmente l'unico milionario vivente che aveva preso quella deliziosa decisione di toglierli freddi dalle spalle il che era agli occhi di lord emsworth la qualità più nobile che un milionario potesse possedere si tirò su a sedere e amicò debolmente anche se si sentiva molto meglio era ancora debole di che cosa parlava la tua sceneggiatura tesoro chiese miss ys freddi te lo dirò faccia d'angelo oppure dobbiamo rimettere in piedi il capo sembra un po sottotono meglio lasciarlo riposare per un po quella jane york l'ha scombussolato scombussolerebbe chiunque se c'è una persona che metterei in guardina è la piaga che si mette tra marito e moglie non è giusto voglio dire mettersi tra un uomo e sua moglie la mia sceneggiatura riguarda un uomo e sua moglie questo cove capisci è un poveraccio non ha soldi se capisci cosa voglio dire e ha un incidente e i tipi dell'ospedale dicono che non lo opereranno a meno che non gli paghi un anticipo di 500 dollari ma dove trovarli capisci la situazione oh sì forte no terribilmente forte ebbene non è niente rispetto a quello che accade dopo la moglie del tipo abborda un milionario se lo porta in casa e si fa promettere di darle i soldi nel frattempo scena del dottore al telefono e lei ride per non far capire al milionario che il suo cuore sta sanguinando per quello che le dice il dottore dimenticavo di dirti che il tipo doveva essere operato immediatamente oppure avrebbe tirato il calzino drammatico è terribilmente ebbene il milionario chiede di avere qualcosa in cambio dei dollari ho pensato di chiamare il film il prezzo di una donna splendido e ora viene la scena madre entrano in camera dal letto e oh salve capo ti senti meglio lord emsworth si era alzato stava barcollando un po mentre si avvicinava loro ma la mente era tranquilla molto meglio grazie conosci mia moglie vero oh lord emsworth disse mrs freddy mi dispiace così tanto non avrei voluto per niente al mondo che tutto questo fosse accaduto ma lord emsworth le batte sulla mano paternamente ancora una volta era sopraffatto dallo stupore per il fatto che suo figlio frederick fosse stato capace di conquistare il cuore di una ragazza così bella così comprensiva così straordinariamente ricca la colpa è stata tutta mia mia cara bambina ma si fermò qualcosa lo stava evidentemente angustiando ditemi quando frederick portava quella barba quando frederick era era quando portava quella barba davvero mi somigliava oh sì molto grazie mia cara era tutto quello che volevo sapere ora vi lascerò vorrete restare soli dovete venire a blendings mia cara bambina alla prima occasione uscì pensosamente dalla stanza questo hotel chiese al ragazzo dell'ascensore ha per caso un negozio di barbiere sì sir potete dirmi dove devo andare disse sua signoria lord emsworth sedeva nella sua biblioteca al castello di blendings bevendo quell'ultimo rilassante whisky and soda del giorno dalla finestra aperta aggiungevano il profumo dei fiori e i piccoli rumori della notte estiva avrebbe dovuto essere completamente tranquillo perché molto era accaduto dal suo ritorno per addolcire la sua vita angus mccallister gli aveva riferito che i pidocchi stavano cedendo al trattamento col petrolio e la mucca malata era improvvisamente migliorata e l'ultimo rapporto diceva che si era alzata e si stava nutriendo con qualcosa del vecchio appetito inoltre mentre si accarezzava il mento liscio sua signoria si sentiva un uomo migliore più leggero come se qualche fardello fosse caduto dalle sue spalle eppure mentre sedeva lì la sua fronte era un po' aggrottata suonò il campanello mi lord lord emsworth guardò il suo fedele maggiordomo con apprezzamento beach si trovava al castello da un tempo dannatamente lungo e ci sarebbe indubbiamente rimasto per molti anni a venire un bravo tipo a lord emsworth era piaciuto il modo in cui lo sguardo dell'altro si era acceso al suo ritorno come se la vista del suo datore di lavoro gli avesse tolto un peso dalla mente oh beach disse sua signoria gentilmente prenotate una chiamata a londra al telefono benissimo mi lord chiamate la suite numero 67 al savoy hotel e parlate a mister frederick si vostra signoria ditegli che desidero in particolare sapere come finiva quella sua sceneggiatura sceneggiatura vostra signoria sceneggiatura benissimo mi lord lord emsworth ritornò le sue fantasticherie passò del tempo il maggiordomo tornò ho parlato con mister frederick vostra signoria sì mi ha detto di presentare a vostra signoria i suoi migliori auguri e di dirvi che quando il milionario e la moglie di mister cove sono entrati nella camera dal letto c'era un giaguaro nero legato ai piedi del letto un giaguaro un giaguaro vostra signoria mrs cove diceva che doveva proteggere il suo onore per cui il milionario toccato da questo le diede i soldi e cantarono insieme la theme song in un duetto mister cove si riprese in modo soddisfacente dopo la sua operazione vostra signoria disse lord emsworth esalando un profondo respiro grazie beach è tutto pig hu 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 e i grazie alla pubblicità data la cosa dal the bridge north shifnal e albrighton argus in cui sono inclusi il compendio dei coltivatori di grano e la gazzetta degli allevatori di bestiame tutto il mondo oggi sa che la medaglia d'argento nella classe dei maiali grassi alla 87esima fiera agricola annuale di shropshire fu vinta dalla scrofa nera del berkshire del conte di emsworth l'imperatrice di blendings pochissime persone tuttavia sanno quanto quello splendido animale rischiò di perdere quell'ambito onore ora può essere raccontato questo breve capitolo della storia segreta si può dire che sia cominciato la sera del 18 di luglio quando george cyril well beloved di 29 anni guardiano dei porci impiegato da lord emsworth fu arrestato dall'agente evans di market blendings per ubriachezza e disturbo nella sala del capra e piume il 19 luglio dopo essersi prima offerto di scusarsi poi di spiegare che era il suo compleanno e finalmente avendo tentato di offrire un alibi george cyril fu appropriatamente condannato a 14 giorni senza l'opzione di una multa il 20 luglio l'imperatrice di blendings sempre fino a quel momento una robusta mangiatrice per la prima volta nella storia declinò ogni cibo e la mattina del 21 luglio il veterinario venne chiamato per diagnosticare questo strano ascetismo e fu costretto a confessare al lord emsworth che la cosa superava le sue capacità professionali vediamo prima di procedere se le date che abbiamo dato sono corrette 18 luglio orgia di compleanno di cyril well beloved 19 luglio incarcerazione del suddetto 20 luglio la scrofa rifiuta le vitamine 21 luglio veterinario battuto giuste l'effetto dell'annuncio del veterinario sul lord emsworth lo sopraffece di regola le lacrime e le preoccupazioni della nostra vita moderna e complessa lasciavano imperturbato questo amabile nobile finché aveva il sole e dei pasti regolari e una completa libertà dalla compagnia del suo figlio minore frederick era placidamente felice ma c'erano dei punti deboli nella sua armatura e uno di questi era stato colpito quella mattina stordito dalla notizia che aveva ricevuto si affacciò alla finestra della grande biblioteca del castello di blendings guardando fuori con occhi che non vedevano mentre stava lì si aprì la porta lord emsworth si voltò e dopo aver amicato un paio di volte come era sua abitudine quando affrontava qualsiasi cosa riconobbe nella bella donna dall'aspetto dominatore che era entrata sua sorella lady constance kibble il comportamento di lei come il suo tradiva la massima agitazione clarence gridò è accaduta una cosa terribile lord emsworth annui senza emozione lo so me l'ha appena detto cosa è stato qui è andato via proprio ora perché l'hai lasciato andare dovevi sapere che avrei voluto vederlo e a che sarebbe servito avrei almeno potuto offrirgli la mia simpatia disse rigidamente lady constance sì immagino di sì disse lord emsworth dopo aver considerato il punto non che meriti nessuna simpatia quell'uomo è un asino niente del genere un giovane molto intelligente considerato come sono i giovani giovane lo chiameresti giovane avrei detto una cinquantina ma sei fuori di sé no hickham 50 anni non hickham smiters come spesso le accadeva quando conversava con suo fratello lady constance provò una sensazione di vertigine vorresti dirmi gentilmente clare sin poche semplici parole di cose immagini che stiamo parlando io sto parlando di smiters l'imperatrice di blendings sta rifiutando il cibo e smiters dice che non può farci niente e dice di essere un veterinario allora non hai saputo clare se è accaduta una cosa terribile angela ha rotto il suo fidanzamento con hickham e mercoledì prossimo c'è la fiera dell'agricoltura che cosa diamine c'entra chiese lady constance sentendo tornare la sua vertigine che cosa c'entra disse lord emsworth caldamente la mia scrofa campionessa con meno di dieci giorni per prepararsi ad un esame accurato in competizione con tutti i migliori maiali della contea che inizia a rifiutare il cibo vorresti smettere di blaterare sul tuo insopportabile maiale e rivolgere la tua attenzione a qualcosa che importi davvero ti dico che angela la tua nipote angela ha rotto il suo fidanzamento con lord hickham ed esprime la sua intenzione di sposare quel disperato fallito james belford il figlio del vecchio belford il parroco sì non può lui è in america non è in america e a londra da qualche parte no disse lord emsworth scuotendo saggiamente la testa ti sbagli ricordo di aver incontrato suo padre due anni fa per strada accanto al campo di 23 acri di meeker e mi ha detto distintamente che il ragazzo sarebbe partito per l'america il giorno dopo a quest'ora deve essere lì ma non capisci è tornato o tornato capisco tornato sai che una volta c'era una specie di sciocco romanzetto tra lui ed angela ma un anno dopo che lui è partito lei si è fidanzata a hickham e ho pensato che quella storia fosse conclusa e ora sembra che lei abbia incontrato questo belford quando era a londra la settimana scorsa ed è ricominciato tutto mi dice che ha scritto a hickham e ha rotto il fidanzamento ci fu silenzio fratello e sorella restarono per un po assorti nei loro pensieri lord emsworth fu il primo a parlare abbiamo provato con le ghiande disse abbiamo provato con latte magro e con le bucce di patate ma no non le tocca neanche accorgendosi di due occhi che provocavano delle bolle sulla sua pelle sensibile ritorno in sé con un sussulto assurdo ridicolo surreale disse in fretta rompere il fidanzamento che sciocchezze dirò due parole a quel giovane se pensa di poter andare in giro a giocare a tira in molla con mia nipote e piantarla senza neanche una clarence lord emsworth ammicco qualcosa sembrava sbagliato ma non riusciva a immaginare cosa le sembrava che in quest'ultima frase avesse battuto proprio la nota giusta forte imperativo dignitoso è angela che ha rotto il fidanzamento o angela si è infatuata di questo belford e il punto è cosa dobbiamo fare al riguardo lord emsworth riflette prendi una posizione forte disse fermamente non accettare sciocchezze non mandar loro un regalo di nozze non c'è dubbio che col tempo lady constance avrebbe scoperto e pronunciato qualche commento adeguatamente corrosivo a questo suggerimento imbecille ma mentre si stava gonfiando preparandosi a usare la lingua si aprì la porta ed entrò la ragazza era una ragazza graziosa con dei capelli biondi e occhi azzurri che nei loro momenti di dolcezza probabilmente ricordavano a tutti i due laghi gemelli che dormivano sotto un cielo del sud questo tuttavia non era uno di quei momenti a lord emsworth quando essi incontrarono i suoi sembrarono uscire da un saldatore ad ossi acetilene e per quanto era in grado di essere turbato da qualcosa che non era suo figlio frederick e gli fu turbato angela gli sembrava era arrabbiata per qualcosa e gli dispiacque gli piaceva angela per migliorare una situazione tesa disse angela mia cara sai qualcosa dei maiali la ragazza rise una di quelle risate brusche e amare che sono così spiacevoli poco dopo colazione sì ne so qualcosa tu sei uno di essi io sì tu zia constance dice che se sposo jimmy non mi lascerei avere il mio denaro 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 lord emsworth era blandamente sconcertato che denaro non mi hai mai prestato del denaro i sentimenti di constance trovarono espressione in un rumore come di un radiatore surriscaldato credo che questa tua distrazione non sia altro che una posa ridicola clarence sai perfettamente bene che quando è morta la povera jane ha lasciato te come fiduciario di angela e io non posso toccare il mio denaro senza il tuo consenso fino a che non avrò 25 anni ebbene quanti anni hai 21 allora di cosa ti preoccupi chiese lord emsworth sorpreso non c'è bisogno di preoccuparsi per altri quattro anni che dio mi benedica il denaro è assolutamente al sicuro è investito in titoli eccellenti angela batte il piede per terra un'azione poco da signora indubbiamente ma molto migliore che prendere a calci uno zio come le suggeriva la sua natura inferiore ho detto ad angela spiegò lady constance che mentre ovviamente non possiamo costringerla a sposare lord hickam possiamo almeno impedirle di sperperare il suo denaro con quel fannullone a cui si propone di darsi via non è un fannullone ha giusto i soldi che servono per sposarmi ma ha bisogno di un po di capitale per una compartecipazione in una società che è uno sprecone non è forse stato mandato all'estero perché è stato due anni fa e da allora mia cara angela puoi discutere finché non voglio discutere sto semplicemente dicendo che sposerò jimmy anche se dovessimo tutti e due morire di fame per strada che strada chiese sua signoria riportando indietro la sua mente dai pensieri di ghiande qualsiasi strada ora per favore ascoltami angela sembrava lord emsworth che ci fosse molta conversazione in corso aveva la sensazione di essere un semplice relitto che galleggiava su un mare agitato di voci femminili sia sua sorella che sua nipote sembravano avere molto da dire e lo stavano dicendo simultaneamente e fortissimo guardò pensosamente la porta lo fece in silenzio un giro della maniglia e fuggì dove oltre quelle voci si trovava la pace galoppando gaiamente per le scale uscì sotto il sole la sua allegria non ebbe vita lunga libero finalmente di concentrare se stesso sui problemi realmente seri della vita la sua mente divenne seria e triste ancora una volta discese su di lui la nube che opprimeva la sua anima prima che iniziasse tutto questo affare hickham angela belford ogni passo che lo portava più vicino al porcile dove risiedeva l'imperatrice sembrava più pesante del precedente raggiunse il porcile appoggiatosi alla ringhiera sbirciò tristemente la vasta mole del maiale al suo interno perché anche se aveva fatto un po di dieta di recente l'imperatrice di blendings era ben lungi dall'essere un animale malnutrito somigliava a un pallone con coda e orecchie ed era circolare quanto può esserlo un maiale senza scoppiare ciò nonostante lord emsworth mentre la guardava era in lutto e non trovava conforto se avesse buttato giù ancora qualche altro pasto nessun maiale nello shropshire avrebbe potuto tenere la testa alta in presenza dell'imperatrice e ora solo per la mancanza di questi pasti quel supremo animale probabilmente sarebbe stato relegato alla misera oscurità di una menzione d'onore era amaro amaro si accorse che qualcuno gli stava parlando e voltato si vide un giovanotto solenne intenuta da cavallo dico disse il giovanotto lord emsworth anche se avrebbe preferito la solitudine fu sollevato nello scoprire che l'intruso era almeno uno del suo sesso le donne sono inclini a perdersi in questioni secondarie ma gli uomini sono pratici e possono essere tenuti al cuore della questione inoltre il giovane hickam probabilmente allevava lui stesso maiali e poteva avere un asso o due nella manica dico sono appena venuto per vedere se c'è qualcosa che posso fare in questo terribile affare insolitamente gentile riguardoso da parte vostra mio caro amico disse lord emsworth toccato temo che le cose sembrino molto cupe per me è un mistero assoluto anche per me voglio dire la settimana scorsa andava tutto bene lei stava benissimo fino a ieri l'altro sembrava allegra e charliera e tutto il resto decisamente e poi accade questo come un fulmine a ciel sereno potreste dire esattamente è insolubile abbiamo fatto tutto il possibile per stimolare il suo appetito il suo appetito angela è malata angela no credo di no sembrava stare perfettamente bene qualche minuto fa l'avete vista stamattina allora vi ha detto qualcosa su questo terribile affare no stava parlando di soldi è tutto così dannatamente inatteso come un fulmine a ciel sereno assentì lord emsworth una cosa simile non è mai accaduta prima temo il peggio secondo gli standard nutrizionali del wolf lehman un maiale se sano dovrebbe consumare ogni giorno del cibo che ammonti a 57.800 calorie consistenti in 4 libri 5 once di proteine 25 libri di carboidrati cosa a che fare questo con angela angela sono venuto per scoprire perché angela ha rotto il nostro fidanzamento lord emsworth mise in ordine i suoi pensieri aveva una vaga idea di aver sentito dire qualcosa al riguardo gli ritornò in mente ah sì ovviamente aveva rotto il fidanzamento vero credo che sia perché è innamorata di qualcun altro sì ora che ricordo questo era stato detto distintamente ricordo adesso tutto chiaramente angela ha deciso di sposare qualcun altro sapevo che c'era una spiegazione soddisfacente ditemi mio caro amico quali sono le vostre idee sui pasti di semi di lino cosa volete dire con pasti di semi di lino ma come semi di lino disse lord emsworth non potendo trovare una definizione migliore come cibo per maiali oh dannazione a tutti i maiali cosa c'era una sorta di stupito orrore nella voce di lord emsworth non era mai stato particolarmente affezionato al giovane hickam perché egli non era un uomo che stimasse molto i giovani ma non lo avrebbe supposto capace di sentimenti anarchici come questo cosa avete detto ho detto dannazione a tutti i maiali continuate a parlare di maiali io non sono interessato ai maiali non voglio discutere di maiali maledetto ogni maiale esistente lord emsworth lo osservò mentre si allontanava con un'emozione che era in parte indignazione e in parte sollievo indignazione che un proprietario terriero e un figlio dello shropshire potesse essere arrivato a pronunciare tali parole e sollievo che uno capace di una simile espressione non avrebbe sposato un membro della sua famiglia nel suo modo un po ottuso era sempre stato molto affezionato a sua nipote angela ed era bello pensare che quella bambina avesse un solido buonsenso e tanto freddo discernimento molte ragazze della sua età sarebbero state trascinate dalla buona posizione e ricchezza del giovane hickam ma lei indovinando con un'intuizione superiore alla sua età che quegli era poco affidabile sul soggetto dei maiali si era tirata indietro finché era in tempo e aveva rifiutato di sposarlo un piacevole calore si diffuse nel petto di lord emsworth per gelarsi di nuovo qualche momento dopo quando vide sua sorella constance che si dirigeva verso di lui lady constance era una bella donna ma c'erano volte in cui il fascino della sua faccia era macchiato da un'espressione piuttosto curiosa e fin dei giorni della prima infanzia sua signoria aveva imparato che quella espressione significava guai e ora lei l'aveva assunta clarence disse ne ho avuto abbastanza di questa sciocchezza di angela e del giovane belford non si può permettere che la cosa continui devi andare a londra col treno delle due cosa perché devi vedere questo belford e dirgli che se angela insiste a sposarlo non avrà un penny per quattro anni sarei molto sorpresa se questa informazione non mettesse fine a tutta la storia lord emsworth grattò meditabondo la schiena dell'imperatrice un'espressione di sfida comparve sulla sua faccia mite non capisco perché non dovrebbe sposare quel tipo mormorò sposare james belford non vedo perché no sembra che lo ami e tutto il resto non hai mai avuto un granello di senno in testa clarence angela sposerà hickam non posso sopportare quell'uomo non capisce niente di maiali clarence non desidero discutere oltre dell'argomento tu andrai a londra col treno delle due vedrai mister belford e gli dirai dei soldi di angela è chiaro oh va bene disse tristemente sua signoria va bene va bene va bene le emozioni del conte di emsworth mentre sedeva il giorno dopo davanti al suo ospite a pranzo james bartolomeo belford ad una tavola della sale principale del senior conservative club non erano delle più vive e gradevoli era già abbastanza brutto essere a londra in un giorno con un sole così bello essere incaricato mentre vi era del compito di soffocare la storia d'amore di due giovani per cui nutriva un caldo rispetto era sgradevole al massimo perché ora che aveva pensato un po alla cosa lord emsworth ricordava che gli era sempre piaciuto questo ragazzo questo belford un ragazzo piacevole con ora si ricordava un sano apprezzamento per quell'esistenza rurale che attraeva così tanto anche lui decisamente non quel tipo di persona che in presenza dell'imperatrice di blendings o sentendone parlare aveva parlato con disprezzo insulti dei maiali in genere venne in mente a lord emsworth come era già venuto in mente a molte persone che la distribuzione del denaro in questo mondo è tutta sbagliata perché un uomo come quel hickam che disprezzava i maiali doveva avere una rendita di decine di migliaia mentre questo ragazzo meritevole non doveva avere niente questi pensieri non solo rattristarono lord emsworth lo imbarazzarono odiava le situazioni spiacevoli e gli venne in mente d'un tratto che dopo avergli dato la notizia che quel po di capitale di angela era chiuso a chiave e non sarebbe stato ceduto la conversazione con il suo giovane amico per il resto del pranzo sarebbe stata un po difficile decise di rimandare la rivelazione durante il pasto decise avrebbe chiacchierato piacevolmente di questo e quello e poi più tardi mentre salutava il suo ospite gli avrebbe comunicato la cosa all'improvviso e si sarebbe rintanato nei recessi del suo club considerevolmente rallegrato per aver risolto un delicato problema con tale abilità iniziò a chiacchierare i giardini a blendings disse sono particolarmente attraenti quest'estate il mio capo giardiniere angus mccallister è un uomo con cui non vado sempre d'accordo specialmente riguardo agli agrifogli nel qual campo considero le sue idee massimamente sovversive ma non si può negare che capisca le rose il giardino delle rose ricordo benissimo il giardino delle rose disse james belford sospirando leggermente servendosi di cavoletti di bruxelles era lì che io e angela ci incontravamo nelle mattinate estive lord emsworth ammico questo non era un inizio incoraggiante ma gli emsworth sono un clan di combattenti fece un altro tentativo raramente ho visto uno splendore di colori come vi si può vedere nel mese di giugno sia mccallister che io abbiamo adottato una politica molto ferrea con le lumache e i pidocchi col risultato che il posto è una massa fiorita di rose damasco e airshear per apprezzare adeguatamente le rose disse james belford dovete vederle come una cornice per una ragazza come angela coi suoi capelli biondi che spiccano contro le foglie verdi fa sembrare un giardino di rose un vero paradiso indubbiamente disse lord emsworth indubbiamente sono felice che vi sia piaciuto il mio giardino di rose a blendings ovviamente abbiamo il vantaggio naturale della terra ricca di humus e di nutrimento per le piante ma come dico spesso a mccallister e su questo punto non abbiamo mai avuto il minimo disaccordo il terreno ricco non basta dovete avere anche il concime se ogni autunno spargete molto concime sulle aiuole e ne rimuovete gli eccessi in primavera prima che angela mi dice disse james belford che avete proibito il nostro matrimonio lord emsworth si strozzò quasi col pollo preso alla sprovvista un attacco diretto di questo tipo si disse con una fitta di autocommiserazione era il tipo di cose che i giovani inglesi imparano in america le circonlocuzioni diplomatiche fioriscono solo in civiltà più antiche e in quegli ambienti energici e pratici si impara il parlare rapido e il fallo subito e tutto quel genere di cose spiacevoli ebbene sì ora che ne parlate credo che qualche decisione informale di tal genere sia stata presa vedete mio caro ragazzo mia sorella constance alla forte convinzione capisco immagino che pensi che io sia una sorta di spendaccione no no mio caro amico non lo ha mai detto sprecone è stato il termine che ha usato ebbene forse quando ho iniziato ero così ma potete essere certo che quando vi trovate impiegato in una fattoria in nebraska che appartiene a un patriarca ben nutrito con forti vedute sul lavoro e un buon vocabolario presto sviluppate una certa vivacità siete impiegato in una fattoria ero impiegato in una fattoria maiali disse lord emsworth con voce bassa e ansiosa fra le altre cose lord emsworth deglutì le sue dita afferrarono la tovaglia allora forse mio caro amico potete darmi qualche consiglio da due giorni la mia scrofa da concorso l'imperatrice di blendings ha rifiutato ogni cibo e la fiera agricola è mercoledì della settimana prossima sono carico d'ansia james belford si accigliò pensosamente cosa vi ha detto il vostro guardiano dei maiali il mio guardiano è stato messo in prigione due giorni fa due giorni per la prima volta il significato della coincidenza lo colpì non penserete che abbia qualcosa a che fare con la perdita d'appetito dell'animale certamente immagino che lei ne senta la mancanza e si è in pena perché lui non c'è lord emsworth fu sorpreso aveva solo una lontana conoscenza di george cyril well beloved ma da quello che aveva visto di lui non gli avrebbe attribuito un tale fascino fatale a lei probabilmente manca la sua visita del pomeriggio di nuovo sua signoria restò perplesso non aveva nessuna idea che i maiali fossero così attaccati alle formalità della vita sociale la sua visita deve avere qualche speciale richiamo deve avere qualche speciale richiamo che usava quando voleva che lei venisse a pranzo una delle prime cose che si imparano in una fattoria è il richiamo per i maiali i maiali sono emotivi omettete di chiamarli e moriranno di fame piuttosto che mettersi alla mangiatoia chiamateli nel modo giusto e vi seguiranno fino in capo al mondo con l'acquolina in bocca che dio mi benedica pensa un po è un fatto vi assicuro questi richiami variano in diverse parti d'america nel wisconsin per esempio le parole poich 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 portano a casa sia in senso letterale che metaforico la ciccia in illinois credo che il richiamo sia bur 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 mentre nell'ohioa viene preferita la frase cus 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 procedendo troviamo nel minnesota piga 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 o alternativamente oink 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 mentre nel milwaukee che ha una gran parte della popolazione di origine tedesca sentirete il buon vecchio teutonico come schweine come schweine oh sì ci sono ogni sorta di richiami per i maiali dal massachusetts fiu 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 al lui 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 dell'ohio senza contare varianti locali come il battere su secchi di latta o far suonare dei ciottoli in una scatola conoscevo un uomo nell'ebraska che era solito chiamare i maiali battendo l'estremità della sua gamba di legno contro la staccionata davvero ma successe una cosa sfortunatissima una sera udendo un picchio in cima ad un albero iniziarono a corrervi e quando l'uomo uscì li scoprì tutti attorno che si erano rotti il collo questo non è il momento di scherzare disse lord emsworth in ansia non sto scherzando è un fatto chiedete a chiunque laggiù lord emsworth si mise una mano sulla fronte pulsante ma se c'è questa ampia varietà non abbiamo il modo di sapere quale fosse il richiamo di well beloved ah disse james belford ma aspettate non vi ho detto tutto c'è una parola chiave una cosa la maggior parte della gente non la conosce ma io l'ho appresa direttamente dalle labbra di fred spatzel il campione dei richiami dei maiali di tutti gli stati dell'ovest che uomo faceva saltare dal piatto le costolette di maiale mi ha informato che indipendentemente dall'addestramento che un maiale aveva ricevuto che dovesse rispondere al burp dell'illinois o all'oink del minnesota avrebbe risposto immediatamente a questa magica combinazione di sillabe è per il mondo dei maiali quello che il segno della massoneria è per gli uomini dite oink in illinois o burp in minnesota e l'animale si limita ad alzare le sopracciglia e ad osservare frettamente ma in entrambi questi stati se vi mettete a gridare pig hu hu ei l'espressione sulla faccia di lord emsworth fu quella di un uomo che sta annegando e vede terra è questa la parola chiave di cui parlavate è questa pig hu hu ei pig hu ei non l'avete colta esattamente la prima sillaba dovrebbe essere corta e staccata la seconda lunga e crescente in un falsetto alto ma sonoro pig hu ei pig hu ei intonò lord emsworth gettando indietro la testa e vocalizzando con un tono penetrante di tenore che fece sì che 93 conservatori senior che pranzavano lì accanto si congelassero come statue allarmate e disapprovanti più corpo la hu suggerì james belfort pig hu ei il senior conservative club è uno dei pochi posti a londra in cui chi pranza non è abituato ad ascoltare musica uomini dell'alta finanza con favoriti bianchi guardarono muti politici calvi come se chiedessero cosa si potesse fare al riguardo politici calvi ricambiarono lo sguardo di uomini dell'alta finanza con favoriti bianchi replicando col linguaggio degli occhi che non sapevano il generale sentimento che prevaleva era una vaga determinazione di scrivere al comitato pig hu ei intonò lord emsworth e nel far così gli cadde l'occhio sull'orologio del camino le lancette indicavano 20 minuti alle 2 sussultò convulsamente il migliore treno del giorno per market blendings era quello che partiva dalla stazione di paddington alle 2 in punto dopo quello non ce n'erano altri fino alle 5 e 5 non era un uomo che pensasse spesso ma quando lo faceva per lui pensiero era azione un attimo dopo stava correndo sul tappeto dirigendosi alla porta che portava all'ampia gradinata in tutta la stanza che aveva lasciato la decisione di scrivere con termini forti al comitato era ora universale ma dalla mente per quello che era di lord emsworth il passato era completamente cancellato con la sola eccezione della parola pig hu ei bisbigliando le sillabe magiche andò al guardaroba a riprendere il cappello continuando a mormorarle saltò in un taxi le stava ancora ripetendo quando il treno si mosse dalla stazione e indubbiamente avrebbe continuato a ripeterle per tutta la strada fino a market blendings se non fosse come era sua invariabile abitudine quando viaggiava in treno caduto addormentato dopo i primi dieci minuti di viaggio la fermata del treno a swindon junction lo svegliò di scatto si mise a sedere chiedendosi come sempre gli accadeva in queste occasioni chi fosse e dove fosse la memoria gli ritornò ma era una memoria ahimè incompleta ricordò il suo nome ricordò che era sulla strada per casa di ritorno da una visita a londra ma quello che si diceva ad un maiale per invitarlo a mangiare un boccone a pranzo lo aveva completamente dimenticato era opinione di lady constance kibble espressa verbalmente durante la cena nei brevi intervalli in cui erano soli e grazie ad una silenziosa telepatia quando beach il maggiordomo stava aggiungendo la sua dignitosa presenza alla procedura che suo fratello clarence nella sua spedizione a londra per mettere le cose in chiaro con james belford si fosse comportato come un totale idiota non c'era assolutamente nessun bisogno di invitare a pranzo quel belford ma avendolo invitato lasciarlo poi seduto senza averli chiaramente spiegato che angela non avrebbe avuto soldi per quattro anni era l'atto di un imbecille congenito lady constance sapeva fin dai giorni della loro infanzia che suo fratello aveva tutta l'intelligenza di un a questo punto entrò beach per sovrintendere all'ingresso della salsa ed era stata costretta a sospendere le sue affermazioni questo tipo di conversazione non è mai piacevole per un uomo sensibile e sua signoria si era allontanato dalla zona rischiosa non appena aveva potuto farlo era ora seduto nella biblioteca a sorseggiare il porto e a sforzare un cervello che la natura non aveva mai inteso fosse adatto al duro esercizio in uno sforzo di ricordare quella parola magica di cui lo aveva privato quella sua infelice abitudine di dormire sul treno pig riusciva a ricordare solo quello ma che serviva una sola sillaba inoltre per quanto debole fosse la sua memoria ricordava però che l'intero succo della cosa stava nella sillaba che seguiva il pig era solo un preliminare lord emsworth finì il suo porto e si alzò si sentiva irrequieto fuori controllo la notte estiva sembrava trarlo come qualche pastore di maiali dalla voce argentea che richiami il suo maiale forse pensava una boccata di aria fresca avrebbe stimolato le sue cellule grigie scese di sotto e dopo aver tirato fuori dall'armadio un vecchio cappello sformato che vi nascondeva perché sua sorella constance non lo bruciasse uscì in giardino con passi pesanti stava camminando senza scopo avanti e indietro sul retro del castello quando apparve davanti a lui una snella figura femminile la riconobbe senza piacere qualsiasi persona senza pregiudizi avrebbe detto che sua nipote angela in piedi alla luce pallida sembrava qualche elegante spirito lunare lord emsworth non era privo di pregiudizi a lui angela sembrava solo un guaio il cammino della civiltà dato alla ragazza moderna un vocabolario e un'abilità di usarlo che la sua nonna non conosceva a lord emsworth non sarebbe affatto importato incontrare la nonna di angela sei tu mia cara disse nervosamente sì non ti ho visto a cena non volevo cenare il cibo mi sarebbe andato di traverso non posso mangiare è precisamente lo stesso per il mio maiale disse sua signoria il giovane belford mi dice nel regale sdegno di angela valenò un'improvvisa animazione hai visto jimmy cosa ha detto è proprio quello che non riesco a ricordare iniziava con la parola pig ma dopo che ha finito di parlare di te voglio dire non ti ha detto se veniva qua non che io ricordi mi immagino che non stessi ascoltando hai un'abitudine molto irritante zio clarence disse angela in tono materno di staccare la mente di andartene proprio quando la gente ti parla ti rende molto antipatico a tutti jimmy non ti ha detto niente di me immagino di sì sì sono quasi sicuro che lo abbia fatto ebbene cosa non riesco a ricordarmi ci fu un suono secco e acuto nel buio era causato dagli incisivi superiori di angela che incontravano gli incisivi inferiori e fu seguito da una sorta di esclamazione inarticolata sembrava solo troppo evidente che l'amore il rispetto che una nipote dovrebbe avere per uno zio erano al momento al minimo della marea vorrei che non lo facessi disse lord emsworth in tono lamentevole fare cosa farmi quegli schiocchi io ti farò questi schiocchi sai perfettamente bene zio clarence che ti stai comportando come un bohunkus un cosa un bohunkus spiegò freddamente sua nipote è una specie infima di verme non il genere di verme che si vede nei prati che puoi rispettare ma una specie realmente degradata vorrei che tu rientrassi mia cara disse lord emsworth l'aria della notte può farti prendere freddo non voglio entrare sono uscita per guardare la luna e pensare a jimmy e tu che ci fai qui a proposito io sono venuto qui per pensare ho pensato molto al mio maiale e l'imperatrice di blendings per due giorni ha rifiutato il cibo e il giovane belford dice che non mangerà finché non udrà il richiamo giusto molto gentilmente me l'ha insegnato ma sfortunatamente l'ho dimenticato mi chiedo come tu abbia avuto il coraggio di chiedere a jimmy di insegnarti richiami dei maiali considerando il modo con cui lo stai trattando ma come un lebroso o qualcosa del genere e tutto quello che posso dire è che se tu ricordi quel suo richiamo e l'imperatrice si mette a mangiare dovresti vergognarti di te stesso se rifiuti ancora che lui mi sposi mia cara disse seriamente lord emsworth se grazie alla capacità del giovane belford l'imperatrice di blendings viene indotta a mangiare di nuovo non c'è niente che gli rifiuterò niente parola d'onore ti do la mia parola solenne non lascerai che la zia constance ti costringa lord emsworth si eresse certamente no disse orgogliosamente sono sempre pronto ad ascoltare le opinioni di tua zia constance ma ci sono certe cose in cui reclamo il diritto di agire secondo il mio giudizio si fermò e si mise a pensare iniziava con la parola pig da qualche parte lì vicino si sentì una musica la stanza della servitù finita la giornata di lavoro si stava divertendo col grammofono della governante per lord emsworth quelle note erano solo un'irritazione in più non gli piaceva la musica gli ricordava suo figlio minore frederick un cantante stonato ma perseverante sia dentro che fuori il bagno sì posso chiaramente ricordare l'inizio pig pig lord emsworth fece un salto era come se fosse stato applicato alla sua persona uno shock elettrico who stole my heart away ululò il grammofono la pace della notte estiva fu lacerata da un grido di trionfo pig si aprì una finestra apparve una grossa testa calva parlò una voce dignitosa chi è là che sta facendo questo rumore beach gridò lord emsworth venite subito qui benissimo vostra signoria e poi la bella notte fu resa ancora più piacevole dalla presenza del maggiordomo beach sentite questo benissimo vostra signoria pig benissimo vostra signoria ora fatelo voi io vostra signoria sì è un richiamo per i maiali io non chiamo i maiali vostra signoria disse freddamente il maggiordomo perché vuoi che lo faccia beach chiese angela due teste sono migliori di una sola se lo impariamo entrambi non importa se me lo dimenticherò di nuovo per giove sì su beach espandete il torace insiste la ragazza voi non lo sapete ma è una questione di vita o di morte attenti beach gonfiate i polmoni e fatelo era stata l'intenzione del maggiordomo iniziando il suo discorso con l'affermazione che era al servizio nel castello da 18 anni spiegare freddamente al lord emsworth che non era il suo ruolo quello di praticare richiami per maiali alla luce della luna se stava per raggiungere sua signoria vedeva la cosa da un diverso punto di vista allora era suo doloroso dovere di beach rassegnare le sue dimissioni con un preavviso di un mese ma l'intervento di angela rese questo impossibile ad un uomo cavalleresco e di cuore un affetto paterno per la ragazza che datava dai giorni in cui aveva smesso di recitare e in modo molto convincente anche perché la sua era una figura che era adatta alla parte il role di un ippopotamo per il suo divertimento di bambina frenò le parole che avrebbe dovuto pronunciare lei lo stava guardando con occhi brillanti e perfino il fare il verso del maiale sarebbe sembrato un piccolo sacrificio per amor suo benissimo vostra signoria disse a voce bassa con la faccia pallida e tirata al chiaro di luna cercherò di essere soddisfacente avanzerei soltanto il suggerimento vostra signoria di allontanarci un po dalla stanza della servitù se venissi udito dai domestici inferiori questo indebolirebbe la mia posizione in quanto a forza disciplinare che sciocchi siamo esclamò angela ispirata il posto giusto per farlo è fuori del recinto dell'imperatrice così se funziona lo vedremo funzionare lord emsworth trovò questo un po astruso ma dopo un momento ci arrivò angela disse sei una ragazza molto intelligente da dove tiri fuori quel cervello non lo so non dal mio lato della famiglia la residenza elegante dell'imperatrice di blendings sembrava molto comoda e attraente al chiaro di luna ma anche dietro le cose più belle della vita c'è sempre una nascosta malinconia questa era attualmente rappresentata da una lunga mangiatoia fin troppo chiaramente piena di cibo succulento e ghiande il digiuno ovviamente continuava il recinto stava una considerevole distanza dalle mura del castello perciò c'era stata ampia opportunità per lord emsworth di addestrare la sua piccola compagnia durante il viaggio quando si schierarono alla staccionata i suoi due assistenti conoscevano la parte a menadito ora disse sua signoria a legione la notte estiva uno strano suono composto che fece saltare gli uccelli appollaiati sugli alberi vicini come dei razzi in aria la chiara voce di soprano di angela risuonava come la voce della figlia del fabbro del villaggio lord emsworth contribuì con un timbro di tenore e le note basse di beach probabilmente furono quelle che più di tutte le altre sorpresero gli uccelli si fermarono e ascoltarono nel boudoir dell'imperatrice risuonò il movimento di un corpo pesante ci fu un grugnito interrogativo un attimo dopo la tela che copriva la soglia fu spinta da una parte e ne emerse il nobile animale ora disse ancora lord emsworth ancora una volta quel grido musicale ruppe il silenzio della notte ma non causò nessun movimento da parte dell'imperatrice di blendings restò immobile il naso alzato in aria le orecchie pendenti gli occhi volti ovunque tranne che alla mangiatoia dove a regola avrebbe dovuto andare a tuffarvi il muso una fredda delusione strisciò sul lord emsworth per essere seguita da un accesso di rabbia petulante avrei dovuto saperlo disse amaramente quella giovane canaglia mi stava ingannando si stava prendendo gioco di me no grido angela indignata vero beach non conoscendo le circostanze miss non posso alzardare un'opinione ebbene e perché non funziona allora chiese lord emsworth non puoi aspettarti che funzioni subito l'abbiamo fatta uscire no ora ci sta pensando vero ancora una volta funzionerà pronto beach prontissimo miss allora al mio tre e stavolta zio clares per favore non ululare come hai fatto prima sarebbe bastato a spaventare qualsiasi maiale lascia che la voce esca facilmente e con grazia ora allora uno due tre l'eco svanì e in quel mentre una voce parlò un coro di comunità jimmy gridò angela voltandosi salve angela salve lord emsworth salve beach buonasera ser felice di rivedervi grazie sto passando qualche giorno al vicariato con mio padre sono arrivato col treno delle 5 e 5 lord emsworth troncò queste frasi di circostanza con petulanza giovanotto disse cosa volevate fare dicendomi che i maiali rispondono a questo grido non accade niente del genere non l'avete fatto giusto l'ho fatto precisamente come me lo avete insegnato inoltre ho avuto anche l'assistenza di beach qui e di mia nipote angela sentiamo lord emsworth si schiarì la voce pig james belford scosse la testa niente del genere disse dovete iniziare la hu in un tono minore di due quarti in un tempo di quattro quarti da questo dovete salire gradualmente ad una nota più alta finché alla fine la voce in un pieno crescendo arriva ad un fa della scala naturale e vi resta per due mezzi toni e poi si rompe in una cascatella di vocalizi che dio benedica la mia anima disse lord emsworth sconvolto non sarò mai capace di farlo lo farà jimmy per te disse angela ora che il mio fidanzato sarà uno della famiglia e capiterà sempre qui lo può fare ogni giorno fino alla fiera james belford a noi penso che sarebbe la cosa migliore è dubbio che un dilettante riesca a produrre dei veri risultati avete bisogno di una voce allenata alla prateria e che abbia acquisito ricchezza e forza nella competizione coi tornado avete bisogno di una voce virile bruciata dal sole asciugata dal vento che suggerisca il crepitio delle foglie di gran turco e il mormorio della brezza della sera come questa posando le mani sulla staccionata james belford si gonfiò davanti ai loro occhi come un pallone i muscoli delle guance si tesero la fronte si corrugò le orecchie sembrarono muoversi poi al massimo della tensione lasciò uscire come dice bellamente il poeta qualcosa come il suono di un grande amen lo guardarono riverenti lentamente svanendo per valli e monti l'ampio grido morì ed un tratto mentre moriva un altro suono più sommesso gli succedette una sorta di suono di chi inghiotte mastica scuscia trangugia scivole grugnisce come mille uomini affamati che bevano una minestra in un ristorante straniero e nell'udirlo lord emsworth emise un grido di estasi l'imperatrice stava mangiando compagnia per gertrude l'onorevole freddy tripwood sposato con l'affascinante figlia dei biscotti per cani donaldson di long island city new york e invitato a casa da suo suocero per promuovere la vendita in inghilterra dei prodotti della ditta naturalmente pensò subito a sua zia georgiana ecco pensava una donna che decisamente mangiava dei biscotti per cani aveva quando l'ultima volta era stato a trovarla in campagna quattro pechinesi due pomerania un terrier yorkshire cinque sillehams un borzoi e un e se questo non costituiva un mercato promettente per la gioia del cane donaldson fate pensare il vostro cane al modo donaldson avrebbe voluto sapere cosa mai lo fosse la parente alcester doveva pensava valere almeno ogni settimana dieci pacchetti da mezza corona un giorno due dopo il suo arrivo di conseguenza si affrettò lungo upper brook street per fare un colloquio da venditore e fu mentre si allontanava pensosamente dalla casa alla conclusione del suo colloquio che si imbatté in beefy bingham che era stato ad oxford con lui erano passati vari anni da quando l'altro a quei tempi un ragazzo del terzo anno era andato in bicicletta con un megafono parlando male della pancia di freddy ma lui lo riconobbe subito e questo nonostante il fatto che il passare del tempo avesse trasformato il vecchio beefers in un prelato perché la colossale struttura fisica di questo bingham era ora avvolta in un sobrio abito nero e stava indossando uno di quei collaretti che vengono tenuti in posizione senza bottoni puramente esercitando la forza di volontà beefers gridò freddy mentre la sua lieve tristezza svaniva nel piacere di questo felice incontro il reverendo robert bingham anche se rispose con cordialità al suo saluto non era certo esuberante sembrava sottomesso triste come se avesse scoperto uno scisma nel suo gregge la sua voce quando parlò era la voce di un uomo con un segreto di spiacere oh salve freddy non ti vedo da anni ti tieni sempre in forma come una corda di violino beefers vecchio mio accortato come un violino e tu oh io sto bene disse il reverendo robert sempre con quella strana cupezza cosa stavi facendo in quella casa cercavo di vendere biscotti per cani 20 biscotti per cani lo faccio quando la gente ha abbastanza buon senso da capire che la gioia del cane donaldson non ha rivali ma come potevo farlo capire a quella testona di mia zia no beefers neanche se avessi parlato per un'ora e l'avessi sepolta di opuscoli illustrati come una tua zia non sapevo che lady alcester fosse tua zia davvero beefers pensavo che lo sapesse tutta londra ti ha parlato di me per cosa grande scott sei forse il tipo impoverito che vuole sposare gertrude sì è bene che sia dannato la amo freddi disse il reverendo rupert pingam la amo come nessun uomo piuttosto direi assolutamente lo so tutta la solita roba e lei ti ama sì e ora l'hanno mandata blendings per togliermela da qui vile vilissimo ma perché ti sei impoverito e le tue decime ho sempre pensato che voi faceste un sacco di soldi con le decime non ci sono decime dove sono io niente decime nessuna peccato ebbene cos'è intenzione di fare al riguardo o beefers pensavo di far visita tua zia e cercare di ragionare con lei freddi prese sotto braccio il suo vecchio amico e lo allontanò con simpatia non serve a niente vecchio mio se una donna non vuole comprare la gioia del cane donaldson vuol dire che ha qualche tipo di tara mentale e non serve cercare di ragionare con lei dobbiamo pensare a qualche altra cosa perciò gertrude a blendings allora dovrebbe esserci la famiglia sembra ritenere quel posto una specie di bastiglia ogni volta che i giovani della specie fanno uno sgarro come innamorarsi della persona sbagliata vengono sempre spediti a blendings per guarire il capo se ne è spesso lamentato amaramente ora fammi pensare passarono in park street alcuni operai stavano aprendo la pavimentazione col martello pneumatico ma il rumore del cervello di freddi rendeva quello quasi inudibile ce l'ho disse alla fine con i suoi lineamenti che si rilassavano dopo il terribile sforzo ed è una dannata fortuna per te ragazzo mio che io sia andato ieri sera a vedere quel super film giovani cuori alla deriva con rosalie norton e otto bing bifers vecchio mio oggi stesso vai direttamente a blendings cosa col primo treno dopo pranzo ho già progettato tutto in questo super film giovani cuori alla deriva un giovane povero ma meritevole è innamorato della figlia di genitori ricchi e superbi e la portano in campagna perché lei lo dimentichi e alcuni giorni dopo un misterioso sconosciuto si fa vivo in quel posto e si ingrazia i genitori e dice che vuole sposare la loro figlia e loro acconsentono e il matrimonio avviene e poi lui si leva i baffi ed era jim sì ma non discutere la cosa è decisa mia zia ha bisogno di una dura lezione penseresti che una donna sia fin troppo felice di agevolare gli affari di un suo caro parente specialmente quando gli offre dei campioni e una prova gratuita di 15 giorni ma no insiste col suo cibo per cani peterson un prodotto decisamente inferiore che manca vengo a sapere di molte vitamine essenziali e da ora in poi vecchio ragazzo io sono cuore e anima dalla tua parte baffi disse dubbioso il reverendo rupert non dovrai metterti baffi il mio capo non ti ha mai visto o no no non ho mai conosciuto lord emsworth benissimo allora ma che cosa mi servirà a ingraziarmi tuo padre è solo lo zio di gertrude a che servirà mio caro ragazzo sei consapevole che il capo possiede la campagna per miglia in miglia a ogni tipo di benefici ecclesiastici nella manica benefici che semplicemente grondano di decime e può distribuirli a chi vuole lo so perché un tempo c'era l'idea di fare di me un parroco ma io non ne ho voluto sapere la faccia del reverendo rupert si schierì freddi c'è qualcosa in questo piano ci puoi scommettere che c'è qualcosa ma come posso ingraziarmi tuo padre perfettamente facile giragli attorno pendi dalle sue labbra interessati nei suoi progetti rendigli piccoli servigi aiutalo con la sedia diamine grande scott penso che potrei ingraziarmi stalin se mi ci mettessi vai a fare le valigie e prendi lo spazzolino da denti e io andrò a telefonare al capo circa nel momento in cui si svolgeva questa importante conversazione a londra w1 lontano nel distante shropshire clarence nono conte di emsworth sedeva a meditare nella biblioteca del castello di blendings il fato solitamente indulgente verso questo nobile sognatore era improvvisamente divenuto maligno e gli aveva assestato un pesante colpo sotto la cintura dicono che la gran bretagna è sempre una potenza di prima classe che si conquista il rispetto delle nazioni e se è così la cosa è ovviamente estremamente gratificante ma il futuro ecco cosa si stava chiedendo lord emsworth poteva durare questo stato di cose credeva di no senza voler essere pessimista che fosse dannato se vedeva come un paese che conteneva uomini come ser gregory parslo parslo di machington hall poteva sperare di sopravvivere forte indubbiamente amaro garantito ma non pensiamo troppo forte non date le circostanze indebitamente amaro considerate i fatti quando poco dopo il trionfo della scrofa di lord emsworth l'imperatrice di blendings nella classe dei maiali grassi della fiera agricola annuale di shropshire george cyril well beloved il guardiano dei maiali di sua signoria aveva espresso il desiderio di licenziarsi e di cercare lavoro altrove l'amabile nobile anche se naturalmente dispiaciuto non provava nessun senso di oltraggio attribuiva la cosa al vecchio spirito vagabondo dei well beloved george cyril pensava stanco dello shropshire desiderava provare un cambiamento d'aria in qualche zona del sud o dell'est una noia indubbiamente perché l'uomo quando era sobrio era decisamente una forza in quanto ai maiali aveva fascino e personalità i maiali lo amavano pure se voleva licenziarsi non ci si poteva far niente ma quando neanche una settimana prima era arrivata a lord emsworth la voce che non solo non era emigrato nel sussox o nel norfolk o nel kent o da qualche altra parte ma il tipo aveva solo girato l'angolo ed era andato nel villaggio vicino di match matchingham al servizio della bandiera di ser gregory parslo parslo di matchingham hall il velo cadde dai suoi occhi realizzò che un nero tradimento era stato perpetrato george cyril well beloved si era venduto per denaro e ser gregory parslo parslo fino a quel momento considerato come un amico e un collega giudice di pace si rivelò come il più vile degli esseri creati un rapitore di guardiani di maiali altrui e non ci si poteva far niente mostruoso ma vero era così intensamente assorto lord emsworth nella considerazione di questa terribile storia che fu solo quando fu bussato alla porta per la seconda volta che quel rumore raggiunse la sua consapevolezza avanti disse cupamente sperò che non fosse sua nipote gertrude una triste giovane in questo momento avrebbe difficilmente sopportato alla compagnia di gertrude era beach il maggiordomo mister frederick desidera parlare a vostra signoria al telefono un ulteriore strato di grigiore cadde sullo spirito di lord emsworth mentre scendeva la grande scalinata per andare alla cabina del telefono nell'ingresso era sua esperienza che quasi ogni comunicazione da freddi indicava guai ma non c'era niente nella voce di suo figlio che viaggiava sulla linea telefonica che suggerisse che non andasse tutto bene salve capo e bene frederick come vanno le cose a blendings lord emsworth non era uomo da esibire gli avvoltoi che li rodevano il cuore a un chiacchierone come l'onorevole freddi replicò anche se lo ferì dirlo che tutto a blendings era eccellente ottimo disse freddi il vecchio dormitorio è al completo al momento se replicò sua signoria stai alludendo al castello di blendings non c'è nessuno al momento che stia qui ad eccezione di me stesso e di tua cugina gertrude perché aggiunse con rapido allarme stavi pensando di venire buon dio no gridò suo figlio con pari orrore voglio dire mi piacerebbe ovviamente ma sono troppo impegnato con dog's joy la gioia del cane chi è pop joy pop joy pop joy oh oh ah sì è un mio amico e visto che hai molto posto vorrei che l'ospitasse per un po è un bravo ragazzo ti piacerà perfetto allora te lo mando col treno che arriva alle 3 e 15 la faccia di lord emsworth aveva assunto un'espressione che fu una fortuna per suo figlio che la televisione non operasse ancora nel sistema telefonico inglese e aveva appena ripreso fiato sufficiente per rifiutare di avere nel raggio di 50 miglia un qualsiasi amico di freddi quando l'altro parlò di nuovo farà compagnia gertrude e a queste parole un notevole cambiamento si operò in lord emsworth la sua faccia si rilassò lo sguardo da basilisco svanì dai suoi occhi che dio benedica la mia anima è vero esclamò è vero è così le 3 e 15 hai detto manderò la macchina market blendings per andarlo a prendere compagnia per gertrude un pensiero piacevole un pensiero fragrante rinfrescante stimolante qualcuno che gli togliesse gertrude dalle mani occasionalmente era quello per cui aveva pregato fin da quando sua sorella georgiana gliela aveva mollata uno dei principali svantaggi dell'avere in casa una ragazza che è infelice per amore è che lei è estremamente incline ad aggirarsi nel posto facendo del bene tutto quello che la vita ha ora in serbo per lei è l'opportunità di essere gentile verso altri e lei intende essere gentile fino a soffocarli per due settimane la bella e giovane nipote di lord emsworth si era mossa su e giù per il castello con una faccia tirata facendo del bene a destra e a sinistra e sua signoria essendo più a portata di mano aveva dovuto sopportare il peggio fu col primo vero sorriso di quel giorno che uscì dalla cabina del telefono e trovò l'oggetto dei suoi pensieri nell'ingresso davanti a lui bene 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 mia cara disse allegramente e cosa hai fatto non c'era un sorriso di risposta sulla faccia della nipote in vero guardandola avreste potuto vedere che era una ragazza che aveva dimenticato come sorridere suggeriva qualcosa di simbolico tratto da materling ho rimesso in ordine il tuo studio zio clarence replicò stancamente era in una confusione terribile lord emsworth si contorse come un uomo di radicate abitudini che è stato abbastanza docile dal lasciare che una piccola madre entrasse nel suo studio mentre era voltato da un'altra parte ma che continuava coraggiosamente a sembrare allegro ho parlato con frederick al telefono sì gertrude sospirò e un vento desolato sembrò soffiare nella sala la tua cravatta è storta zio clarez mi piace storta disse sua signoria arretrando ho una notizia per te un amico di frederick sta venendo qui in visita si chiama mi sembra pop joy così alla fine avrei un po di compagnia non voglio compagnia di giovani oh su mia cara lo guardò pensosamente con grandi occhi tristi le sfuggì un altro sospiro deve essere meraviglioso essere vecchi come te zio clarence disse sua signoria sussultando sentire che c'è solo un breve breve passo per la quieta tomba per l'ineffabile pace della sepoltura a me la vita sembra stendersi infinita davanti come un lungo e polveroso deserto 23 anni ecco quanto ho solo 23 anni e tutti in famiglia vivono fino a 60 cosa vuoi dire con 60 chiese sua signoria col calore di un uomo vicino al suo compleanno il mio povero padre aveva 77 anni quando fu ucciso sul campo di caccia mio zio rovert ha vissuto fin quasi a 90 anni mio cugino claude aveva 84 anni quando si è rotto il collo cercando di saltare a cavallo un ostacolo a cinque sbarre il fratello di mia madre alistair basta disse la ragazza con un lieve brivido basta fa sembrare tutto così terribile e privo di speranza sì quella era gertrude e secondo l'opinione di lord emsworth aveva bisogno di compagnia le reazioni di lord emsworth al giovane pop joy quando lo incontrò per la prima volta in salotto prima di cena furono all'inizio totalmente favorevoli l'amico di suo figlio era una persona straordinariamente grande e forte con una faccia franca aperta cordiale del colore dell'interno del salmone e sembrava un po nervoso quella tuttavia era una cosa a suo favore era sentiva sua signoria una piacevole sorpresa scoprire in uno della giovane generazione un'emozione così insolita come la timidezza li perdonò perciò l'altro vizio di ridere istericamente tutte le volte che il soggetto in discussione era quello non irresistibilmente ridicolo dei pidocchi nel giardino delle rose lo scusò perché sembrava trovare qualcosa di incredibilmente comico nell'affermazione che il barometro saliva e quando balzando in piedi all'ingresso di gertrude il giovane effettuò alcuni passi complicati insieme a un tavolo coperto di porcellane fotografie incorniciate si unì all'allegria che questo fatto provocò non solo al visitatore ma in realtà anche alla stessa gertrude sì per quanto sembrasse sorprendente sua nipote gertrude nel vedere questo giovane pop joy era ad un tratto scoppiata in un'allegra risata la tristezza delle ultime due settimane sembrava scomparsa rideva proseguirono a cenare in una perfetta tempesta di allegria piuttosto come un coro di simpaticoni che chiudano un numero concertato in un'opera comica dei vecchi tempi e a cena il giovanotto aveva rovesciato la minestra rotto un bicchiere da vino e quasi fatto un'altra caduta spettacolare quando era balzato in piedi alla fine del pranzo per aprire la porta al che gertrude aveva riso e il giovanotto aveva riso e sua signoria aveva riso anche se forse non così cordialmente come i giovani perché il bicchiere da vino era stato di un servizio cui teneva molto tuttavia pesando costi e benefici mentre sorseggiava il suo porto trovò che la bilancia pendeva dalla parte giusta vero si era preso in casa quello che sembrava un acrobata mezzo matto ma ogni amico di suo figlio frederick doveva per forza essere debole di mente e dopo tutto la gran cosa era che gertrude sembrava apprezzare la compagnia del nuovo venuto pensava con soddisfazione a una successione di giorni di pace pace perfetta con i suoi cari lontani giorni in cui avrebbe potuto lavorare in giardino senza la paura che lo aveva ossessionato nelle ultime due settimane di trovare sua nipote depressa accanto a lui che gli chiedeva se riteneva saggio stare così sotto il sole caldo aveva ora una compagnia che l'avrebbe impegnata altrove l'opinione di sua signoria delle deficienze mentali del suo ospite fu rinforzata quella stessa sera più tardi quando udendo dei passi sulla terrazza mise la testa fuori e lo scoprì in piedi sotto la sua finestra che vi lanciava baci alla vista del suo anfitrione apparve un po confuso bella serata disse con la sua solita risata da iena io pensavo piuttosto cioè c'è qualche problema no 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 grazie no 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 io sono solo uscito per una passeggiata lord emsworth ritornò a letto un po pensoso forse qualche premonizione di quello che doveva capitare affliggeva la sua mente subconscia perché mentre scivolava sotto le lenzuola rabbrividì ma gradualmente mentre si addormentava la sua equanimità fu recuperata guardando le cose con lo spirito giusto sarebbe potuto andare peggio dopo tutto sentiva mentre la nebbia del sonno stava iniziando ad esercitare la sua solita benefiche influenza avrebbe potuto ospitare al castello di blendings uno dei suoi nipoti o una delle sue sorelle o addirittura anche se questo pensiero era morboso il suo figlio minore frederick in materia in cui si tratta di sfumature di sentimento non è sempre facile per lo storico essere preciso come vorrebbe e gli vuole mantenersi fedeli ai fatti eppure non può cogliere un particolare momento del tempo fissarlo per l'esame dei posteri e dire questo fu il momento in cui lord emsworth per la prima volta si trovò a desiderare che il suo ospite facesse un capitombolo da una delle finestre del piano superiore e si rompesse il collo a sua signoria sembrò che questo datasse fin dall'inizio della sua costante veglia sognante diurna ma non fu così quando la seconda mattina della visita dell'altro il gong del lunch li aveva trovati a colloquio nella biblioteca e il giovanotto balzando in piedi aveva teso una mano grossa come un prosciutto e mettendola sotto il braccio del suo anfitrione gentilmente lo aveva aiutato ad alzarsi lord emsworth era stato compiaciuto della cortese attenzione ma quando quel tipo fece la stessa cosa un giorno dopo l'altro una sera dopo l'altra ogni volta che lo scovava seduto quando gli offrì un braccio per aiutarlo ad attraversare la stanza quando lo assiste lungo le scale lungo i corridoi per sentieri per uscire dalla stanza e per infilarsi l'impermeabile quando gli toglieva oggetti dalle mani per portarli lui quando giungeva al galoppo dalla casa in serate umide carico di sciarpe berretti e coperte beh allora il fiero spirito di lord emsworth si ribellò era un rude vecchio gentiluomo e come la maggior parte dei rudi vecchi gentiluomini non gli piaceva che i giovani lo ritenessero un rudere pateticamente inerme che strisciava per terra aspettando la fine era stato già abbastanza duro quando gertrude faceva la piccola madre questo era infinitamente peggio apparentemente aveva concepito per lui una di quelle devozioni irragionevoli e sopraffacenti e questo giovane pop joy li stava attaccato più di un fratello e per la prima volta lord emsworth iniziò ad apprezzare quali dovevano essere stati i sentimenti di quella mary che aveva suscitato un simile attaccamento nel cuore del suo agnellino era come se fosse stato un antico abitante caduto in mezzo ad una squadra di boy scout che facevano tutti simultaneamente la loro buona azione e se ne risentiva con indescrivibile amarezza si può bene illustrare il suo stato mentale dicendo che durante l'ultima fase se fosse stato chiamato a scegliere tra il suo ospite e ser gregory parslo parslo come compagno per una passeggiata estiva nei boschi avrebbe scelto ser gregory e poi al culmine di tutto questo avvenne l'episodio della scala l'onorevole freddy tripud che aveva deciso di fare una scappata a casa per vedere come stavano andando le cose apprese da sua cugina gertrude i dettagli di questo piuttosto sfortunato evento gli andò incontro alla stazione di market blendings e lui capì che lei aveva qualcosa in mente non era ritornata decisamente a metterli in chiana ma c'era del dolore nei suoi begli occhi e freddy ritenendo giustamente che con un cervellone come lui a dirigere i destini di lei essi avrebbero dovuto contenere solo gioia e sole fu disturbato da questo non dirmi che il vecchio ha mangiato la foglia disse ansiosamente gertrude sospirò ebbene sì e no cosa vuoi dire con sì e no se ben attuato il piano non può fallire questo indica qualche negligenza da qualche parte il vecchio biffer se si è ingraziato il capo si pendeva dalle labbra del capo si interessava i suoi progetti gli rendeva dei piccoli servizi santo cielo dopo due settimane il capo ora dovrebbe guardarlo come un maiale da competizione perché no non ho detto che non sia andata così fino ad oggi pomeriggio pensavo che le cose andassero bene comunque rupert dice che ha spesso scoperto lo zio clarence a guardarlo in una specie di modo adorante ma quando oggi pomeriggio è accaduta questa cosa temo che non sia stato molto contento quale cosa la storia della scala è andata così rupert ed io siamo andati a fare una passeggiata dopo pranzo e quando lo avevo persuaso che doveva andare a cercare lo zio clarence per ringraziarselo zio clarence era scomparso perciò rupert lo ha cercato in giro per molto tempo e alla fine ha udito un rumore di forbici e lo ha trovato lontanissimo in cima a una scala che stava potando un qualche albero con un paio di cesoie perciò rupert ha detto oh siete qua e zio clarence ha detto che si era là e rupert ha detto ma è giusto che vi stanchiate non volete lasciare che lo faccia io la nota giusta disse freddy con approvazione assiduità zelo ebbene ebbene zio clarence ha detto no grazie rupert ha pensato che rispondesse vi ringrazio ed è rimasto là per un po a parlare e poi improvvisamente si è ricordato e ha detto a zio clarence che tu avevi appena telefonato e che sta vivenendo stasera e pensò che zio clarence dovesse aver avuto un crampo qualcosa del genere perché ha fatto un gemito dice rupert e ha tremato ovunque questo ha fatto barcollare la scala ovviamente perciò rupert si è lanciato avanti per tenerla e non sa com'è successo ma improvvisamente sembrata chiudersi come un paio di forbici e un attimo dopo ha visto zio clarence seduto sull'erba non molto contento dice rupert si era un po storto la caviglia ed era un po scosso e nel complesso dice rupert non stava molto bene dice rupert che crede di aver perso un po di terreno nelle sue grazie freddy pensò aggrottando le sopracciglia stava provando un dolore simile a quello del generale che dopo essersi fatto in quattro per progettare una grande campagna scopre che le sue truppe non sono state all'altezza di portarla a termine è davvero un peccato che sia accaduto uno dei vicari qua vicino ha appena saputo dal dottore che deve andare nel sud della francia e il suo beneficio lo deve decidere lo zio clarence se solo potesse averlo rupert potremmo sposarci tuttavia ha comprato allo zio clarence una lozione freddy sussultò un'espressione più allegra comparve sulla sua faccia seriamente preoccupata lozione per la sua caviglia non avrebbe potuto far meglio disse calorosamente freddy oltre che mostrarsi col cuore contrito ha dato una medicina al capo e le medicine sono per il capo quello che è l'erba gatta per il gatto lui ama sopra ogni cosa le automedicazioni da dottore dilettante di regola le prova su qualcun altro due anni fa diede a una delle cameriere un unguento per i geloni e lei andò in giro per la casa orlando ma indubbiamente ora che è accaduta questa emergenza gli sarà ugualmente gradito trattare se stesso il vecchio beefers ha fatto la mossa giusta nel predire che lord emsworth avrebbe apprezzato il dono della lozione freddy aveva parlato con un'infallibile conoscenza del carattere di suo padre il proprietario di blendings era uno di quegli svagati vecchi gentiluomini che sono felicissimi nello sperimentare strani medicamenti in un'età di minor censura sarebbe stato un borgia fu solo dopo che si fu ritirato per andare a dormire che scoprì la bottiglia incartata sul tavolino accanto al letto allora ricordò che quella peste di pop joy aveva borbottato qualcosa a cena sul fatto di comprargli qualcosa per la caviglia storta strappò la carta ed esaminò il contenuto della bottiglia con viva soddisfazione il liquido era grigio e scorreva piacevolmente quando lo si scuoteva il nome sull'etichetta balsamo di blake gli era nuovo e questo in sé era già una raccomandazione la caviglia aveva smesso da un po di fargli male e a qualcuno questo sarebbe sembrato un argomento contro lo sporcarsi con quel balsamo ma non al lord emsworth se ne versò una dose generosa nel palmo della mano lo annusò aveva un odore forte robusto rinvigorente passò i cinque minuti successivi a strofinarlo pensosamente poi spense la luce e andò a dormire è la palissiano dire che al mondo come è costituito al presente poche cose hanno conseguenze di lunga portata quanto il fatto di nascere lord emsworth lo aveva probabilmente sospettato ma doveva ora riceverne una prova diretta se fosse nato come un cavallo invece che come un erede di un titolo di conte quella lozione sarebbe stata giusta per lui era per cavalli anche se il reverendo robert bingham aveva omesso di notarne il fatto che blake aveva inteso il suo balsamo e chiunque avesse avuto anche una conoscenza superficiale dei cavalli e dei conti sa che tra di loro c'è un'importante differenza e che questi ultimi hanno pelli più sensibili svegliandosi alle due meno un quarto da sogni in cui veniva bruciato al palo da pelle rossa lord emsworth scoprì di soffrire di un acuto dolore nella gamba destra fu un po sorpreso non aveva supposto che quella caduta dalla scala lo avesse offeso a tal punto tuttavia essendo un buon dottore dilettante sopportò coraggiosamente e fece passi immediati per affrontare il problema dopo aver scosso la bottiglia fino a farla schiumare si strofinò con altra lozione gli venne in mente che la precedente applicazione forse era stata troppo sommaria perciò stavolta la fece in modo più completo strofinò per circa 20 minuti poi cercò di dormire la natura ha creato alcuni uomini di pensiero più rapido di altri lord emsworth era uno di quei cervelli lenti solo alle 4 del mattino lo raggiunse la verità quando accadde stava proprio per applicarsi alla gamba una quinta dose del balsamo si fermò bruscamente rimise il tappo alla bottiglia e saltato giù dal letto zoppicò al rubinetto dell'acqua fredda e vi mise sotto quanto di se stesso riusciva a fare il sollievo fu percepibile ma transitorio alle 5 era di nuovo fuori dal letto e ancora una volta alle 5 e mezzo alle 6 meno un quarto riuscendo ad addormentarsi godete di un sonno leggero che durò fino a pochi minuti dopo le 8 poi si svegliò come se avesse suonato una sveglia e capì che dormire ancora era fuori questione si alzò dal letto e sbirciò fuori dalla finestra era una bella mattina aveva piovuto la notte e un mondo che sembrava appena pulito brillava sotto un sole radioso i cedri gettavano la loro ombra su prati verdi e curati le cornacchie gracchiavano dolcemente i tordi gorgheggiavano nel loro modo liquido e musicale e l'aria era piena di un ronzio estivo tra i molti rappresentanti del mondo degli insetti lord emsward notò varie grosse zanzare oltre la terrazza scintillanti tra gli alberi brillavano le acque del lago sembravano chiamarlo come una tromba anche se aveva trascurato quella pratica di recente non c'era niente che a lord emsward piacesse più di un bagno prima di colazione e quel giorno qualsiasi cosa della natura dell'acqua aveva un'attrattiva particolarmente potente per lui il dolore nella sua caviglia ora aveva lasciato il posto ad un pulsare sordo e gli sembrava che una nuotata avrebbe potuto allontanarlo del tutto messosì il costume da bagno e le ciabatte prese l'accappatoio dall'armadio e scese le bellezze di una bella estate inglese sono così numerose che è scusabile in un uomo se non le note immediatamente tutte solo quando l'acuta agonia del primo tuffo fu passata e stava galleggiando in mezzo al lago lord emsward realizzò che in qualche modo straordinario aveva trascurato quella che era indiscutibilmente la cosa migliore che questa mattina perfetta aveva da offrirgli guardando dalla sua finestra aveva osservato il sole le ombre gli uccelli gli alberi gli insetti ma aveva omesso di apprezzare il fatto che da nessuna parte in questo mondo magico che si apriva davanti a lui c'era traccia del suo giovane ospite pop joy per la prima volta in due settimane sembrava che lui fosse totalmente solo e libero galleggiando sul dorso e osservando il cielo turchese lord emsward si eccitò a quel pensiero tirò due calci sportivamente in uno spasmo di pura felicità all'estasi di quel momento dorato solo la musica il mistico linguaggio dell'anima poteva realmente rendere giustizia un istante dopo lacerò vibrando la quieta estiva che avvolgeva il castello di blendings un lamento improvviso che sembrò indicare che un essere umano era in pericolo di vita era la voce di lord emsward che si alzava in un canto era un suono terrificante calcolato per stupire i più forti e due api che ronzavano attorno alla lavanda si fermarono come una sola ape e si guardarono l'un l'altra a sopracciglia alzate nella cosa stupì solo loro delle lumache si ritrassero nel guscio uno scoiattolo che faceva esercizi callistenici sul cedro quasi cadde dal suo ramo e risalendo di un gradino nel regno animale il reverendo robert bingham in piedi dietro i cespulli di rododendri che si chiedeva quanto ci sarebbe voluto prima che la ragazza che amava fosse venuta all'appuntamento sussultò violentemente lasciò cadere la sigaretta e strappatasi via la giacca corse in riva al lago in mezzo al lago il trasporto di lord emsward continuava come prima i suoi piedi danzanti calciavano in una nube di schiuma i suoi occhi miopi ma scintillanti guardavano l'azzurro la sua voce crebbe fino a un grido ritmato amami cantò lord emsward e il mondo è mio va tutto bene gli disse una voce all'orecchio mantenete la calma restate calmo l'effetto di una voce che parlava all'improvviso come venisse dal vuoto è sempre anche in questi giorni di telegrafo senza fili sconcertante per un uomo fosse stato sulla terra ferma lord emsward avrebbe fatto un salto essendo immerso in dieci piedi di acqua andò sotto come se una mano l'avesse spinto provò un senso momentaneo di soffocamento e poi una mano lo afferrò dolorosamente per la parte carnosa del braccio e lui si ritrovò di nuovo in superficie sputando mantenetevi calmo mormorò la voce non c'è pericolo e poi riconobbe di chi fosse la voce c'è un punto in cui il cervello umano perde la sua connessione con l'infinito e diviene una semplice massa di passioni deleterie i malesi quando vengono spinti oltre questo punto tolgono il vecchio chris dal fodero ed escono per uccidere i nemici le donne hanno crisi isteriche i conti se lord emsward può essere preso come esempio tirano indietro i loro pugni destri e li lanciano violentemente in avanti per quanto lo permettono la loro età e il fisico per due lunghe settimane lord emsward aveva sopportato questo giovanotto pestinenziale con un apparente nonchalance ma ora non ce la faceva più le emozioni soppresse sono sempre le più pericolose un po per volta giorno dopo giorno si era lentamente trasformato in un vulcano umano e questo finale oltraggio lo aveva scoperchiato si infuriò con un senso di offesa intollerabile non bastava che questo impiastro di giovanotto dovesse stargli accanto sulla terra ferma doveva anche inseguirlo nella distesa d'acqua e venire ad attaccarlisi quando si stava godendo la migliore nuotata di quell'estate in tutta la loro lunga e onorevole storia nessun membro della sua antica famiglia aveva fino ad ora dimenticato i sacri obblighi dell'ospitalità al punto da tirare ad un ospite un pugno nell'occhio ma non aveva mai avuto ospiti come questo con un ringhio breve appassionato lord emsward estrasse la mano destra dalla schiuma la chiuse a pugno la caricò indietro e poi la fece andare non avrebbe potuto fare una mossa più imprudente se c'era una cosa che il reverendo rupert bingham che ai suoi tempi aveva nuotato per oxford sapeva era quello che si deve fare quando un uomo che sta negando si mette a lottare qualcosa che avrebbe potuto essere una gamba di montone molto dura e nodosa colpì violentemente lord emsward dietro l'orecchio il sole si spense uscirono le stelle molte di esse di un singolare splendore ci fu un rumore di acque che scorrono e non seppe altro quando lord emsward ritornò in sé era sdraiato nel suo letto e poiché sembrava un ottimo posto in cui stare vi rimase la testa gli doleva abominevolmente ma questo quasi non lo notò tanto occupato era quei pensieri che si risvegliavano in lui rifletteva su quel giovanotto pop joy meditava su ser gregory parslo parslo e si chiedeva di tanto in tanto chi dei due e gli fosse più antipatico era un problema quasi troppo complesso per avere una soluzione umana qui da una parte c'era un uomo che vi aveva impestato per due settimane e colpito fin quasi ad uccidervi mentre facevate il bagno ma che non rubava guardiani di porci là dall'altra parte uno che rubava guardiani di porci ma che si asteneva dall'assalire realmente le persone chi poteva sperare di avere sulla sua bilancia un paio del genere si era appena ricordato della lozione e si stava chiedendo se questo non potesse essere considerato il fattore decisivo in questa gara per la posizione della prima peste mondiale quando la porta si aprì e l'onorevole freddy tripod si insimò nella stanza salve capo ebbene frederick come ti senti malissimo avrebbe potuto andar peggio sai una tomba d'acqua e tutto il resto disse lord emsworth ci fu una pausa freddy vagando per la stanza giocherellò con una sedia un vaso una spazzola un pettine una scatola di fiammiferi poi ritornando sui suoi passi ci giocherellò di nuovo in ordine inverso infine arrivò ai piedi del letto di suo padre e ci si lasciò cadere come sembrò all'occhio pieno di pregiudizi del sofferente un qualche animale spaventoso su una staccionata dico capo ebbene frederick scampata bella sai puoi ringraziare il tuo coraggioso salvatore lord emsworth afferrò il copriletto se quel giovanotto mi viene vicino disse non sarò responsabile delle conseguenze e freddy lo fissò non ti piace piacermi penso che sia il giovanotto più spaventoso che abbia mai conosciuto è consuetudine quando si fanno delle simili affermazioni fare eccezioni sui presenti ma lord emsworth era così profondamente convinto del soggetto che omise di farlo freddy avendo annunciato che era stupito si allontanò dal letto e vagando ancora per la stanza giocherellò con uno spazzolino da denti un piattino del sapone una scarpa un volume sui bulbi primaverili e un fermacolletti dico capo ebbene frederick va tutto benissimo sai capo disse l'onorevole freddy tornando al suo posto e sembrando trarre sostegno morale dalla sensazione della testiera del letto ma dopo tutto quello che è accaduto mi sembra che dovresti essere ben contento di dare il tuo assenso all'unione se capisci cosa voglio dire unione di che stai parlando quale unione gertrude il vecchio beefers chi diavolo è il vecchio beefers o ho dimenticato di dirtelo questo pop joy non si chiama pop joy è bingham il vecchio beefy bingham sai il tipo che la zia georgie non vuole che sposi gertrude ritorna indietro con la mente l'hanno mandata blendings per tenerla lontana da lui e io ho avuto l'idea di mandare lui qui in incognito per entrare nelle tue grazie il piano era che quando tu avresti imparato ad amarlo gli avresti ceduto un vicariato vacante e così lui avrebbe potuto sposarsi beefers è un parroco sai lord emsworth non parlava non era tanto lo shock di questa rivelazione che l'uomo toliva quanto la stupefacente scoperta che un qualsiasi uomo volesse davvero sposare gertrude e che una qualche ragazza volesse sposare questo pop joy come molti pensatori prima di lui stava sentendo che non c'è realmente alcun limite all'eccentricità dei gusti umani la cosa gli fece girare la testa ma quando ebbe cessato di girare sentì che questo era solo un aspetto della cosa davanti a lui c'era un uomo che gli aveva inflitto pop joy e con qualcosa del re liar nel suo atteggiamento lord emsworth si alzò lentamente sui cuscini le parole tremavano sulle labbra ma le respinse perché non erano abbastanza forti e ne cercò altre nella mente sai capo proseguì freddi non c'è niente che ti impedisca di fare la cosa giusta e legare due giovani cuori col sacro legame del matrimonio se lo vuoi voglio dire il vecchio break weight di match matchingham deve andare nel sud della francia per ordine del medico perciò c'è un beneficio che devi dare a qualcuno lord emsworth riaffondò sui cuscini match matchingham oh dannazione devi conoscere match matchingham capo è proprio dietro l'angolo dove vive il vecchio parsloe match matchingham lord emsworth stava ammiccando come se i suoi occhi avessero visto una luce abbagliante quanto sbagliava sentiva quanto sbagliava maledettamente quanto aveva mancato di fede nel pensare nella sua follia che la provvidenza non offra nessun mezzo di vendetta al giusto i cui guardiani di porci sono stati persuasi dai rifiuti dell'umanità a lasciare il loro impiego e a cercare altrove salari maggiori la coscienza non rimordeva ser gregory parslo parslo e la legge nel suo stato presente imperfetto era impotente a punire ma c'era un altro mezzo con questo pop joy o bingham o comunque si chiamasse permanentemente stabilito a meno di cento metri dal cancello del suo parco sarebbe riuscito ser gregory parslo parslo a tirare mai un respiro veramente libero da preoccupazioni dalla sua breve ma sufficiente conoscenza con questo bingham o pop joy lord emsworth pensava di no la punizione era severa ma chi poteva dire che ser gregory non l'avesse meritata un'idea ammirevole disse lord emsworth cordialmente certamente darò al tuo amico il beneficio di match matching gum davvero decisamente ben fatto capo disse freddy ecco la luce il pigliatutto sulla fronte solitamente priva di preoccupazioni dell'onorevole freddy tripwood mentre passeggiava nei giardini del castello di blendings c'era il lieve ma ben marcato cipiglio di chi non è tranquillo era piena estate e i giardini erano al massimo della loro bellezza ma egli sembrava non trovare sollievo nel loro splendore le calceolarie che avrebbero strappato senili gridolini e statici a suo padre lord emsworth lo lasciavano freddo osservò le lobelie con sguardo assente come se stesse evitando una conoscenza sgradita ad ascot quello che stava turbando questo giovanotto era la continua resistenza all'acquisto da parte di sua zia georgiana dopo il suo matrimonio con l'unica figlia dei biscotti per cani donaldson di long island city new york freddy tripwood si era gettato anima e corpo nella promozione delle vendite della ditta e mandato a casa in inghilterra per cercare prospettive simili aveva visto in georgiana lady alcester come è già stato detto una cliente che rasentava l'ideale padrona di quattro pechinesi due pomerania un terrier yorkshire cinque sealy hams un borzoi e un airdale era una donna che contava qualcosa nei circoli degli amanti per cani assicurarsi il suo sostegno sarebbe stata una gran cosa per lui lo avrebbe identificato come una persona attiva e un pigliatutto avrebbe fatto un grande piacere a suo suocero e il proprietario della gioia del cane donaldson era un uomo che quando era appena compiaciuto aveva l'abitudine di spargere assegni da 5.000 dollari come un geyser e fino a quel momento nonostante tutta la sua eloquenza cinicamente dimentica dei legami di parentela e dei sacri obblighi che comportano lady alcester si era rifiutata di mettere la firma sulla linea tratteggiata preferendo avvelenare i suoi animali con qualche rifiuto degradato chiamato se ricordava bene il cibo per cani peterson uno sbuffo amaro sfuggì a freddi stava ancora eccheggiando nel giardino quando scoprì di non essere più solo era stato raggiunto da sua cugina gertrude ehi là disse freddi amabilmente gli piaceva gertrude e non le rimproverava di avere una madre che era incapace di riconoscere un buon biscotto per cani quando ne vedeva uno tra lui e lei esisteva da tempo una solida alleanza era a lui che gertrude si era rivolta per aiuto quando la famiglia aveva cercato di impedire il suo fidanzamento col buon vecchio beefy bingham e lui aveva fornito assistenza al punto che il fidanzamento era ora un fatto accettato e proseguiva bene freddi disse gertrude mi presti la tua macchina certamente decisamente vai a vedere il vecchio beefers no disse gertrude e un osservatore più attento di suo cugino avrebbe potuto notare nei suoi modi un filo di imbarazzo mr watkins vuole che lo porti a shrewsbury no bene vai per quello che mi riguarda non hai visto da nessuna parte tua madre è vero penso che sia seduta sul prato ah davvero perfetto grazie freddi si allontanò nella direzione indicata e vide subito la sua parente seduta come descritto leardel era sdraiato ai suoi piedi uno dei pechinesi le stava in grembo e lei stava guardando lontano in modo preoccupato come se lei come suo nipote avesse un peso sulla mente né chi avesse dedotto questo dal suo atteggiamento si sarebbe sbagliato lady alcester era turbata una donna che era loco parentis per 14 cani doveva necessariamente avere le sue preoccupazioni ma non erano i suoi muti amici che preoccupavano ora lady alcester quello che la stava turbando era il comportamento inquietante di sua figlia gertrude fidanzata al reverendo robert bingham gertrude le sembrava recentemente essersi infatuata di orlo watkins il tenore leggero uno di quei giovanotti dotati che lady constance kiebel la castellana di blendings invitava così volentieri per lunghe visite estive sul soggetto del reverendo robert bingham le vedute di lady alcester erano di recente completamente cambiate all'inizio la prospettiva di averlo come genero l'aveva rattristata e inquietata poi scoprendo improvvisamente che era il nipote ed erede dell'armatore più ricco che fosse mai sbarcato alla delphi hotel di liverpool era passata dagli abissi alle vette più alte adesso era fortemente pro bingham gli sorrideva generosamente per la sua nomina al vicariato vacante di match matchingham il villaggio vicino a market blendings aveva portato gertrude al castello così che i due giovani potessero vedersi spesso e invece di vedere spesso il suo fidanzato gertrude sembrava preferire andare a spasso con questo orlo watkins il tenore leggero da giorni erano inseparabili ora tutti sanno come sono questi tenori leggeri demoni pericolosi si siedono al piano e guardano negli occhi una ragazza e cantano con una voce che sembra del gas che esce da un tubo di amore e chiar di luna e tu prima che uno se ne accorga la ragazza ha mollato il meritevole giovane prelato con prospettive qui si è fidanzata e scappa con un uomo i cui soli mezzi di sussistenza consistono di ingaggi precari con la british broadcasting corporation se una madre non è giustificata nel rabbrividire ad una simile prospettiva sarebbe interessante sapere per cosa debba rabbrividire lady al sester allora procedette a rabbrividire e stava ancora rabbrividendo quando la pigra pace estiva fu rotta da un terribile ruggito il pechinese l'herdel avevano parlato simultaneamente e alzando gli occhi lady al sester vita e sua nipote frederick che si avvicinava e ciò che la fece rabbrividire nuovamente fu il fatto che negli occhi di freddi notò con sconcerto il familiare bagliore del pigliatutto il vecchio brillio del biscotto per cani comunque come a volte era stata la sua esperienza quando veniva messa alle strette da sua nipote sapeva di poter arginare la marea parlando rapidamente di altri soggetti fece quindi un tale valoroso sforzo hai visto gertrude freddi chiese sia preso in prestito la mia macchina per andare a shrewsbury da sola no accompagnata da watkins l'ululatore un altro spasmo scosse lady al sester freddi disse sono terribilmente preoccupata preoccupata per gertrude freddi liquidò gertrude con un gesto non c'è bisogno che ti preoccupi per lei disse quello di cui devi preoccuparti sono questi i tuoi cani hai visto come mi hanno abbaiato nervi sono una massa di nervi e perché cibo inadatto finché insisti erroneamente a dar loro il cibo per cani peterson che manca di molte vitamine essenziali fino ad allora continueranno ad agitarsi tutte le volte che vedono un essere umano all'orizzonte ora proseguendo quello di cui parlavamo stamattina zia georgiana c'è una piccola dimostrazione che vorrei non puoi dirle qualcosa freddi a chi a gertrude sì immagino che potrei dirle qualcosa che cosa sta frequentando troppo questo watkins ebbene anche io se è per questo e così chiunque lo veda più di una volta sembra avere dimenticato completamente che è fidanzata a rupert bingham rupert bingham hai detto disse freddi con improvvisa animazione ti dirò qualcosa su rupert bingham ha un cane di nome bottles che è stato nutrito fin da piccolo con la gioia del cane donaldson e vorrei che tu lo vedessi grazie alle proprietà ossificanti della gioia del cane donaldson scoppia di salute un bel cane con occhi che brillano per la gioia di vivere e con i piedi ben piazzati per terra un onore per il suo padrone non mi importa del cane di rupert deve importarti del cane di rupert non puoi permetterti di ignorarlo è un cane da conoscere un cane che conta e grazie alla gioia del cane donaldson io non voglio parlare della gioia del cane donaldson io sì voglio darti una dimostrazione puoi non saperlo zia georgiana ma in america il modo con cui pubblicizziamo questo prodotto così ricco di vitamine che formano le ossa è il seguente istruiamo il nostro dimostratore a stare in piena vista e quando il pubblico è di dimensioni sufficienti prende un biscotto ne stacca un pezzo e lo mastica in questo modo proviamo che la gioia del cane donaldson è così superbamente sana da essere adatta anche al consumo da parte degli uomini il nostro dimostratore non solo mangia il biscotto gli piace se lo rotola con la lingua lo mastica e lo mescola con la sua saliva freddi per favore con la sua saliva ripete freddi fermamente e così fa il cane mastica il biscotto gli piace diventa un cane più grosso e migliore ora mangerò la gioia del cane donaldson e davanti allo sguardo nauseato della zia proseguì in quella triste impresa era una dimostrazione impressionante ma fallì in un particolare per averla resa perfetta non avrebbe dovuto tossire la mancanza di esperienza causò il disastro lunghi anni di allenamento preparavano gli esperti dimostratori della gioia del cane donaldson iniziavano a poco a poco con chiudini e pezzi di ferro e dopo essere passati dai cereali per il breakfast erano poi pronti per il grande sforzo freddi era un novizio cercando di arrotolare il pezzo di biscotto con la lingua se lo lasciò scappare nella trachea la sensazione di aver inghiottito un misto di mattoni e sabbia fu seguita da un lungo e doloroso accesso di tosse e quando alla fine gli occhi del sofferente si schiarirono nessuna forma umana fu incontrata dal suo sguardo c'era il castello c'era il prato c'erano i giardini ma Lady Alcester era scomparsa tuttavia è un fatto ben stabilito che gli uomini buoni come biscotti per cani donaldson sono difficili da buttar giù circa 50 minuti dopo mentre il reverendo robert bingham sedeva nel suo studio al vicariato a matchingham la cameriera non c'è un visitatore l'onorevole freddi tripwood entrò zoppicando sembrando affaticato ehi la bifers disse sono venuto a chiederti se puoi prestarmi bottles si chinò sull'animale che era sul tappeto davanti al camino e gli diede due colpetti educati nelle costole bottles agitò una lunga coda in segno di breve riconoscimento era un bel cane anche se di razza incerta sua madre era stata una bellezza popolare con molto sex appeal e la questione della sua paternità avrebbe fatto sporgere le labbra per la perplessità a un collegio genealogico o salve freddi disse il reverendo robert il giovane pastore di anime parlò con voce assente era accigliato è un fatto singolare e che mostra proprio che tipo di mondo sia questo che delle quattro fronti presentate fino ad ora al lettore di questa cronaca tre fossero preoccupate e se le ragazze avessero una coscienza anche quella di gertrude sarebbe stata corrugata dandoci una mano piena prendi una sedia disse il reverendo robert prenderò un divano disse freddi facendolo mi sento un po stanco ho dovuto farla a piedi fino qui cos'è accaduto alla tua macchina l'ha presa gertrude per accompagnare watkins a shrewsbury il reverendo robert sedette per un po pensieroso la sua faccia che era larga e rossa aveva uno sguardo abbattuto anche il corpo massiccio che gli aveva conquistato a oxford un posto tra i vogatori dava l'illusione di essersi ristretto era così marcato il suo disagio che perfino freddi lo notò c'è qualcosa che non va a beefers chiese per tutta risposta il reverendo robert bingham allungò una mano come un prosciutto che teneva una lettera era scritta con larga calligrafia femminile leggila da gertrude sì è arrivata stamani ebbene freddi completò la sua lettura e restituì il documento era preoccupato penso che sia quel tipo disse anche io è lunga disse freddi è confusa è piena di siamo sicuri e conosciamo bene quello che vogliamo e non sarebbe forse meglio ma penso che sia quel tipo non riesco a capire freddi si tirò su a sedere io sì disse ora capisco di cosa si stava preoccupando zia georgiana i suoi timori erano ben fondati quel serpente di watkins ti ha rubato gertrude pensi che gertrude sia innamorata di watkins sì e ti dirò perché è un ululatore e le ragazze ci cascano sempre con i cantanti hanno fascino non ho mai notato il fascino di watkins mi è sempre sembrato un impiastro e impiastro può anche essere beefers ciò nonostante sa come giocarsela non so perché sia così ma c'è un certo tipo di voce di tenore che agisce sulle ragazze come l'erba gatta su un gatto il reverento rupert respirò pesantemente capisco disse tutto il guaio è beefers proseguì freddi che watkins è romantico e tu non lo sei anche il tuo migliore amico non può dire che tu sia romantico solido sì romantico no e così sembra che non ci si possa far niente freddi riflette non riesci a immaginarti in una luce romantica come ebbene fermando per esempio un cavallo imbizzarrito e dov'è il cavallo disse freddi potrebbe essere una difficoltà vero il cavallo dov'è ci fu silenzio per qualche momento ebbene sia come sia disse freddi posso prendere in prestito bottles per cosa a scopo dimostrativo desidero esibirlo a mia zia georgiana così che possa vedere da sola a che vette di robustezza un cane può arrivare quando viene nutrito costantemente con la gioia del cane donaldson mi sta creando un sacco di problemi quella donna beefers sto provando tutti i trucchi che portano al successo un venditore e non servono ma ho la sensazione che se potesse vedere bottles e dargli dei colpetti nelle costole e notare la carne ferma e muscolosa allora potrebbe cedere lo porto con me allora benissimo grazie e riguardo al tuo problemino vi metterò tutta la mia attenzione vieni da noi dopo cena stasera penso di sì disse tristemente il reverendo rupert l'informazione che la sua impressionabile figlia vagava nella campagna in una macchina a due posti col pericoloso watkins era giunta come un tristissimo colpo su Lady Alcester mentre sedeva sulla terrazza un'ora dopo che freddi aveva iniziato lo stancante cammino di ritorno dal vicariato di matchingham il suo cuore era molto appesantito le ardell si era allontanato per qualche suo scopo privato ma il pechinese stava ancora dormichiandole in grembo lei invidiava il suo calmo distacco a lei il futuro sembrava nero e l'aria sembrava carica di presagi solo una cosa mitigava la sua depressione sua nipote frederick era scomparso altri importanti impiastri erano presenti come zanzare e cimici ma non frederick il parco del castello di blendings sembrava libero della sua presenza e perfino questa magra consolazione fu tolta alla donna già colpita zoppicando un po come se le scarpe li facessero male l'onorevole freddi svoltò dall'angolo della serra diretto nella sua direzione era accompagnato da qualcosa che aveva l'aspetto esterno di un cane ehi la zia georgiana ebbene freddi sospirò con rassegnazione Lady Alcester il pechinese aprendo un occhio osservò il giovanotto per un momento sembrando di battere dentro di sé sull'opportunità di abbaiare giunse apparentemente alla conclusione che era troppo caldo e si rimise a dormire questo è bottles disse freddi chi bottles l'animale di cui parlavo poco fa nota la struttura muscolare non ho mai visto un tale bastardo in vita mia i cuori gentili valgono più dei titoli nobiliari disse freddi il punto in questione non è il pedigree di questo cane che concedo non è tutto bark e devret ma il suo fisico nutrito esclusivamente con una dieta della gioia del cane donaldson camminamento alto franco e senza paura mi piacerebbe se non ti dispiace che tu venissi alle stalle e guardassi come se la cava coi ratti ti darà qualche idea avrebbe parlato ancora ma a questo punto accadde qualcosa come era accaduto nei suoi precedenti colloqui di vendita a sciupare l'effetto dell'oratoria di freddi il cane bottles durante questa conversazione aveva passeggiato su e giù nel modo indagatore tipico dei cani che si trovano in un territorio sconosciuto avevano usato gli alberi si era rotolato sul prato ora ritornando al centro delle cose osservava per la prima volta che sul grembo della donna seduta c'era qualcosa di particolare che cosa fosse bottles non lo sapeva sembrava essere vivo un intenso desiderio lo pervase di risolvere questo mistero per essere fedeli ai fatti avanzò verso la sedia ficcò un naso indagatore contro l'oggetto e inalò fortemente un attimo dopo con sua intensa sorpresa la cosa era saltata su come una bomba era balzata a terra e si stava muovendo rapidamente verso di lui bottles non esitò una baruffa con un suo simile lo deliziava era come se gli facesse venire l'acquolina in bocca ma questo era un caso diverso non aveva mai incontrato prima un pechinese e nessuno sarebbe stato più sorpreso di lui se fosse stato informato che questa cosa curiosa e pelosa era un cane la considerò come un atto divino e totalmente spaventato corse tre volte attorno al prato e cercò di salire su un albero fallendo in questa impresa infilò la sua ampia coda tra le gambe e svanì dalla scena lo stupore dell'onorevole freddy triput fu uguagliato solo dal suo dolore lady alcester aveva iniziato ora ad esprimere la sua opinione sull'incidente e i suoi sorrisetti il suo disprezzo le sue aperte allusioni erano dure da sopportare se diceva i clienti della gioia del cane donaldson si facevano cacciare in questo modo da un pechinese era felice di non aver mai ceduto al suggerimento di comprarlo è una fortuna disse lady alcester nel suo modo duro e beffardo che susan non sia un ratto immagino che un ratto avrebbe fatto venire un attacco di cuore a quel tuo bastardo bottles disse freddy rigidamente è particolarmente duro coi ratti penso per equità che dovresti venire alle stalle e dargli l'occasione di mostrarsi nella sua vera luce ho visto abbastanza grazie non verrai alle stalle a vederlo combattere coi ratti no in quel caso disse freddy tristemente non c'è altro da dire immagino che possa anche riportarlo al vicariato quale vicariato il vicariato di matchingham era il cane di rupert quello certo allora hai visto rupert certo l'hai avvertito di mister watkins era troppo tardi per avvertirlo aveva ricevuto una lettera da gertrude che gli dava il ben servito cosa ebbene diceva se era sicuro e se conoscevano cosa volevano ma puoi star sicuro che era un equivalente di ben servito ritornando tuttavia all'argomento di bottles zia georgiana penso che dovresti prendere in considerazione il fatto che nel suo recente incontro con il suddetto pechinese stava attraversando un'esperienza totalmente nuova e naturalmente non è apparso al meglio ripeto ancora una volta che dovresti vederlo coi ratti o freddy sì come puoi blatterare di questo disgraziato cane quando l'intero futuro di gertrude è in palio è semplicemente vitale che in qualche modo venga curata da questa terribile infatuazione ebbene le dirò qualcosa se vuoi ma se me lo chiedi penso che ormai sia troppo tardi watkins le ha ululato fin dentro l'anima tuttavia farò del mio meglio scusami zia georgiana da un cespuglio vicino la faccia onesta di bottles stava sporgendo sembrava cercare assicurazioni che fosse stato suonato il tutto libero fu allora del cocktail prima di cena che freddy ebbe la sua prima occasione di dire quel promesso qualcosa a gertrude il vero venditore piglia tutto non è mai battuto e mentre si spazzolava i capelli gli era venuta un improvvise brillante idea per realizzare la conversione di zia georgiana discese in salotto con una certa baldanza e vedendo gertrude si ricordò della sua missione la ragazza era seduta al piano giocando con note sognanti dico disse freddy due parole con te giovane gertrude cos'è tutto questo pasticcio che sento su te e beefers la ragazza rossì hai visto rupert ero nel suo studio con lui oggi pomeriggio mi ha detto tutto oh è parecchio abbattuto oh sì disse freddy è molto depresso quel poveretto e non lo biasimo con la ragazza con cui è fidanzato che va in giro a infatuarsi di tenori non ho mai sentito una cosa del genere da nazione che cosa ci vedi in questo watkins in cosa consiste la sua attrattiva certamente non nelle sue cravate sono terribili e lo stesso si applica tutto il suo abbigliamento sembra che abbia comprato i suoi vestiti a dei negozi di seconda mano e se questo non fosse abbastanza porta decisamente delle basette anche se corte non mi dirai che stai seriamente considerando di mollare un ragazzo d'oro come il vecchio beefers per un cantante con le basette ci fu una pausa gertrude suonò altre note sognanti non ho intenzione di parlarne disse non ti riguarda perdono disse freddy scusami se ritorni con la mente a quando beefers ti stava corteggiando puoi ricordare che sono stato io quello che ha sistemato tutto se non fosse stato per le mie risorse la mia genialità tu e quel vecchio ragazzo non vi sareste mai fidanzati mi considero perciò come un angelo custodio qualcosa del genere e come tale ho il diritto di sondare la questione fino in fondo ovviamente disse freddy so esattamente come ti senti vedo che hai fatto un errore fatale questo watkins ti ha lanciato il suo affascinante incantesimo e tu stai vedendo beefers come un pezzo di cacio poco romantico ma senti questo ragazza vorrei che tu non mi chiamassi ragazza senti questo vecchia mia si corresse freddy e sentilo bene beefers è a posto solido e fedele un uomo su cui contare mentre watkins se ho letto bene quelle basette è il tipo che ti lascia in asso durante una crisi e poi quando è troppo tardi verrai da me a piangere lacrime amare dicendo ah perché non me ne sono accorta in tempo e io risponderò tu disgraziata testona oh vai a vendere i tuoi biscotti per cani freddy gertrude riprese a suonare la bocca era stretta in una linea ostinata freddy la guardò con disapprovazione è qualche tara nel sangue disse eredità del ramo femminile come tua madre siete costituzionalmente incapaci di vedere la ragione testone tutte e due vendere i miei biscotti per cani dici come se non li avessi magnificati a zia georgiana fino a farmi seccare le labbra e con che risultato fino ad ora nessuno ma aspetta a vedere stasera è già stasera voglio dire aspetta stasera tardi osserva il mio piccolo esperimento quale piccolo esperimento cosa vuoi dire con ha solo ha disse freddy l'ora del caffè dopo cena trovò il castello di blendings apparentemente un luogo di pace l'osservatore superficiale sbirciando nel salotto ambrato attraverso le porte finestre che conducevano alla terrazza avrebbe detto che tutto andava bene per gli abitanti di questa imponente casa inglese lord emsworth sedeva in un angolo assorto in un volume che parlava dei trattamenti dei maiali in salute e in malattia sua sorella lady constance kibble stava cucendo la sua altra sorella lady alcester stava osservando gertrude gertrude stava osservando orlo watkins e orlo watkins stava osservando il soffitto e cantando con quella sua voce flautata un canto di rose l'onorevole freddy tripwood non era presente e solo questo fatto se si possono vedere le cose con gli occhi di suo padre lord emsworth sarebbe bastato a rendere un successo qualsiasi ritrovo eppure dietro questa superficie di pace correvano correnti di angoscia lady alcester che guardava gertrude si trovò preda della tristezza non le piaceva il modo con cui gertrude stava guardando orlo watkins gertrude da parte sua come il risultato del suo recente colloquio con l'onorevole freddy stava provando fitte di rimorso e di dubbio lady constance era ancora agitata a causa della franchezza della sorella lady alcester quella sera riguardo all'imbecillità di padrone e di casa che deliberatamente sguinzagliano nei castelli dei tenori leggeri e lord emsworth era in quello stato di petulante esasperazione che colpisce i vecchi gentiluomini sognanti che desiderando leggere di maiali trovano la loro concentrazione ostacolata da voci che cantano di rose solo orlo watkins era felice e poco dopo anche lui dovette unirsi ai ranghi dei tristi perché proprio mentre si lasciava andare affrontava quella canzone nel modo in cui dovrebbe essere cantata giunse dall'altra parte della porta il suono di un intenso abbaiare sembrava esserci un cane fuori e a parte il fatto che non gli piacevano e temeva tutti i cani un tenore si risente della competizione un attimo dopo la porta si era aperta e l'onorevole freddy tripwood apparve portava un piccolo sacco ed era accompagnato da bottles i cui modi mancavano notevolmente di tranquillità sulla faccia dell'onorevole freddy mentre avanzava nella stanza c'era quell'espressione cupa e ferma che si vede sempre nelle facce di quelli che stanno per mettere alla prova la loro fortuna con una mossa di o la va o la spacca la vecchia guardia waterloo aveva più o meno la stessa espressione perché freddy aveva deciso di giocarsi tutto con un solo gesto molti giovani uomini nella sua posizione avendo fallito con una zia che risolutamente si è rifiutata di andare alle stalle e guardare un cane che si redime tra i ratti si sarebbero rassegnati tristemente alla sconfitta ma freddy era fatto di una stoffa migliore zia georgiana disse tenendo il sacco verso cui bottles stava saltando in modo agitato ti sei rifiutata di venire alle stalle oggi pomeriggio per vedere in azione questo animale nutrito con la gioia del cane donaldson perciò non mi hai lasciato alternative ed ecco che sono dovuto venire sul tuo stesso terreno lord damsworth sollevò lo sguardo dal suo libro freddy smetti di blatterare e porta fuori quel cane lady constance sollevò lo sguardo dal suo cucito freddy se vieni qui entra e siediti e porta fuori quel cane lady alcester sollevando lo sguardo da gertrude mostrò anche una minore cordialità rispetto a quella che ci si sarebbe potuti aspettare da una zia oh vattene freddy sei veramente un fastidio e porta fuori quel cane l'onorevole freddy con un nobile sguardo disprezzo li ignorò tutti o qui zia georgiana disse alcuni semplici ratti se vuoi gentilmente uscire sulla terrazza sarò felice di darti una dimostrazione che penso convincerà anche la tua mente ostinata l'annuncio fu variamente accolto dai vari membri della compagnia lady alcester urlò lady constance corse a suonare il campanello lord emsworth sbuffò orlo watkins impallidì e si ritirò dietro gertrude e gertrude osservandolo impallidire vedendolo ritrarsi strinse le labbra da ragazza allevata in campagna era in termini di familiarità con i ratti e questa evidenza di allarme in uno che aveva messo su un piedistallo la inquietò la porta si aprì ed entrò beach era venuto per il suo compito regolare di riprendere le tazzine del caffè ma arrivando scoprì che gli venivano assegnati altri compiti beach la voce era quella di lady constance portate via quei ratti ratti milady portate via quel sacco da mister frederick beach comprese se era sorpreso dalla presenza del figlio minore di casa nel salotto con un sacco di ratti in mano non diede alcuna indicazione del fatto con una scusa mormorata prese il sacco e iniziò a ritrarsi di fatto non era strettamente suo compito portare ratti ma un buon maggiordomo è sempre pronto a dare e prendere solo in questo modo possono essere preservate le amenità di una grande casa di campagna e non fate cadere quelle dannate cose aggiunse lord emsworth benissimo milord l'onorevole freddi si era gettato su una sedia e stava seduto col mento fra le mani a coppa e uno sguardo desolato sulla faccia per un ardente pigliatutto queste azioni tiranniche che ostacolano il commercio sono dure da sopportare lord emsworth tornò al suo libro lady constance tornò al suo cucito lady alcester tornò ai suoi pensieri al piano orlo watkins stava cercando di giustificare i motivi che lo avevano spinto pochi momenti prima a ritirarsi prudentemente dietro gertrude odio i ratti disse non andiamo proprio d'accordo o disse gertrude non ne ho paura ovviamente ma mi fanno venire la pelle d'oca o disse gertrude c'era uno sguardo strano nei suoi occhi a cosa stava pensando la ragazza idealista a quella sera alcune settimane prima quando incontrando all'improvviso un pipistrello bestiale nel buio aveva scoperto nel reverendo rupert bingham un solido e intrepido protettore si stava immaginando il reverendo rupert come lo aveva visto allora valoroso senza paura che fendeva l'aria con lunghi colpi del suo cappello sacerdotale incoraggiandola nel frattempo con parole gesti apparentemente era così perché un attimo dopo parlò come sei messo con i pipistrelli ratti pipistrelli o pipistrelli hai paura dei pipistrelli non mi piacciono i pipistrelli ammise orlo watkins poi liquidando il soggetto si rimise a sedere al piano e cantò di giugno e del profumo di fiori invisibili di tutto il gruppetto nel salotto ambrato solo di uno non abbiamo parlato animale dai lenti processi di pensiero il cane bottles non aveva all'inizio osservato cosa stesse accadendo al sacco nel momento del suo trasferimento dalla custodia di freddy a quella di beach era impegnato ad annusare la gamba di una sedia fu solo quando la porta iniziò a chiudersi che si accorse della perdita che lo minacciava balzò avanti con un grido appassionato ma era troppo tardi si trovò davanti ad un legno che non cedeva e quando iniziò a raspare violentemente il legno lo assalì un acuto dolore un libro sul trattamento dei maiali in salute e malattia superbamente mirato lo aveva colpito sul fondo schiena poi per un po come l'onorevole freddy trippud il suo sponsor sociale si sedette afflitto porta fuori di qui quel cane dannato e infernale gridò lord emsworth freddy si alzò stancamente è il cane del vecchio beefers disse beefers sarà qui da un momento all'altro possiamo affidare a lui tutta la questione gertrude sussultò rupert viene qui stasera ha detto che sarebbe venuto rispose freddy e uscì di scena ne aveva avuto abbastanza e non era disposto a restare era sua intenzione andare a market blendings sulla sua due posti calmare la sua sensibilità ferita per quanto fosse in grado di essere calmata con una visita al cinema locale passare dall'emsworth arms per una birra e poi a letto a casa a dimenticare gertrude era caduta in una fantasticheria la sua bella giovane faccia era coperta di nubi stava provando un senso di imbarazzo quando aveva scritto quella lettera e l'aveva impostata la sera prima non aveva previsto che il reverendo rupert sarebbe venuto così presto non sapevo che rupert stesse venendo stasera disse oh sì disse vivacemente lady alcester come una nota lunga per tutta la mia vita quella notte di giugno con te cantava orlo watkins e gertrude guardandolo si accorse per la prima volta della curiosa sensazione di non essere completamente in armonia con questo giovane con le basette desiderò che smettesse di cantare le impediva di pensare bottles nel frattempo aveva ripreso le sue esplorazioni i cani sono filosofi dimenticano presto non perdono tempo a rimpiangere gli avrebbe potuto essere adattatosi con compostezza alle mutate condizioni bottles si muoveva su e giù con uno spirito di affabile indagine guardò lord emsworth considerò l'idea di sentire che odore avesse ci ripensò e avanzò verso la porta finestra qualcosa stava muovendosi nei cespugli al di fuori e gli sembrò che valesse la pena di andare a dare un'occhiata prima di andare ad annusare la gamba di lady constance aveva quasi raggiunto il suo obiettivo quando l'air del di lady alcester che si era assentato dalla stanza un po di tempo prima per seppellire un osso riprese la sua serata in società vedendo bottles si fermò bruscamente entrambi iniziarono un lento e cauto avanzamento simile a quello di un dranchio trovandosi più vicini si fermarono di nuovo le narici si torsero un po rotearono gli occhi e alle orecchie dei presenti giunse prima debolmente un suono basso e di gola come il lontano brontolio di un ottoagenario con problemi bronchiali questo aumentò con un improvviso crescendo e un attimo dopo iniziarono le ostilità nel sottovalutare le qualità di bottles e nel disprezzare la sua forza di combattente lady alcester aveva fatto un errore per quanto fosse capace di posillanimità davanti a una femmina pechinese non c'era alcuna debolezza in questo animale aveva sbaragliato ogni cane di match matchingham e se ne parlava ovunque dall'orso blu in high street a lontano mucca e bruco sulla shrewsbury road se ne parlava come un ornamento del vicariato e un credito all'abito talare del suo padrone nella presente occasione inoltre era rinforzato dal fatto che sentiva la ragione dalla sua parte nonostante una certa freddezza da parte della cerchia del castello e un indolenzimento nelle costole dove il libro sui maiali e il loro trattamento era andato a segno sembravano non esserci dubbi che bottles a quel punto si era convinto che quel salotto fosse la sua casa ufficiale e sentendo che tutte queste deliziose persone contavano su di lui perché badassi ai loro interessi e tenesse a distanza influenze aliene e sovversive avanzò con la decisa volontà di respingere questo intruso né l'airdale era disposto a cedere anche lui non era uno straniero nel luogo in hyde park dove quando era nella sua residenza londinese faceva la sua passeggiata aveva incontrato ogni tipo di sopravvenuti e se l'era cavata bene cani di mayfair cani di base water cani che venivano dalla lontana brompton road e da west kensington avevano sperimentato di che stoffa fosse fatto bottles gli ricordava un po' un animale di pond street che aveva battuto una volta sulle rive della serpentine e iniziò la battaglia con fiducia in se stesso le reazioni di una compagnia di una casa di campagna a un combattimento tra cani che si svolga dopo cena nel salotto variano sempre considerevolmente a seconda delle nature individuali dei suoi membri lady alcester la cui lunga frequentazione della specie canina l'aveva quasi resa un suo membro onorario restò tranquilla osservò il combattimento con indisturbata equanimità attraverso un occhialetto cerchiato di tartaruga la sua principale emozione fu di sorpresa per il fatto che bottles stava indubbiamente avendola meglio le piaceva il suo lavoro di piedi impressionata fu costretta ad ammettere che se questo era il tipo di combattente che ne era l'effetto ci doveva essere qualcosa nella gioia del cane donaldson dopo tutto il resto del pubblico fu incapace di imitare la sua nonchalance i due attori principali stavano dando la bizzarra illusione consueta in tali occasioni di essere ovunque allo stesso tempo e il comportamento di quelli nei sedili degli spettatori era francamente allarmato lady constance era arretrata contro il muro dalla quale posizione lanciò un inutile cuscino lord emsworth nel suo angolo stava cercando vagamente un proiettile e desiderava non aver fatto cadere il pensne senza il quale non era di nessun aiuto in una crisi e gertrude gertrude stava osservando orlo watkins che con una risorsa e presenza mentale insolita in uno così giovane aveva scalato un alto mobile che conteneva porcellane i suoi piedi erano a livello dei suoi occhi e lei vide che erano piedi di argilla e fu in quel momento quando una ragazza stava faccia a faccia con la sua anima che la porta si aprì mister bingham annunciò beach uomini del fisico del reverendo rupert bingham in genere non sono rapidi pensatori dalla prima giovinezza il reverendo rupert era stato più veloce di gambe che di testa ma anche la persona più ottusa avrebbe potuto dire attraversando quella soglia che c'era in atto una zuffa tra cani bingham lo vide in un lampo e agì prontamente ci sono numerosi metodi di fermare questi dolorosi affari alcuni preferiscono schizzare dell'acqua altri del pepe si possono ottenere buoni risultati così afferma una scuola di pensiero accendendo un fiammifero sotto il naso più vicino a biffy bingham non importavano queste sottigliezze per biffy era tutta roba vecchia da quando si era dato alla cura delle anime metà del suo tempo gli sembrava a volte era trascorso nello strappare bottles dalla gola dei cani del suo piccolo gregge l'esperienza gli aveva dato una tecnica mise una mano massiccia sul collo dell'eardel l'altra sul collo di bottles e tirò ci fu un suono di strappo e si separarono robert gridò gertrude osservandolo si ricordò degli antichi eroi e pochi avrebbero negato che faceva una figura impressionante questo grande giovane in piedi con occhi sgranati e un cane in ogni mano sembrava una statua della verità che trionfa sull'errore non potevi situarlo esattamente perché era passato tanto dalla lettura del libro ma ti ricordava qualcosa del viaggio del pellegrino così almeno pensò gertrude per gertrude era come se fosse caduto ogni velo dai suoi occhi e si fosse svegliata da qualche sogno febbrile poteva essere stata lei si stava chiedendo che aveva distolto lo sguardo da questo nobile giovane e l'aveva diretto su uno che anche se evidentemente sembrava avere un futuro come scalatore alpino era altrimenti così disprezzabile rupert disse gertrude biffy bingham aveva ora completato la sua campagna magistrale aveva lanciato bottles fuori dalla finestra e gliel'aveva chiusa dietro aveva fatto cadere le ardell sul tappeto dove ora sedeva leccandosi in modo meditativo aveva estratto un fazzoletto e se lo stava passando sulla fronte cremisi o rupert disse gertrude e si gettò tra le sue braccia il reverendo rupert non disse niente in tali occasioni il saggio vicario non spreca parole né parlò orlo watkins si era volatilizzato forse appollaiato lassù aveva visto negli occhi di gertrude lo sguardo che quando viene visto negli occhi di una ragazza da una qualche parte interessata automaticamente induce quest'ultimo ad andare in stanza a far le valigie pronto al telegramma che riceverà l'indomani che lo richiama urgentemente a londra per affari comunque era scomparso era tardi quando l'onorevole freddy tripud tornò alla casa dei suoi avi mentre si svestiva tristemente fu sorpreso nell'udir bussare alla porta entrò sua zia georgiana sul suo volto c'era l'inconfondibile sguardo di una madre la cui figlia ha visto la luce in breve si sposerà un giovane meritevole parroco con uno zio scapolo armatore freddy disse lady alcester sai quella roba di cui blatteri sempre ho dimenticato il nome la gioia del cane donaldson disse freddy si può avere sia nei pacchetti piccoli da uno scellino e tre penni o in quelli da mezza corona grandi c'è una garanzia in ogni acquisto unica nelle sue proprietà salutari per iniziare ne prenderò due tonnellate disse lady alcester lord emsworth e l'amica il giorno era così caldo così bello così magicamente dorato con cieli azzurri e canti di uccellini che chiunque conoscesse clarence nono conte di emsworth e sapesse il suo amore per il bel tempo se lo sarebbe immaginato a passeggio nel suo giardino in questa bella mattinata estiva con un sorriso radioso e un cuore leggero invece abbattuto sulla tavola della colazione stava osservando una ringa innocente con un tale sguardo di amarezza che il pesce sembrava similare perché era il bank holiday di agosto e il castello di blendings in quel giorno diventava secondo l'opinione del suo signore un inferno dantesco in miniatura questo era il giorno in cui il suo parco e i suoi giardini diventavano un rumoroso ammasso di altalene giostre ombrelloni palloncini e borsette di carta in cui una marea di contadini con figli urlanti invadevano quei luoghi di pace e immemore nel giorno di bank holiday di agosto non gli era permesso a girarsi piacevolmente nel suo giardino con una vecchia giacca forse oltre il suo controllo lo infilavano in un colletto rigido cappello a cilindro e gli dicevano di andare a fare cordiali onori di casa e nel fresco del quieto crepuscolo lo mettevano su un palco e gli facevano fare un discorso per un uomo che aveva davanti a sé un giorno come quello il bel tempo era una beffa sua sorella lady constance kibble lo guardò vivacemente sulla caffettiera che bella mattina disse la tristezza di lord emsworth crebbe odiava che ci si aspettasse da lui e da questa donna poi comportarsi come se tutto andasse nel mondo migliore possibile nel mondo migliore possibile fra tutti se non fosse stato per sua sorella constance il suo occhio di falco avrebbe potuto pensava almeno fare a meno del cappello a cilindro hai già preparato il tuo discorso sì bene allora vada di impararlo a mente stavolta e non balbettare come hai fatto l'anno scorso lord emsworth spinse da parte il piatto con la ringa aveva perso il suo appetito e non dimenticare che stamani deve andare in paese per giudicare i giardini dei cottage va bene va bene va bene disse sua signoria non l'ho dimenticato penso che verrò con in paese ci sono adesso molti bambini del fresh air london e devo avvertirli di comportarsi bene quando verranno alla festa oggi pomeriggio sai come sono i bambini londinesi mccallister dice che ne ha trovata una nei giardini l'altro giorno che raccoglieva i suoi fiori in qualsiasi altro momento la notizia di questa offesa indubbiamente avrebbe turbato profondamente lord emsworth ma stavolta era talmente intensa la sua autocommiserazione che non rabbrividi neanche beve il caffè con l'aria di un uomo che rimpiangeva che non fosse cicuta a proposito mccallister mi stava parlando l'altra sera di quel vialetto di ghiaia nel viale dei tassi sembra che ci tenga molto gluk disse lord emsworth che come può dirvi qualsiasi filologo è il suono che i nobili del regno fanno quando qualcosa colpisce la loro anima mentre stanno bevendo il caffè riguardo a glasgow quella grande città commerciale manifatturiera nella contea dell'anarchia in scozia molto è stato scritto tratta così liricamente l'enciclopedia britannica il posto che ne riempie 27 pagine prima di strapparsene e procedere con glass glastomburi glatz e glauber il suo unico aspetto tuttavia che riguardi immediatamente l'attuale storico è il fatto che i cittadini che alleva sono inclini ad essere cupi duri perseveranti e tenaci uomini con favoriti rossi che sanno quello che vogliono e intendono averlo tale era angus mccallister capo giardiniere al castello di blendings per anni angus mccallister si era posto come missione su questa terra la costruzione di un vialetto di ghiaia attraverso il famoso viale di tassi del castello per anni aveva proposto l'idea al suo datore di lavoro anche se in chiunque avesse avuto meno favoriti di lui il disgusto manifesto di quest'ultimo avrebbe causato imbarazzo e ora sembrava ci riprovava via letto di ghiaia lord emsworth si irrigidì per tutta la lunghezza del suo corpo nodoso la natura aveva sempre sostenuto voleva che un viale di tassi fosse pavimentato da prato e muschio e del resto comunque la pensasse la natura che fosse dannato se avrebbe permesso a uomini con l'accento di clyde side di venire a mutilare quella bella distesa di velluto verde violetto di ghiaia davvero e perché non asfalto perché non dei cartelloni pubblicitari a un distributore di benzina ecco quel che gli piacerebbe lord emsworth si sentiva amareggiato e quando si sentiva amareggiato poteva essere terribilmente sarcastico ebbene penso che sia un'ottima idea disse sua sorella ci si può passeggiare anche quando piove l'erba bagnata distrugge le scarpe lord emsworth si alzò non ce la faceva sopportare altro lasciò la tavola la stanza e la casa e arrivando sul viale di tassi qualche minuto dopo fu disgustato nel vederlo infestato da angus mccallister in persona il capo giardiniere era in piedi e guardava il prato come un gran sacerdote di qualche antica religione che stia per procedere ad un sacrificio umano buongiorno mccallister disse freddamente lord emsworth buongiorno vostra signoria ci fu una pausa angus mccallister stendendo un piede che sembrava una custodia di violino lo premette sul prato il significato di quel gesto era evidente esprimeva disprezzo antipatia un generico spirito contrario al muschio e lord emsworth si ritrasse sorvegliando con antipatia l'uomo attraverso il pesne anche se non dedito spesso alla speculazione teologica si stava chiedendo perché la provvidenza se obbligata a creare capo giardinieri avesse trovato necessario farli così scozzesi nel caso di angus mccallister perché chiediamoci addirittura lo aveva proprio fatto umano aveva sprecato tutti gli ingredienti giusti per un mulo di primordine sentiva che avrebbe potuto piacerli angus mccallister se fosse stato un mulo stavo parlando a lady constance ieri o del vialetto di ghiaia ne stavo parlando a sua signoria o a sua signoria piace l'idea davvero ebbene la faccia di lord emsworth era diventata di un rosa acceso e stava per dar sfogo alle parole ardenti che si stavano formando nella sua mente quando improvvisamente colse lo sguardo del capo giardiniere e si fermò angus mccallister lo stava guardando in modo particolare e sapeva cosa voleva dire quello sguardo solo una mossa stava dicendo il suo sguardo in scozzese ovviamente solo una mossa da parte vostra e io mi licenzio e con una nauseante comprensione lord emsworth capì di essere completamente negli artigli di quest'uomo trascinò i piedi miserevolmente sì era inerme a parte quella fissazione del vialetto di ghiaia angus mccallister era un capo giardiniere unico tra mille e lui ne aveva bisogno non poteva fare senza di lui questo sfortunatamente l'aveva già provato per esperienza una volta quando stava coltivando quella zucca per la fiera agricola zucca che si era poi rivelata una grande vincitrice aveva osato licenziare angus mccallister e angus aveva rassegnato le dimissioni e lui era stato costretto ad implorarlo sì implorarlo di ritornare un datore di lavoro non può fare questo tipo di cose e sperare poi di avere un pugno di ferro pieno della rabbia vigliacca che osa ardere ma non osa fiammeggiare lord emsward attossì in un modo che significava inconfondibilmente bandiera bianca io ci penserò su mccallister ora devo andare in paese ci vediamo più tardi nel frattempo io ci penserò su il compito di giudicare la disposizione di fiori nei giardini dei cottage del piccolo paese di blending sparva veniva da tempo pregustato piacevolmente dal lord emsward era il tipo di compito che amava ma ora anche se era riuscito a liberarsi di sua sorella constance e non era più costretto alla sua compagnia si approcciò all'incarico con spirito abbattuto era sempre spiacevole per un uomo orgoglioso realizzare che non era più padrone della sua anima di venire schiacciato a tutti gli effetti sotto il tallone numero 12 di un capo giardiniere di glesgo e rimuginando su questo giudicò i giardini con occhio distratto fu solo quando arrivò all'ultimo che qualcosa di simile all'ammirazione si insinuò nella sua condotta questo pensò sporgendosi sulla staccionata traballante non era affatto un brutto giardinetto richiedeva un'ispezione più attenta aprì il cancelletto e vi entrò e un cane che sonnecchiava dietro un barile per l'acqua aprì un occhio e lo guardò era uno di quei cani pelosi non meglio identificati e il suo sguardo era freddo cauto e sospettoso come quello di un agente di borsa che pensa che qualcuno voglia giocargli un tiro lord emsward non osservò l'animale aveva osservato un'aiola di rampicanti e ora chinato si li annusò per come sono le annusate era un'annusata innocente ma il cane per qualche motivo sembrò leggerla come un atto criminale dei peggiori tutto l'indignato padrone di casa si risvegliò di botto in lui un attimo dopo il mondo era diventato pieno di rumori odiosi e l'interesse di lord emsward fu spazzato via da un appassionato desiderio di salvare dal male le sue caviglie come hanno già mostrato queste cronache del castello di blendings egli non era al suo meglio con cani sconosciuti oltre che dire andate via ser e saltare avanti e indietro con una sorprendente agilità per uno dei suoi anni aveva realizzato poco nella direzione di un ragionato piano di difesa quando la porta del cottage si aprì e ne uscì una ragazza ehi gridò la ragazza e sul momento al semplice suono della sua voce il bastardo sospendendo le ostilità si accucciò i suoi piedi con la schiena a terra e le zampe in aria lo spettacolo ricordò irresistibilmente a lord emsward il suo stesso comportamento in presenza di angus mccallister sbatté gli occhi davanti alla sua salvatrice era una ragazza piccola di età incerta forse di 12 o 13 anni anche se una combinazione di nebbie londinesi e precoci preoccupazioni avevano dato alla sua faccia una sorta di aria materna che in qualche modo strano la fece ritenere da sua signoria della sua stessa generazione era il tipo di ragazza che si vede nelle strade secondarie con in braccio un bambino grande quasi come lei e con energia sufficiente per portare anche per mano un fratellino e ascoltare i pianti di un altro in lontananza le guance brillavano per essere state lavate da poco ed era vestita con un abito di velluto che era ovviamente il pezzo migliore del suo guardaroba i capelli nonostante la moda del momento erano tirati stretti in una corta coda di cavallo grazie disse lord emsworth grazie sir disse la ragazza perché cosa lo ringraziasse sua signoria non riusciva a capire in seguito quando la loro conoscenza si approfondì doveva scoprire che questa strana gratitudine era un'abitudine di questa nuova amica ringraziava chiunque per qualsiasi cosa al momento questo manierismo lo sorprese continuò a battere gli occhi attraverso il suo pensne la mancanza di pratica aveva reso lord emsworth un po goffo nell'arte di far conversazione con membri dell'altro sesso frugò nella mente per cercare qualche argomento bella giornata sì sir grazie sir voi siete lord emsworth consultò furtivamente la sua lista siete la figlia di ebenezer sprocket chiese pensando come aveva spesso pensato prima che nomi assurdi possedevano alcuni dei suoi affittuari no sir io vengo da londra sir a londra è deve essere caldo là si fermò poi ricordando una formula della sua giovinezza siete andato molto fuori questa stagione no sir saranno tutti fuori città immagino che parte di londra drury line sir come vi chiamate gladys sir grazie sir questo è erne un ragazzo era uscito dal cottage un campione dall'aria dura con le lentiggini che portava in mano un sorprendente bel mazzo di fiori lord emsworth si inchinò cortesemente e con giunta di questa terza persona al tet a tet si sentì più a suo agio come va disse che bei fiori con l'avvento di suo fratello anche gladys aveva perso la sua diffidenza e acquistato a plomb nella conversazione belli vero concordò lei con entusiasmo li ho presi alla casa grande vero quel vecchio scemo del padrone non è riuscito a prendermi mi ha beccato mentre li coglievo e ha cominciato ad urlarmi a rincorrermi ma io gli ho tirato un sasso nello stinco e lui si è messo a strofinarselo e io sono corsa via lord emsworth avrebbe potuto correggere la sua impressione che il castello di blendings e i suoi giardini appartenevano ad angus mccallister ma la sua mente era così colma di ammirazione e riconoscenza che non lo disse guardò la ragazza quasi con riverenza non contenta di controllare i cani selvaggi con una semplice parola questa super donna lanciava anche pietre contro angus mccallister una cosa che lui non era riuscito ad avere il coraggio di fare negli ultimi nove anni e inoltre lo aveva anche colpito che sciocchezze pensava lord emsworth dicevano i giornali sulle ragazze moderne se questo era un suo esemplare la ragazza moderna era il punto massimo che quel sesso avesse mai raggiunto hern disse gladys cambiando argomento si è messo la brillantina oggi lord emsworth lo aveva già osservato e in vero si era già messo sopra vento mentre lei parlava per la festa spiegò gladys per la festa sembrava cosa insolita per la festa nel parco oggi pomeriggio o venite alla festa sì sir grazie sir per la prima volta lord emsworth si trovò a considerare quel tragico evento sociale con qualcosa che si avvicinava al favore dobbiamo cercare di incontrarci là allora disse cordialmente vi ricorderete di me avrò indosso di glutì un cappello a cilindro e hern avrà un cappello di panama che gli hanno regalato lord emsworth guardò quella canaglietta con sincera invidia aveva l'impressione di conoscere quel panama era stato il suo costante compagno per circa sei anni e poi gli era stato strappato da sua sorella constance e dato alla moglie del vicario per la sua vendita di beneficenza sospirò ebbene arrivederci arrivederci sir grazie sir lord emsworth uscì pensosamente dal giardino e all'angolo della strada in controlle di constance oh ecco ti clarence sì disse lord emsworth perché così era hai finito di giudicare i giardini sì stavo giusto andando in quest'ultimo cottage il vicario mi dice che c'è una ragazzina di londra che vi abita voglio avvertirla di comportarsi bene oggi pomeriggio ho parlato agli altri lord emsworth si tirò su il suo pens nera un po storto ma nonostante questo il suo sguardo era acuto imperioso ebbene vada a quello che dici disse autoritariamente non mettere su quell'aria da padrone in visita a constance che vuoi dire sai cosa voglio dire ho il massimo rispetto per la signorina a cui ti riferisci in una recente occasione si è comportata in due recenti occasioni con notevole coraggio e valore e non voglio che venga trattata male capiscimi il titolo tecnico dell'orgia che scoppiava annualmente il primo lunedì di agosto nel parco del castello di blendings era festa scolastica di blendings parva e sembrava lord emsworth che osservava depresso l'evento da sotto la tesa del suo cappello a cilindro che se questo era il genere di cosa che le scolaresche guardavano con piacere lui e loro erano mentalmente ai poli opposti un evento come la festa scolastica di blendings parva inficiava la sua idea dell'uomo come capolavoro della natura le educate pecore e mucche a cui apparteneva normalmente questo parco erano state spinte in regioni sconosciute lasciando la liscia distesa d'erba a ragazzi la cui vivacità spaventava lord emsworth e ad adulti che sembravano aver gettato da parte ogni dignità e ogni altra nobile qualità che rendano un cittadino al cento per cento britannico eccomi sis rossiter laggiù per esempio la moglie di rossiter junior alimentari drogherie marmellate casalinghe in qualsiasi altro giorno dell'anno quando la si incontrava mrs rossiter era una donna docile e quieta che rispettosamente si inchinava al vostro passaggio oggi arrossata in viso e col cappellino di sghimbescio sembrava tornata allo stato primitivo stava andando su e giù bevendo limonata da una bottiglia e impiegando la bocca quando non era occupata in tal modo a fare un rumore devastante con quella che riteneva fosse una trombetta l'ingiustizia della cosa ferì lord emsworth questo parco era il suo parco privato che diritto aveva la gente di venire a suonarvi delle trombette sarebbe piaciuto a mrs rossiter se un pomeriggio lui avesse invaso il suo lindo giardinetto in high street e fosse corso sul suo prato soffiando in una trombetta e in queste occasioni era sempre così infernalmente caldo luglio poteva essere finito con una tempesta di neve ma appena arrivava il primo lunedì di agosto ecco che lui si doveva mettere un colletto rigido e il sole splendeva con ardore tropicale ovviamente ammetteva lord emsworth perché era un uomo equanime questa era un'arma a doppio taglio più caldo era il giorno più rapidamente il colletto perdeva l'amido e smetteva di lacerarlo come un pugnale questo pomeriggio per esempio si era trasformato quasi immediatamente in qualcosa che sembrava una compressa bagnata per quanto fossero severe le sue sofferenze era costretto a riconoscere che almeno una l'aveva padroneggiata clarence lo stato mentale spirituale di lord emsworth era ora tale che neanche l'avvento di sua sorella constance avrebbe potuto peggiorare sensibilmente il suo disagio clarence fai un'ottima figura lo so chi non la farebbe conciato così perché in nome di dio tu insisti sempre per favore non essere infantile clarence non riesco a capire perché fai tante storie sul vestirti bene una volta in vita tua come un ragionevole gentiluomo inglese e non come uno streccione è questo cappello a cilindro eccita i ragazzini che cosa diamine vuoi dire con eccita i ragazzini ebbene tutto quello che posso dirti è che proprio ora mentre stavo passando dove giocano a football football con un tempo del genere un ragazzino piccolo ha detto qualcosa di denigratorio e gli ha lanciato un pezzo di noce di cocco se identifichi quel bambino disse lady constance con calore lo farò punire severamente come diamine replicò sua signoria con ugual calore posso identificare il bambino sono tutti uguali per me e se lo identifico gli stringerò la mano un ragazzo che tira noci di cocco a cappelli a cilindro è fondamentalmente sano nelle sue opinioni e i colletti rigidi rigidi ecco di cosa ero venuta a parlarti sei consapevole che il tuo colletto sembra uno straccio entra subito a cambiartelo ma mia cara constance subito clarence semplicemente non riesco a capire un uomo che abbia così poco orgoglio da non badare al suo aspetto ma sei stato così per tutta la vita ricordo quando eravamo bambini il passato di lord emsworth non era di una tale purezza che lui fosse preparato a stare ad ascoltare prediche da parte di una sorella dalla buona memoria oh va bene va bene va bene disse lo cambierò lo cambierò ebbene sbrigati stanno iniziando a servire il tè lord emsworth vacillò devo andare nella tenda del tè ovviamente devi non essere ridicolo vorrei che tu realizzassi la tua posizione come lord del castello di blendings una risata amara e priva di allegria da parte del povero peone così ridicolmente descritto sommerse il resto della frase era sempre sembrato a lord emsworth analizzando certi ricevimenti che i saturnali a del bank holiday di agosto al castello di blendings raggiungevano un picco di repulsione quando veniva servito il tè nel grande padiglione finito il tè l'agonia diminuiva per ridiventare acuta ancora una volta nel momento in cui si trovava sulla piattaforma e si schiariva la voce e cercava di ricordare cosa diavolo aveva deciso di dire allo stupido pubblico davanti a lui dopodiché diminuiva ancora e passava fino all'agosto successivo le condizioni durante l'ora del tè poiché il padiglione era stato tutto il giorno sotto il sole a picco erano in genere quelle che se shadrach meshach e abetnego fossero stati là avrebbero potuto imparare qualcosa di nuovo sulle fornaci ardenti lord emsworth ritardato dalla messa a punto del suo abbigliamento fece il suo ingresso quando il pasto era quasi a metà e fu compiaciuto nel trovare che il suo secondo colletto quasi istantaneamente iniziò a rilassare la sua stretta di ferro quello tuttavia fu l'unico bagliore di felicità che gli venne concesso una volta nella tenda occorse solo un momento al suo occhio esperto per capire che l'attuale banchetto stava ecclissando nel suo orrore tutti quelli precedenti i giovani di blending sparva nelle loro forme normali tendevano più allo stolidamente bovino che al rissoso in tutti i villaggi ovviamente ci doveva necessariamente essere qualche occasionale osso duro nel caso di blending sparva saltavano alla mente i nomi di willy drake e thomas faccia di ratto blenkiron ma era raro che gli infanti locali offrissero qualcosa che fosse al di là della capacità di controllo di un curato quello che stava dando alla presente riunione la sua notevole somiglianza ad una riunione di san culotte al culmine della rivoluzione francese era la mescolanza con i visitatori londinesi della fresh air riguardo ai bambini londinesi allevati tra le lattine e i gambi di cavoli di drury lane e clare market hanno una briosa baldanza che manca i loro cugini di campagna anni di bisticci con genitori e parenti irritati li hanno curati da ogni tendenza che possano avere verso la timidezza col risultato che quando desiderano qualcosa se la prendono e quando vengono divertiti da qualche lieve particolarità nell'aspetto personale dei membri delle classi governanti non hanno difficoltà nel tradurre in parole i loro pensieri già a lungo i tavoli lo sfortunato occhio strabico del curato era stato oggetto di calorosi commenti e gli incisivi di uno degli insegnanti erano i secondi per popolarità lord emsworth non era di regola un uomo dalle rapide ispirazioni ma gli venne in mente in questa occasione che sarebbe stata una mossa prudente levarsi il cappello a cilindro prima che i suoi piccoli ospiti lo osservassero e apprezzassero le sue possibilità umoristiche l'azione tuttavia non fu necessaria mentre alzava la mano un dolce della consistenza di un sasso similando nell'aria come una bomba prese il volo verso di lui lord emsworth ne aveva avuto abbastanza perfino constance per quanto fosse una donna irragionevole poteva stento aspettarsi che restasse a sorridere cordialmente in condizioni del genere ogni legge civile era evidentemente stata gettata a mare e l'anarchia regnava sotto il tendone il curato stava facendo del suo meglio per formare un governo provvisorio consistente di se stesso e dei due insegnanti ma c'era solo un uomo che avrebbe potuto gestire adeguatamente quella situazione ed era il re irode che purtroppo non era fra i presenti sentendosi come qualcuno dell'anzien regime che sfuggiva al patibolo lord emsworth raggiunse l'uscita e si ritirò fuori del tendone il mondo era più quieto ma solo relativamente quello che lord emsworth bramava era la solitudine e in tutto il vasto parco sembrava esserci solo un punto in cui poterla avere questo era la rimessa di mattoni che stava accanto a un piccolo stagno usata in tempi più felici come ricovero per il bestiame affrettatovisi sua signoria iniziò a sentirsi meglio nella penombra fresca e profumata di mucca quando gli giunse un rumore di un pianto sommesso si voltò questa era una persecuzione con tutto il parco invaso perché un diabolico bambino doveva insinuarsi anche in quest'unico santuario parlò con ira tagliente proveniva da una lunga linea di antenati guerrieri e il suo sangue stava ribollendo chi è là io ser grazie ser solo una persona di conoscenza di lord emsworth era capace di esprimere gratitudine dopo essere stata rimproverata così bruscamente la sua ira svanì e fu rimpiazzata dal rimorso si sentiva come un uomo che per sbaglio abbia dato un calcio al suo cane preferito che dio mi benedica esclamò cosa diamine state facendo e non ricovero per le mucche vi prego ser mi ci hanno messa messa cosa volete dire con messa perché per aver pizzicato delle cose ser cosa pizzicato delle cose straordinario cosa avete pizzicato due ciambelle due sandwich alla marmellata due mele una fetta di torta la ragazza era uscita dal suo angolo ed era in piedi sull'attenti la forza dell'abitudine l'aveva fatta intonare la lista degli articoli rubati con la voce cantilenante in cui era solita recitare le tabelline a scuola ma lord emsworth poteva vedere che era profondamente turbata strisce di lacrime le macchiavano la faccia e nessun emsworth era mai stato capace di osservare senza commuoversi le lacrime di una donna il nono conte era visibilmente toccato soffiatevi il naso disse tendendo in modo ospitale il suo fazzoletto sì ser grazie ser cosa avete detto di aver pizzicato due ciambelle due sandwich alla marmellata due mele e una fetta di torta li avete mangiati no ser non erano per me erano per hern hern oh ah sì 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 certo per hern è sì ser ma perché diavolo hern non poteva pizzicarseli lui stesso è un ragazzo forte e capace voglio dire lord emsworth membro della vecchia scuola non amava l'inclinazione da parte dei giovanotti moderni di scansare il lavoro pesante e lasciar pagare la donna a hern non era permesso venire alla festa ser che non era permesso chi ha detto che non poteva la lady ser che lady quella che è venuta dopo di voi stamattina uno sbuffo feroce sfuggì a lord emsworth constance che diavolo voleva fare constance decidendo lei stessa la lista degli ospiti constance sbuffò ancora uno di questi giorni constance avrebbe passato il limite mostruoso gridò sì ser una vera tirannia per giove vi ha detto il motivo alla lady non è piaciuto che hern l'abbia morsa una gamba ser hern l'ha morsa una gamba sì ser stava facendo finta di essere un cane e la signora si è arrabbiata e ad hern non è stato permesso di venire alla festa e io gli ho detto che gli avrei portato qualcosa di buono lord emsworth respirò pesantemente non aveva supposto che in questi giorni degenerati esistesse una tale famiglia la sorella tirava sassi ad angus mccallister e il fratello mordeva ad una gamba constance era come ascoltare qualche vecchia e grandiosa saga delle imprese di eroi e semi dei pensavo che se non avessi mangiato niente sarebbe andato tutto bene niente lord emsworth sussultò volete dirmi che non avete preso il tè no ser grazie ser pensavo che se non avessi mangiato niente sarebbe andato tutto bene se hern avesse mangiato quello che avrei mangiato io se avessi mangiato la testa di sua signoria mai forte vacillò un po poi riprese il suo equilibrio poi finalmente colse il senso che dio mi benedica disse lord emsworth non ho mai udito niente di così mostruoso e orribile in vita mia venite con me immediatamente la signora ha detto che dovevo restare qui ser lord emsworth diede fiato al suo più sonoro sbuffo del pomeriggio al diavolo la signora sì ser grazie ser cinque minuti dopo beach il maggiordomo che stava facendo un pisolino nella stanza della governante fu svegliato dal suo sonno dall'inatteso suono del campanello risposto al richiamo trovò il suo datore di lavoro nella biblioteca e con lui una sorprendente giovane in un abito di velluto alla cui vista le sue sopracciglia vibrarono e se non fosse stato per il suo ferrio autocontrollo si sarebbero alzate beach vostra signoria questa signorina gradirebbe del tè benissimo vostra signoria ciambelle sapete e mele e marmellata voglio dire sandwich alla marmellata e torta e quel genere di cose benissimo vostra signoria e lei ha un fratello beach davvero vostra signoria avrò bisogno di qualcosa da portare via per lui lord emsworth si rivolse alla sua ospite ad ernest piacerà del pollo forse cavoli chiedo scusa sì ser grazie ser e una fetta o due di prosciutto sì ser grazie ser e ha per caso tendenza alla gotta no ser grazie ser eccellente allora una bottiglia di quella nuova mandata di porto beach è una cosa che mi hanno mandato da assaggiare spiegò sua signoria niente di speciale capite aggiunse in tono di scusa ma assolutamente bevibile mi piacerebbe l'opinione di vostro fratello in proposito vedete di metter tutto in un pacco beach e lasciatelo sul tavolo nell'ingresso lo prenderemo quando usciamo una gradita frescura raggiunta nell'aria della sera quando lord emsworth e la sua ospite uscirono dal portone del castello gladys che teneva la mano del suo ospite stringeva il pacco sospirava di contentezza si era ben saziata alla tavola del tè la vita non sembrava avere altro da offrire lord emsworth non condivideva questo punto di vista la sua vena di generosità non si era ancora esaurita ora c'è altro che potete pensare possa piacere ad ernest chiese se così non esitate a dirlo beach voi potete pensare a qualcosa il maggiordomo inchinandosi rispettosamente fu incapace di farlo no vostra signoria ma mi arrischierei ad aggiungere sulla mia responsabilità vostra signoria qualche uovo sodo e un barattolo di marmellata eccellente siete certo che non ci sia altro uno sguardo serio comparve negli occhi di cletis potrebbe avere dei fiori certamente disse lord emsworth certamente 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 assolutamente proprio quello che stavo per suggerire cosa sono i fiori beach il linguista interpretò penso che la signorina voglia dire fiori vostra signoria sì ser grazie ser fiori oh disse lord emsworth oh fiori disse lentamente oh ah sì vedo si tolse il pesne lo ripulì pensosamente lo rimise a posto e osservò con la fronte corrugata i giardini che si stendevano gaiamente davanti a lui fiori sarebbe stato inutile negare che quei giardini contenessero fiori in gran quantità erano variopinti di achillea bignoni aradicans campanula digitalis euforbia funchia gipsofila eliantus iris liatris monarda flox drummondi salvia talictrum vinca e iucca ma quel diavolo di angus mccallister avrebbe avuto un attacco se venivano colti oltre la soglia di questo eden i favoriti rossi di angus mccallister erano come una spada fiammeggiante di regola la procedura per avere dei fiori d'angus mccallister era la seguente dovevate aspettare finché si trovasse in uno di quei rari momenti di compiacenza poi portavate la conversazione gentilmente sull'argomento del decoro di interni e poi scegliendo il momento chiedevate se poteva darvene qualcuno da mettere in vaso l'ultima cosa che potevate pensare di fare era di caricare e iniziare a coglierveli da soli io disse lord emsworth si fermò in un improvviso lampo di chiarezza si era visto per quello che era l'uomo privo di spina dorsale indecorosamente indegno discendente di antenati che anche se potevano avere le loro colpe avevano certamente saputo come gestire i loro sottoposti era un ehi furfante e corri presto qui pigrone nei giorni dei precedenti conti di emsworth ovviamente avevano posseduto certi vantaggi che a lui mancavano indubbiamente aiutava un uomo nel suo trattare lo staff domestico avere come loro il diritto della giustizia bassa media e alta il che significava che se ti irritavi col tuo capo giardiniere potevi immediatamente dividerlo in quattro capi giardinieri con un ascia da battaglia senza problemi ma in ogni caso capiva che erano uomini migliori di lui e che se lasciava che la paura di un angus mccallister si frapponesse tra questa deliziosa ragazza e il fatto che il suo affascinante fratello ricevesse tutti i fiori che voleva lui non era degno di essere l'ultimo della loro linea ereditaria lord emsworth lottò con le sue paure certamente certamente disse anche se non senza vacillare prendetene quanti ne volete e così accadde che angus mccallister accovacciato nella sua rimessa dei vasi come qualche bestia pericolosa nella sua tana assiste ad una vista che prima li gelò il sangue e poi lo fece ribollire nelle sue vene una ragazzina con un vestito di velluto andava su e giù lungo i suoi sacri giardini e coglieva i suoi sacri fiori e il che avvicinò di un passo la poplessia era la stessa ragazzina che due giorni prima lo aveva preso con un sasso la quiete della sera estiva fu lacerata da un ruggito che suonò come una caldaia esplosa e angus mccallister uscì dalla rimessa a 45 miglia per ora gladys non indugiò era una ragazza londinese allenata fin dall'infanzia a comportarsi valorosamente in presenza di allarmi e incursioni ma questa incursione era stata così improvvisa che temporaneamente la privò del suo coraggio con un grido terrorizzato corse dove si trovava lord emsward e nascostasi dietro di lui afferrò le code della giacca del suo tight oh ehi disse gladys lord emsward non si sentiva benissimo neanche lui l'abbiamo ritratto poco fa che si ispirava alla nobiltà dei suoi antenati e che diceva in effetti questo per mccallister ma la verità ora ci costringe ad ammettere che questo fermo atteggiamento era in gran parte dovuto al fatto che credeva che il capo giardiniere fosse a un quarto di miglia dalle giostre e padiglioni della festa lo spettacolo dell'uomo che caricava vendicativo su di lui con occhi balenanti e favoriti fiammeggianti lo fece sentire come un fante inglese nervoso alla battaglia di ben okbur le ginocchia li tremavano e l'anima dentro di lui vacillava e poi accadde qualcosa e tutto l'aspetto della situazione cambiò era in sé una cosa insignificante ma ebbe un effetto sorprendentemente stimolante sul morale di lord emsward quello che accadde fu che gladys cercando ulteriore protezione infilò in quel momento una manina calda nella sua era una muta dichiarazione di fiducia e lord emsward intendeva esserne degno sta avvenendo bisbigliò il complesso di inferiorità di lord emsward in modo agitato che c'è replicò saldamente lord emsward fagli la pelle suggerirono gli antenati di sua signoria nell'altro orecchio lasciate fare a me replicò lord emsward si eresse e si aggiustò il pensne si sentiva colmo di una fredda padronanza di sé se l'uomo avesse rassegnato le sue dimissioni che rassegnasse pure le sue dimissioni ebbene mccallister disse freddamente lord emsward si tolse il cappello a cilindro e se lo spazzolò contro la manica qual è il problema mccallister si rimise il cappello sembrati agitato mccallister scosse la testa in modo battagliero e il cappello cadde lo lasciò a terra liberatosi dal suo odioso peso si sentì più padrone di sé che mai era proprio quello che ci voleva per portarlo al massimo della forma questa signorina disse lord emsward ha il mio piano permesso di cogliere tutti i fiori che vuole mccallister se non siete d'accordo con me in questa materia mccallister ditelo e discuteremo cosa potrete fare al riguardo mccallister questi giardini mccallister mi appartengono e se non apprezzate questo fatto vorrete indubbiamente cercarvi un altro datore di lavoro più in linea con la vostra visione io apprezzo molto i vostri servizi mccallister ma non prenderò ordine nel mio giardino mccallister da nazione aggiunse sua signoria rovinando tutto l'effetto seguì un lungo momento in cui la natura restò immobile senza fiato la chilea restò ferma così fece la bignonia radicans così fece la campanola la digitalis leoforbia la funchia la gipsofila lo ielantus liris la liatris la monarda la floxtrum mondi la salvia il talictrum la vinca la yucca dalla direzione del parco si udivano i felici ululati di bambini che stavano probabilmente rompendo cose ma anche questi sembravano soffocati la brezza della sera era svanita angus mccallister restò lì il suo atteggiamento era di chi sia dolorosamente perplesso così sarebbe potuto sembrare un uccello mantiniero se il verme destinato alla sua colazione si fosse improvvisamente voltato e l'avesse aggredito non gli era mai venuto in mente che il suo datore di lavoro gli avrebbe volontariamente suggerito di cercarsi un altro impiego e ora che l'aveva fatto ad angus mccallister l'idea non piaceva affatto il castello di blendings era nelle sue ossa altrove si sarebbe sentito in esilio si stiracchiò i favoriti ma non gli diede alcun conforto prese la sua decisione meglio smettere di essere un napoleone che un napoleone in esilio disse angus mccallister o e a proposito mccallister disse lord emsworth quella storia del vialetto di ghiaia nel viale dei tassi ci ho pensato e non si farà assolutamente no mutilare il mio bel prato con un vialetto di ghiaia sciupare il più bell'angolo in uno dei più antichi e bei giardini del regno unito certamente no decisamente no cercate di ricordare mccallister mentre lavorate nei giardini del castello di blendings che non siete a glasgow a sistemare i giardinetti pubblici questo è tutto mccallister da nazione questo è tutto disse angus mccallister si voltò andò via la rimessa dei vasi lo inghiottì la natura riprese a respirare la brezza iniziò di nuovo a spirare e per tutto il giardino uccelli che avevano smesso di cantare ripresero i loro accordi lord emsworth estrasse il suo fazzoletto e si asciugò la fronte era scosso ma un nuovo senso di essere un uomo fra gli uomini lo eccitò poteva sembrare una bravata ma desiderava quasi sì dannazione desiderava quasi che sua sorella constance venisse a dirgli qualcosa mentre si sentiva così il suo desiderio si adempì clarence sì eccola là che si affrettava per il giardino sul sentiero erboso lei come mccallister sembrava agitata aveva in mente qualcosa clarence non continuare a dire clarence come se fossi un dannato pappagallo disse lord emsworth altezzosamente cosa diamine c'è constance cosa c'è sai che ore sono sai che tutti stanno aspettando laggiù per il tuo discorso lord emsworth la guardò severamente no disse e non mi importa non farò nessun dannato discorso se vuoi un discorso che lo faccia il vicario oppure fallo tu discorso non ho mai udito una tale dannata sciocchezza in vita mia si voltò verso gladys ora mia cara disse se volete giusto darmi il tempo di levarmi questi vestiti infernali e questo terribile colletto e mettermi qualcosa di umano scenderemo al villaggio e faremo una chiacchierata con erna ondata di crimini a blendings 1 il giorno in cui il crimine mostrò la sua brutta testa al castello di blendings fu un giorno di singolare bellezza il sole splendeva da un cielo azzurro fiordaliso e ci piacerebbe descrivere dettagliatamente gli antichi bastioni i lisci prati verdi il parco ondulato gli alberi maestosi le api beneducate i nobili uccelli su cui brillava ma quelli che leggono romanzi polizieschi sono una razza impaziente fugono le rapsodie sceniche e vogliono arrivare al sodo quando chiedono comincia il lavoro sporco chi furono le persone coinvolte c'era del sangue e in tal caso quanto e soprattutto dov'era ognuno e cosa stava facendo nel momento in cui accadde il cronista che desidera far presa sul pubblico deve fornire questa informazione il prima possibile l'ondata di crimini dunque che doveva colpire alle sue fondamenta una delle più importanti residenze dello shropshire giunse verso la metà di un bel pomeriggio estivo e le persone coinvolte in essa erano così disposte clarence nono conte di emsworth proprietario del castello e suo lord era nella rimessa dei vasi a colloquio con angus mccallister il suo capo giardiniere sul soggetto dei piselli dolci sua sorella lady constance passeggiava sulla terrazza con un giovanotto bruno con gli occhiali di nome rupert baxter che era stato un tempo il segretario privato di lord emsworth beach il maggiordomo era in una sedia sdraio fuori sul giardino posteriore che fumava un sigaro e leggeva il capitolo sedicesimo dell'uomo con l'alluce mancante george il nipote di lord emsworth stava girando tra i boschetti con il fucile ad aria compressa che era il suo compagno costante jane la nipote di sua signoria era nel padiglione estivo accanto al lago e il sole brillava serenamente su come abbiamo detto i prati i bastioni gli alberi le api i migliori uccelli e il parco ondulato poi lord emsworth lasciò la rimessa dei vasi e iniziò a vagare in direzione della casa non si era mai sentito più felice per tutto il giorno il suo umore era stato di perfetta contentezza e tranquillità e una volta tanto angus mccallister non aveva fatto niente perturbarlo troppo spesso quando cercate di ragionare con quel mulo umano aveva un modo di dire e di sembrare scozzese e poi di dire e sembrare di nuovo scozzese e dopo questo stiracchiarsi la barba e sembrare scozzese senza parlare che era molto irritante per un datore di lavoro sensibile ma quel pomeriggio gli yes men di hollywood avrebbero potuto imparare al suo corso per corrispondenza e lord emsworth non aveva niente di quel senso spiacevole che in genere provava in queste occasioni che gli faceva temere che nel momento in cui avesse girato le spalle le sue solide politiche da statista sarebbero state archiviate e sarebbe stato messo in pratica qualche tipo di new deal dei piselli dolci come se lui non avesse mai detto una parola stava canticchiando mentre si avvicinava alla terrazza aveva già deciso il suo programma per forse un'ora finché il giorno non si fosse rinfrescato un po avrebbe letto un libro sull'allevamento dei maiali preso nella propria libreria dopo sarebbe andato a dare un'annusatina una rosa o due e forse avrebbe fatto un po di caccia alle lumache questi blandi piaceri erano tutto ciò che chiedeva la sua anima semplice non voleva altro solo quella vita quieta senza nessuno che lo facesse agitare e ora che baxter era partito rifletteva con ottimismo nessuno lo avrebbe fatto agitare c'era stato ricordava vagamente qualche problema una settimana o due fa qualcosa riguardo ad un uomo che sua nipote jane voleva sposare e che sua sorella constance non voleva che lei sposasse ma quello era stato apparentemente spazzato via e anche quando la cosa era stata al suo culmine anche quando l'aria era stata piena di grida di donne e conny continuava a sbucarli accanto dicendo ascolta clarence aveva sempre potuto riflettere che anche se tutto era molto sgradevole c'era nonostante quello un lato luminoso della medaglia aveva cessato di essere il datore di lavoro di rupert baxter c'è una razza di uomini d'affari dalla faccia di granito e dalla forte mandibola a cui l'atteggiamento di lord emsworth verso rupert baxter sarebbe sembrato francamente inspiegabile per questi titani un segretario privato è semplicemente un ehi voi o un venite qua voi una semplice marionetta a cui si possa ordinare di andare qua e là a proprio piacimento il problema con lord emsworth era che era lui e non il suo segretario la marionetta le loro rispettive relazioni erano sempre state quelle di un benevole monarca e del giovane diavolo intraprendente che ha instaurato una dittatura per anni finché non aveva avuto la misericordia di rassegnare le sue dimissioni per andare a lavorare per un americano di nome jevons baxter aveva turbato lord emsworth lo aveva comandato a bacchetta e lo aveva sempre tampinato perché si ricordasse di cose e ne firmasse altre mai un momento di pace sì era certamente delizioso pensare che baxter era andato via per sempre la sua partenza aveva liberato il suo giardino dell'eden dal suo unico serpente sempre canticchiando lord emsworth raggiunse la terrazza un attimo dopo la melodia era morta sulle sue labbra e stava piroettando sui talloni come se avesse ricevuto un gran pugno sul naso dio benedica la mia anima sbottò scosso fin nel profondo il suo pesne come accadeva sempre quando era turbato era balzato via dai suoi ormeggi lo recuperò e lo rimise sperando debolmente che la vista spettrale che aveva avuto si sarebbe rivelata un'illusione ottica ma no per quanto sbattesse gli occhi non poteva sbatter via il fatto che l'uomo laggiù che stava parlando a sua sorella fosse rupert baxter in persona restò a guardarlo a bocca aperta con un orrore che sarebbe quasi stato eccessivo anche se l'altro fosse tornato dalla tomba lady constance stava sorridendo vivacemente come fanno spesso le donne quando stanno per giocare un brutto tiro ad un loro prossimo caro c'è mister baxter clarence ah disse lord emsworth sta facendo il giro dell'inghilterra sulla sua motocicletta e trovandosi da queste parti ovviamente ha fatto un salto da noi ah disse lord emsworth parlò senza alcuna espressione perché la sua anima era pesante di funesti presagi conny poteva benissimo dire che baxter stava facendo un giro dell'inghilterra dando così l'idea che dopo circa cinque minuti l'uomo sarebbe saltato a bordo della motocicletta e sarebbe svanito a cento miglia di distanza conosceva sua sorella stava complottando sempre ardentemente pro baxter stava cercando di riportare a lavorare nel castello di blendings il suo incubo principale lord emsworth ci avrebbe scommesso la sua somma più generosa perciò disse a il monosillabo oltre la caduta della mandibola del fratello e lo sguardo di agonia dietro il suo pince ne fecero stringere le labbra lady constance una luce imperiosa giunse nei suoi begli occhi sembrava una domatrice di leoni che asserisca la sua personalità con uno della troupe clarence disse bruscamente si rivolse al suo compagno vogliate scusarmi per un momento mister baxter c'è qualcosa di cui voglio parlare con lord emsworth tirò da parte il pallido nobile e parlò con fermo rimprovero proprio come un maiale allo spiedo disse lord emsworth la sua mente aveva vagato come faceva così spesso la parola magica la riportò indietro maiale che cosa riguardo ai maiali stavo dicendo che sembravi un maiale allo spiedo avresti almeno potuto chiedere a mister baxter come stava potevo vederlo come stava cosa sta facendo qui ti ho detto cosa stava facendo qui ma perché fa il giro dell'inghilterra sulla motocicletta pensavo che stesse lavorando per un americano di cui non mi ricordo il nome ha lasciato mister javons che sì mister javons doveva tornare in america e mister baxter non voleva lasciare l'inghilterra lord emsworth vacillò javons era stata la sua ancora di salvezza non aveva mai conosciuto quel cordiale abitante di chicago ma vi aveva sempre pensato con gentilezza e riconoscenza come si fa con qualche grande dottore che è riuscito ad isolare e confinare il germe di una malattia vuoi dire che è disoccupato gridò terrorizzato sì e non avrebbe potuto capitare qui in un momento più opportuno perché si deve fare qualcosa con george chi è george hai un nipote di quel nome spiegò lady constance con la dolce gelida pazienza che spesso usava conversando con suo fratello il tuo erede bosham se ti ricordi ha due figli james e george george il minore passa qui le sue vacanze estive puoi averlo notato qua in giro un ragazzo di 12 anni con capelli rossi e lentiggini o george vuoi dire george sì conosco george è mio nipote che cosa c'è da dire su di lui è completamente fuori controllo solo ieri ha rotto un'altra finestra con quel suo fucile ad aria compressa ha bisogno delle cure di una madre lord emsworth era vago ma aveva l'idea che quella fosse la cosa più giusta da dire ha bisogno delle cure di un precettore e sono felice di dire che mr baxter ha consentito molto gentilmente ad accettare il lavoro cosa sì è tutto sistemato le sue cose sono all'emsworth arms e sto mandando a prenderle lord emsworth cercò febbrilmente degli argomenti con cui distruggere quel progetto spaventoso ma lui non può essere un precettore se sta facendo il giro dell'inghilterra a cavallo di una motocicletta non avevo trascurato quel punto smetterà di cavalcare la motocicletta per tutta l'inghilterra ma sarà una soluzione meravigliosa di un problema che sta diventando sempre più difficile ogni giorno mr baxter terrà a freno george è così fermo si voltò e lord emsworth riprese la sua avanzata verso la biblioteca era un momento nero per il nono conte i suoi peggiori timori si erano realizzati sapeva cosa voleva dire tutto questo in una delle sue rare visite a londra una volta aveva udito una frase straordinariamente vivida che gli aveva fatto una profonda impressione stava prendendo il suo caffè dopo pranzo al senior conservative club e alcune persone nel cerchio adiacente di poltrone avevano iniziato una discussione politica e uno di loro aveva detto qualcosa su una cosa o l'altra che parole testuali diceva essere sull'orlo del baratro riconobbe che quello che stava accadendo ora era l'orlo del baratro da baxter come precettore temporaneo a baxter come segretario permanente ci sarebbe stato pensava un passo così breve che la sua contemplazione lo gelava fin dentro le ossa un uomo miope il cui pens ne è caduto nello stesso momento in cui gli avvoltoi rodono il suo petto raramente sta attento a dove mette i piedi chiunque osservasse lord emsworth trotterellare alla cieca attraverso la terrazza avrebbe previsto che avrebbe urtato entro breve tempo contro qualcosa restando solo aperta la speculazione contro cosa sarebbe entrato in collisione questo si rivelò essere un ragazzino dai capelli rossi e lentiggini che emerse bruscamente dal boschetto con un fucile ad aria compressa cavoli disse il ragazzino scusa nonno lord emsworth recuperò il suo pens ne e sistematolo al solito posto guardò torvo george perché diavolo non guardi dove vai scusa nonno avresti potuto farmi molto male scusa nonno si più attento un'altra volta ok big boy e non chiamarmi big boy perfetto nonno dico disse george archiviando l'argomento chi è quel tipo che parla con zia conny lo indicò una maleducazione che un buon precettore avrebbe dovuto correggere e lord emsworth seguendo il dito arretrò mentre il suo sguardo si posava ancora una volta sul rupert baxter il segretario già lord emsworth aveva abbandonato mentalmente la qualifica ex stava facendo correre lo sguardo sul parco ondulato e sembrò a sua signoria che il suo sguardo fosse da proprietario rupert baxter che faceva balenare i suoi occhiali sul terreno del castello di blendings assumeva o almeno così sembrò lord emsworth l'aria compiacente di qualche spietato monarca dei tempi antichi che osservi il territorio conquistato è mister baxter rispose sembra un nastro la parola era nuova alle orecchie di lord emsworth ma il nono conte la considerò subito la descrizione più appropriata di rupert baxter si sentì scaldare il cuore per il ragazzo e in quel momento avrebbe anche potuto gratificarlo di qualche moneta lo credi davvero chiese amorevolmente che ci fa qui lord emsworth sentì una fitta di dolore gli sembrava brutto oscurare il sole nella vita di quell'amabile ragazzino ma qualcuno doveva pur dirglielo sarà il tuo precettore precettore la parola sembra un grido d'angoscia salito dal più profondo dell'anima del ragazzo george era stato investito dalla sensazione spaventosa che ogni fondamento del vivere civile fosse stato appena raso al suolo la sua voce era colma di emozione precettore ripete precettore precettore in piena vacanza che me ne faccio di un precettore in piena vacanza è assurdo voglio dire in piena vacanza e per far cosa un precettore dico in piena vacanza avrebbe parlato ancora perché aveva molto da dire sull'argomento ma a quel punto la voce di lady constance musicale ma imperiosa lo interruppe george cavoli proprio in piena vieni qui george voglio presentarti mister baxter cavoli mormorò il povero ragazzo ancora una volta e aggrottando la fronte attraversò la terrazza strascicando i piedi e tondolando le braccia lord emsworth proseguì verso la biblioteca provava una tenera pietà per quel ragazzo che con quel fine riepilogo delle caratteristiche di rupert baxter aveva dimostrato uno spirito tanto simile al suo sapeva perfettamente come si sentiva george non era sempre facile far entrare qualcosa nella testa di lord emsworth ma stavolta il nono conte aveva colto la sostanza delle lagnanze del nipote george che stava per avere un precettore in piena vacanza non lo voleva sospirando leggermente lord emsworth arrivò in biblioteca e trovò il suo libro non c'erano molti libri che in un'occasione simile avrebbero distolto la mente di lord emsworth da ciò che vi pesava sopra ma questo lo fece era la cura dei maiali di wiffle e sepolto tra le sue pagine dimenticò tutto il capitolo che stava leggendo era quello stupendo sul pastone e lo portò completamente fuori dal mondo così che quando circa 20 minuti dopo la porta si spalancò all'improvviso fu come se una bomba le fosse esplosa sotto il naso lasciò cadere il wiffle e sedette in affanno poi anche se il suo pensne aveva seguito la routine di volar via fu in grado per qualche sottile istinto di sentire che l'intruso era sua sorella constance e un'osservazione che iniziava con le parole buon dio conny aveva iniziato a lasciare le sue labbra quando lei lo interruppe clarence disse ed era evidente che il suo sistema nervoso come quello di lui era molto scosso è accaduta la cosa più terribile eh quell'uomo è qui che uomo quell'uomo di jane l'uomo di cui ti ho parlato di quale uomo mi hai parlato lady constance si sedette avrebbe preferito poter fare a meno di noiose spiegazioni ma alla lunga frequentazione di suo fratello le aveva insegnato che la sua era una memoria che andava rinfrescata si imbarcò di conseguenza in queste spiegazioni parlando piano come una maestra di scuola a uno dei membri più ottusi della sua classe l'uomo di cui ti ho parlato certamente non meno di un centinaio di volte era un uomo che jane ha conosciuto in primavera quando è andata a stare con i suoi amici il egg nel devonshire ha avuto con lui uno stupido flirt che ovviamente lei ha insistito nel definire una grande storia d'amore e ha continuato a dire che sono fidanzati e lui non ha un penny né prospettive né così almeno so da jane un lavoro lord emsward la interruppe a questo punto per farle una domanda chi è chiese cortesemente jane lady constance vibrò un po oh clarence tua nipote jane oh mia nipote jane ah sì sì ovviamente mia nipote jane sì ovviamente certo mia clarence per favore per amor del cielo smetti di blatterare ascoltami per una volta in vita tua voglio che tu sia fermo essere cosa fermo punta i piedi cosa vuoi dire su jane avevo sperato che avesse superato questa ridicola infatuazione sembrava perfettamente felice e contenta per tutto questo tempo ma no sembra che abbiano tenuto una regolare corrispondenza e ora quell'uomo è qui qui sì dove chiese lord emsward osservandosi attorno nella stanza in modo interessato è arrivato ieri sera e sta in paese l'ho scoperto per puro caso mi è capitato di chiedere a george se avesse visto jane perché volevo presentarla a mister baxter e mi ha detto di averla incontrata mentre andava al lago perciò sono scesa al lago e l'ho scoperta con un giovanotto con giacca di tweed e nickerbockers di flanella si stavano baciando nel padiglione estivo lord emsward fece schioccare la lingua avrebbero dovuto farlo al sole disse con disapprovazione lady constance sollevò rapidamente il piede ma invece di dare un calcio al suo fratello si limitò a pestarlo sul tappeto il sangue non è acqua jane mi ha sfidato penso che sia uscita di senno ha insistito che l'avrebbe sposato e come ho detto non solo lui non ha un penny ma sembra che non abbia lavoro che tipo di lavoro fa credo che facesse l'amministratore di una proprietà nel devonshire mi ritorna tutto in mente disse lord emsward ora ricordo deve essere l'uomo di cui mi stava parlando jane ieri ovviamente sì mi ha chiesto di dargli il posto di simmons simmons va in pensione il mese prossimo bravo uomo disse lord emsward sentimentalmente è stato qui per anni e anni mi spiacerà perderlo benedetto me non sembrerà lo stesso posto senza il vecchio simmons pure disse illuminandosi perché era un uomo che traeva sempre il lato migliore dalle cose indubbiamente questo nuovo ragazzo si rivelerà postissimo jane sembra avere molta stima di lui lady constance si era alzata lentamente dalla sedia c'era un orrore incredulo sul suo volto clarence non mi starei dicendo che hai promesso a quest'uomo il posto di simmons eh sì è così perché no perché no ma non capisci che non appena lo avrà sposerà jane ebbene perché non dovrebbe bravissima ragazza probabilmente per lui sarà una buona moglie lady constance lottò per un poco i suoi sentimenti clarence disse ora esco per cercare jane le dirò che ci hai ripensato e hai cambiato idea a che riguardo a dare a quest'uomo il posto di simmons ma non è così sì invece e così era scoprì lord emsward quando incontrò il suo sguardo accadeva spesso in quel modo dopo che lui e coni avevano discusso su qualcosa ma non era felice ma coni dannazione non ne discuteremo più clarence il suo sguardo indugiò su di lui poi si diresse alla porta e uscì finalmente solo lord emsward riprese il suo cura dei maiali di wiffle nella speranza che potesse come prima riportare la calma sul suo spirito turbato lo fece ed era immerso in esso quando la porta si aprì di nuovo sua nipote jane era sulla soglia la nipote di lord emsward era la terza ragazza più carina nello shropshire nel suo aspetto generale sembrava una rosa rugiadosa e si sarebbe potuto pensare che lord emsward che non la cedeva nessuno in quanto ad amore per le rose avrebbe sentito il suo cuore balzar su alla sua vista questo non fu il caso il suo cuore balzò ma non su era un uomo di certe definite opinioni riguardo alle rose le preferiva senza labbra così serrate e menti sporti in fuori e non gli piaceva che lo guardassero come se fosse qualcosa di viscido e orribile scovato sotto un sasso il disgraziato era ora pienamente conscio della sua situazione sotto il magico incantesimo del wiffle era riuscito ad allontanare dalla sua mente per un po il pensiero di cosa jane le avrebbe detto quando avesse udito la cattiva notizia ma ora mentre lei avanzava lentamente nella stanza in quel modo sinistro e deciso caratteristico di così tante sue parenti femmine realizzò in che situazione si trovava e la sua anima si ritrasse come una lumaca sottosale jane non poteva non ricordarlo era la figlia di sua sorella charlotte e molti buoni giudici consideravano lady charlotte un osso più duro anche di lady constance o della sua sorella più giovane lady julia vibrava ancora per alcune delle cose che charlotte gli aveva detto a suo tempo e guardando jane con apprensione non vedeva ragioni per supporre che non avesse ereditato una buona quota del fuoco materno la ragazza andò dritta al punto sua madre si ricordò lord emsworth aveva sempre fatto lo stesso vorrei una spiegazione zio clarence lord emsworth si schiarì la gola infelicemente spiegazione mia cara spiegazione è quello che ho detto o spiegazione a sì a che riguardo sai perfettamente bene a che riguardo quel lavoro di amministratore zia constance dice che hai cambiato idea è vero bene è così ebbene sì verme disse jane miserabile strisciante verme con la spina dorsale di gelatina lord emsworth anche se si era aspettato qualcosa del genere tremò come se fosse stato arpionato questa disse cercando di mostrare una dignità che era ben lungi dal sentire non è una cosa molto carina da dire se solo sapessi le cose che vorrei dire mi sto trattenendo quindi hai cambiato idea è così una promessa sacra non significa niente per te zio clarence la felicità dell'intera vita di una ragazza non significa niente per te non avrei mai pensato che tu fossi un tale morbo io non sono un morbo sì che lo sei sei il morbo di una vita stai cercando di ammorbare la mia vita ebbene non lo farai qualsiasi cosa accada io intendo sposare george lord emsworth era genuinamente sorpreso sposare george ma coni mi ha detto che ti eri innamorata di questo tipo che è conosciuto nel devonshire si chiama george abercrombie oh ah disse lord emsworth illuminato benedetto me pensavo che intendessi parlare di mio nipote george e la cosa mi sconcertava perché non potresti sposarlo ovviamente è tuo fratello o cugino o qualcosa inoltre è troppo giovane per te quanti anni avrà george dieci undici si interruppe uno sguardo di rimprovero lo aveva colpito come un missile zio clarence mia cara è il momento di blaterare mia cara ebbene lo è guarda nel tuo cuore chieditelo eccomi qui con tutti che si danno da fare per cercare di distruggere la felicità di tutta la mia vita e invece di essere gentile comprensivo ed empatico dici stupidaggini sul giovane george stavo solo dicendo ho sentito cosa stavi dicendo e mi ha nauseato devi davvero essere l'uomo più cinico che sia mai vissuto non riesco a capire come proprio tu fra tutti ti comporti in questo modo zio clarence ho sempre pensato che mi volessi bene io ti voglio bene non sembra ti getti in questa schifosa cospirazione per distruggere la mia vita lord emsworth ne ricordò una buona io ho a cuore il tuo migliore interesse mia cara non funzionò un distinto getto di fuoco scoccò dagli occhi della ragazza cosa vuoi dire con migliore interesse dal modo con cui parla zia constance e con cui tu la spalleggi chiunque penserebbe che george sia uno con un cappello di paglia e una giacca rossa che ho raccattato al molo di blackpool gli abercrombi sono una delle più antiche famiglie del devonshire risalgono alla conquista e praticamente hanno fatto loro le crociate quando i tuoi antenati stavano a casa con la scusa di organizzare dall'alto il lavoro della guerra gli abercrombi erano fuori a combattere gli infedeli ero a scuola con un ragazzo di nome abercrombi disse pensosamente lord emsworth spero che ti abbia preso a calci no no non volevo dire questo mi spiace la cosa che sto cercando di fare è mantenere questo nostro colloquio libero da qual è la parola lord emsworth disse che non lo sapeva acrimonia voglio essere calma fredda e assennata onestamente zio clarence ti piacerebbe george sarai uno sciocco se gli dai il ben servito senza conoscerlo è l'uomo più meraviglioso sulla terra è entrato negli ultimi otto a wimbledon quest'anno davvero quali ultimi otto e non c'è niente che non sappia sull'amministrare una proprietà la prima cosa che ha detto quando è venuto nel parco è stata che molti alberi avevano bisogno di molte cure brutta impertinenza disse lord emsworth con calore i miei alberi sono in condizioni eccellenti non se george dice il contrario george conosce gli alberi anche io conosco gli alberi non tanto quanto george ma non ti preoccupare torniamo a quello schifoso complotto per rovinare la mia felicità perché non puoi essere leale zio clarence e stare dalla mia parte non riesci a capire cosa questo significa per me non sei mai stato innamorato certamente sono stato innamorato dozzine di volte ti racconterò una storia molto buffa non voglio ascoltare storie buffe no no assolutamente esattamente tutto quello che voglio è sentirti dire che darai a george il posto di mister simons e così potremo sposarci ma tua zia sembra pensare so cosa pensa vuole che sposi quell'asino di rogett davvero sì e io non lo farò puoi dirle da parte mia che non sposerò berti rogett neanche se fosse l'unico uomo al mondo c'è una canzone che dice così disse lord emsworth interessato la cantavano durante la guerra no non era uomo era ragazza se tu fossi l'unica come faceva ah sì se tu fossi l'unica ragazza al mondo e io fossi l'unico ragazzo zio clarence mia cara per favore non cantare non sei nella sala da ballo dell'emsworth arms ora non sono mai stato nella sala da ballo dell'emsworth arms o ad un concerto davvero sembri avere le idee più incredibili sul tipo di atteggiamento che si debba assumere quando si parla ad una ragazza la cui vita sta per essere distrutta prima parli del giovane george poi cerchi di raccontare storie buffe e ora canti canzoni comiche non era una canzone comica era lo era il modo in cui la cantavi ebbene e hai deciso cosa fare al riguardo riguardo a che la ragazza restò zitta per un momento durante cui sembrò così simile a sua madre che lord emsworth rabbrividi zio clarence disse con voce bassa e tremante non avrai intenzione di fingere che non sai di che cosa abbiamo parlato fino ad ora ha intenzione o no di dare a george quel lavoro ebbene 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 non possiamo star qui per sempre a dire bene l'uno all'altro ha intenzione o no mia cara non vedo come potrei tua zia sembra pensare parlava borbottando evitando lo sguardo della sua compagna e si era fermato a cercare le parole quando dal vialetto fuori provenne un forte rumore voci alte si avvicinavano dai grandi spazi aperti riconobbe la penetrante voce di soprano di sua sorella constance insieme al cavoli di sua nipote george in competizione con entrambi c'era la voce di gola baritonale di rupert baxter felice dell'occasione di cambiare argomento si affrettò alla finestra bene detto me che cos'è la battaglia qualsiasi cosa riguardasse si era apparentemente spostata in una direzione ignota perché dalla finestra non poteva vedere nessuno se non rupert baxter che stava fumando una sigaretta in quello che sembrava un atteggiamento molto nervoso si voltò e con infinito sollievo scoprì di essere solo sua nipote era scomparsa riprese il whiffle sulla cura dei maiali e aveva appena iniziato ad assaporare ancora una volta la prosa perfetta di quel capitolo sui pastoni che si aprì la porta jane era tornata restò sulla soglia guardando freddamente suo zio stai leggendo zio clarence eh oh ah sì stavo giusto dando un'occhiata alla cura dei maiali di whiffle e hai davvero il cuore di leggere in un momento come questo ebbene non leggi mai romanzi del west zio clarence e romanzi del west no no mai mi spiace ne stavo leggendo uno l'altro giorno e speravo che potessi spiegarmi qualcosa che mi sconcertava quello che dice un cowboy ad un altro cowboy oh sì questo cowboy il primo cowboy dice all'altro cowboy il secondo cowboy dio ti maledica hank spivis perché sei una puzzola schifosa vigliacca volta gabbana e disgustosa puoi dirmi cosa significa puzzola schifosa vigliacca volta gabbana e disgustosa zio clarence temo di no mia cara pensavo che potessi saperlo no oh uscì dalla stanza e lord emsworth riprese il suo whiffle ma non passò molto tempo che il volume si posò di nuovo sulle sue ginocchia mentre guardava davanti a sé tristemente stava rivedendo la scena trascorsa e desiderava di poter esserne venuto fuori meglio era un uomo vago ma non così vago da non capire che avrebbe potuto mostrarsi in una luce più eroica non avrebbe potuto dire per quanto tempo restò seduto a meditare un po di tempo indubbiamente perché le ombre sulla terrazza si erano allungate osservò mentre guardava fuori dalla finestra dall'ultima volta che le aveva viste stava per alzarsi e cercare consolazione in una passeggiata tra i fiori nel giardino sottostante quando la porta si aprì sembrò lord emsworth che si stava ora sentendo un po morboso che quella maledetta porta non avesse mai smesso di aprirsi da quando era andato in biblioteca per star solo e beach il maggiordomo entrò stava portando un fucile ad aria compressa in una mano e nell'altra un vassoio d'argento con sopra una scatola di munizioni beach era un uomo che investiva tutte le sue azioni di qualcosa dell'imponenza di un grande sacerdote che conduca un elaborato servizio in qualche romantico altare non è facile essere imponenti quando si porta un fucile ad aria compressa in una mano e un vassoio d'argento con una scatola di munizioni nell'altra ma beach ci riusciva molti maggiordomi in una situazione simile sarebbero sembrati cacciatori che uscivano per una caccia agli uccellini ma beach sembrava sempre un grande sacerdote avanzò verso la tavola accanto al lord emsworth e vi posò il suo carico come se il fucile e la scatola di munizioni fossero state un'offerta fumante e sua signoria un dio tribale lord emsworth guardò acidamente il suo fedele servitore i suoi modi erano quelli di un dio tribale che consideri l'offerta fumante non all'altezza che diavolo è questo è un fucile ad aria compressa mi lord questo lo vedo da nazione perché lo state portando qui sua signoria lady constance mi ha ordinato di portarlo a vostra signoria credo per tenerlo al sicuro mi lord l'arma era fino a poco tempo fa proprietà del signorino george perché diavolo stanno levando questo fucile al povero ragazzo chiese lord emsworth accalorato da quando il ragazzo aveva definito rupert baxter un impiastro sentiva un forte affetto per sua nipote sua signoria non si è confidata con me su questo punto mi lord mi sono state date solo le istruzioni di portare l'arma a vostra signoria in quel momento lady constance veleggiò nella stanza per gettare luce sul mistero ah vedo che bice te l'ha portato voglio che tu chiuda chiave quel fucile da qualche parte clarence a george non è più permesso tenerlo perché no perché non ci si può fidare sai cos'è successo ha sparato a mister baxter cosa si sul vialetto poco fa avevo notato che i modi del ragazzo erano imbronciati quando l'ho presentato a mister baxter e gli ho detto che lui sarebbe stato il suo precettore lui è scomparso nel boschetto e proprio ora mentre mister baxter era sul vialetto george gli ha sparato da dietro un cespuglio santo esclamò lord emsworth prudentemente aggiungendo poi la parola cielo ci fu una pausa lord emsworth prese il fucile e lo maneggiò con curiosità bang disse puntandolo ad un busto di aristotele che stava su una mensola accanto alla libreria per favore non agitare la cosa in quel modo clarence può essere carico non se george ha appena sparato a baxter no disse lord emsworth tirando il grilletto non è carico riflette un po uno strano sentimento di nostalgia stava insinuandosi in lui lontani ricordi della sua fanciullezza avevano iniziato a muoversi in lui benedetto me disse non tengo uno di questi in mano da quando ero bambino avete mai avuto uno di questi fucili beach sì milord quando ero bambino benedetto me mi ricordo mia sorella giulia che prese a prestito il mio per sparare alla sua istitutrice ricordi quando giulia sparò l'istitutrice coni non essere assurdo clarence non è assurdo le sparò fortunatamente le donne indossavano il busto a quei tempi beach ricordate quando mia sorella giulia sparò l'istitutrice l'incidente indubbiamente avvenne prima del mio arrivo al castello milord potete andare beach disse lady constance desidero clarence continuò mentre la porta si chiudeva che tu non dica quel genere di cose davanti a beach giulia sparò all'istitutrice se l'ha fatto non c'è bisogno che tu faccia del tuo maggiordomo il tuo confidente ora qual era il nome dell'istitutrice mi sembra che cominciasse con non preoccuparti di com'era il suo nome o con cosa cominciava dimmi di jane l'ho visto uscire dalla biblioteca le hai parlato sì o sì le ho parlato spero che tu sia stato fermo o fermissimo le ho detto jane ma ascolta con i da nazione non siamo un po duri con quella ragazza non vorremmo rovinarle la felicità di tutta la sua vita da nazione sapevo che ti ci avrebbe preso ma non devi cedere di un pollice ma questo ragazzo sembra essere un tipo molto a posto uno degli abercrombie e tutto il resto hanno fatto le crociate non lascerò che mia nipote si butti via con un uomo senza un penny non ha intenzione di sposare roigate sai niente ve la indurrà ha detto che non sposerebbe roigate neanche se lei fosse l'unica ragazza al mondo e lui l'unico ragazzo non mi importa quello che ha detto e non voglio discutere più della cosa ora vado a far venire george perché tu gli parli seriamente non ho tempo hai tempo non lo sto andando a guardare i fiori no tu resti per parlare a george voglio che tu gli faccia vedere chiaramente che azione malvagia ha compiuto mister baxter era furioso mi è tornato in mente esclamò lord emsworth mappleton di che stai parlando si chiamava mappleton l'istitutrice di giulia smettila con l'istitutrice di giulia parlerai a george o va bene va bene bene vado a chiamartelo e poi entrò george per un ragazzo che aveva appena infangato lo stemma di una fiera famiglia sparando a precettori con fucili ad aria compressa sembrava notevolmente allegro i suoi modi erano di uno che stia per fare una rimpatriata con un vecchio amico salve nonno disse leggermente salve ragazzo mio replicò lord emsworth con uguale affabilità zia coni ha detto che volevi vedermi eh ah oh sì lord emsworth riprese il controllo sì giusto sì certo certamente voglio vederti cos'è tutto questo ragazzo mio eh che cos'è che cos'è tutto questo e che cos'è cosa nonno sparare alla gente e quel genere di cose sparare a baxter e quel genere di cose non devi farlo sai non si può è molto sbagliato e molto pericoloso sparare alla gente con un dannato fucile non lo sapevi avresti potuto prenderlo nell'occhio da nazione o non avrei potuto prenderlo nell'occhio nonno aveva la schiena verso di me e si era chinato per allacciarsi la scarpa lord emsworth sussultò mi dici che hai preso baxter sul fondo schiena sì nonno voglio dire che disgrazia io mi immagino che sia saltato oh sì nonno è saltato come un pupazzo è così vero questo mi ricorda l'istitutrice di giulia zia giulia sparò la sua istitutrice nelle stesse precise condizioni si stava allacciando una scarpa cavoli è saltata certamente ragazzo mio ebbene così disse lord emsworth mentre un dubbio tardivo lo assaliva se quello fosse il tono giusto da tenere ebbene george ovviamente devo requisirti questo strumento giusto nonno disse george con la disinvolta amabilità di un ragazzo consapevole di avere due catapulte nel suo armadio al piano di sopra non puoi andare in giro a sparare alla gente ok capo lord emsworth accarezzò il fucile quel sentimento nostalgico stava crescendo sai ragazzo avevo uno di questi quando ero ragazzo cavoli erano già stati inventati i fucili sì ne avevo uno quando avevo la tua età e ci hai mai preso qualcosa nonno lord emsworth si eresse con una certa altezzosità certamente ci ho preso ogni genere di cose ratti e simili avevo una mira molto buona ma ora non so nemmeno come si carica questo dannato affare ecco come si carica nonno lo apri così e ci metti qui la cartuccia e poi lo chiudi così ed ecco fatto così davvero capisco sì sì ovviamente ora lo ricordo non puoi uccidere niente con questo disse george con uno sguardo pensoso che tradiva l'aspirazione a cose superiori pur è terribilmente utile per stuzzicare le mucche e baxter sì ancora una volta lord emsworth si costrinse a concentrarsi sul tono giusto non dobbiamo riderci ragazzo mio non c'è niente da scherzare è molto sbagliato sparare a mr baxter ma è un impiastro è un impiastro concordò lord emsworth sempre equanime tuttavia ricorda è il tuo precettore ebbene non capisco perché debba avere un precettore sgobbo come una bestia tutto l'anno a scuola disse george la voce vibrante di autocommiserazione e poi in piena vacanza mi sbattono addosso un precettore direi che è un po troppo lord emsworth avrebbe potuto dire al ragazzo che cose anche peggiori erano in atto al castello di blendings ma se ne astenne lo congedò con un sorriso gentile e comprensivo e riprese ad accarezzare il fucile come tanti uomini che avanzano nella vita lord emsworth aveva una memoria eccentrica non ci si poteva fidare di essa riguardo agli eventi del giorno prima anche nel compito poco impegnativo di aiutarlo a trovare un cappello che aveva posato da qualche parte cinque minuti prima serviva a poco ma a mo di compensazione era una perfetta enciclopedia in quanto al passato remoto rendeva la sua fanciullezza un libro aperto lord emsworth rifletteva sulla sua fanciullezza giorni felici giorni felici poteva ricordare chi fosse lo zio che gli aveva regalato l'arma così simile a questa con cui giulia aveva sparato alla sua istitutrice poteva ricordare belle ventose mattinate in cui era andato a caccia nel cortile delle stalle sperando di trovarvi dei ratti e quanti ne aveva colpiti strano che il passare del tempo avesse rimosso il desiderio di andare a sparare alle cose con un fucile ad aria compressa o no con un curioso brivido di eccitazione che fece ondeggiare dolcemente il suo pensne sul naso lord emsworth si rese conto all'improvviso che non era così tutto il passare del tempo aveva rimosso quel desiderio solo temporaneamente diciamo per una quarantina d'anni dormiente per un po diciamo per una cinquantina d'anni quel desiderio sentiva era ancora in agguato non saziato un po per volta iniziò a muoversi dentro di lui adesso lentamente ma certamente mentre sedeva ad accarezzare il fucile stava diventando di nuovo un potenziale cacciatore ad aria compressa a questo punto il fucile d'un tratto sparò e ruppe il busto di aristotele bastò l'istinto del vecchio cacciatore si era risvegliato ricaricatolo con l'abile efficienza di qualche cacciatore dei boschi lord emsworth andò alla finestra era un po incerto su cosa intendeva fare quando vi arrivò ad eccezione che aveva una chiara intenzione di sparare a qualcosa allora gli passò in mente quello che aveva detto suo nipote george sullo stuzzicare le mucche e questo servì in un certo senso a cristallizzare i suoi progetti vero di mucche non ce n'erano molte sulla terrazza del castello di blendings pure una avrebbe potuto vagare da quelle parti non si sa mai con le mucche non c'erano mucche solo rupert baxter l'ex segretario stava per gettar via una sigaretta la maggior parte degli uomini sono non curanti in materia di lancio di sigarette il mondo è il loro portacenere ma rupert baxter aveva uno spirito ordinato lasciò cadere la cosa a terra come qualsiasi giovanotto è vero ma subito dopo averlo fatto la parte migliore del suo sé si risvegliò si chinò a raccogliere l'oggetto che rovinava il bel selciato di pietra e l'invito di quel fondo di pantaloni sarebbe stato troppo potente perché potesse resistervi anche un uomo più forte di lord emsworth tirò il grilletto e rupert baxter balzò in aria con un grido acuto lord emsworth si sedette di nuovo e riprese la cura dei maiali di wiffle 2 tutti si interessano oggi alla psicologia del criminale il cronista perciò sente che non corre alcun rischio di perdere la presa sul lettore se a questo punto si ferma per esaminare ed analizzare le operazioni della mente di lord emsworth dopo che ebbe perpetrato l'atto criminoso che è stato appena descritto sulle prime dunque tutto quello che sentì mentre sedeva a voltare le pagine del suo wiffle era una sorta di calore una sorta di gioia tremula quale avrebbe potuto provare se avesse appena ricevuto il ringraziamento di una nazione per qualche grande servizio pubblico non era solo il fatto di aver fatto saltare così in alto il suo ex impiegato che induceva quel calore quello che gli faceva particolarmente piacere era che era stato un colpo davvero magnifico era un uomo sensibile e anche se nella sua conversazione con suo nipote george aveva cercato di portare una maschera non era riuscito a nascondere del tutto la sua irritazione per la non curante assunzione del ragazzo che lui nei suoi giorni di cacciatore ad aria compressa fosse stato di una perizia ordinaria ci hai mai preso qualcosa nonno i ragazzi dicono queste cose senza nessuna intenzione di ferire ciò nonostante trafiggono l'armatura altrui ci hai mai preso qualcosa nonno storie gli sarebbe piaciuto vedere george smettere di tenere il dito sul grilletto per 47 anni e poi al primo tentativo colpire un segretario di media taglia ad una distanza come quella e anche con poca luce ma dopo che fu seduto per un po' riscaldandosi silenziosamente il suo umore cambiò il compiacimento di un cacciatore dopo aver colpito il suo uomo non può mai restare a lungo un puro compiacimento prima o poi vi si insinua il pensiero della retribuzione e così accadde con lord emsworth improvvisamente mormorante nel suo orecchio udì la voce della coscienza dire e se venissi a saperlo tua sorella constance un attimo prima che questa voce parlasse lord emsworth sorrideva ora si congelò e il sorriso svanì dalle sue labbra come un alito dalla lama di un rasoio per essere seguito da un teso sguardo di ansia e di allarme né questo allarme era ingiustificato quando riflette a quanto poteva essere spaventosa e terribile sua sorella constance quando lui commetteva anche un peccatuccio veniale come scendere a cena con un fermacarte sullo sparato invece del più convenzionale fermacravatta la sua immaginazione inorridiva al pensiero di cosa avrebbe fatto in un caso come questo era terrorizzato la cura dei maiali di wiffle cadde dalla sua mano priva di nervi e sedette come un'anatra morente e lady constance che ora entrò notò la sua espressione e si incuriosì qual è il problema clarence problema perché sembri un'anatra morente non sembro un'anatra morente rispose lord emsworth con quel po di spirito che riuscì a trovare ebbene disse lady constance passando ad altro hai parlato a george certamente sì ovviamente ho parlato a george era qui poco fa e io gli ho parlato cosa gli hai detto ho detto lord emsworth voleva chiarire bene la cosa gli ho detto che non saprei neanche come si carica uno di quegli affari non gli hai fatto un discorso serio ovviamente gliel'ho fatto un gran bel discorso serio ho detto george tu sai come caricare questi cosi e io no ma non è un motivo per cui tu debba andare in giro a sparare a baxter tutto qui quello che gli hai detto no quello è stato solo l'inizio io lord emsworth si fermò non avrebbe potuto finire la frase neanche se gli fosse stata offerta una grande ricompensa perché mentre parlava sulla soglia parve rupert baxter e lui si ritirò nella sua poltrona come qualche big shot messo in un angolo dai g man il segretario avanzò zoppicando leggermente gli occhi dietro gli occhiali erano furiosi e i suoi modi turbati lady constance lo guardò interrogativamente c'è qualcosa che non va mister baxter che non va la voce di rupert baxter era tesa e lui vibrava in ogni membro aveva perso la sua consueta suavità e non era chiaramente in uno stato mentale atto a scegliere le parole che non va sapete cos'è accaduto quel ragazzo infernale mi ha sparato di nuovo che solo pochi minuti fa fuori sulla terrazza lord emsworth si scosse dalla sua paralisi penso che ve lo siate immaginato disse immaginato rupert baxter si scosse dagli occhiali alle scarpe vi dico che ero sulla terrazza mi sono chinato a raccogliere la sigaretta quando qualcosa mi ha colpito sul qualcosa mi ha colpito probabilmente una vespa disse lord emsworth ce ne sono molte quest'anno mi chiedo disse in modo colloquiale se siete al corrente del fatto che le vespe sono molto utili tengono lontane le larve della tipula che come sapete infliggono seri danni su la preoccupazione di lady constance si mescolò alla perplessità ma non potrebbe essere stato george mister baxter nel momento in cui mi avete detto cosa aveva fatto io gli ho confiscato il suo fucile ad aria compressa guardate è sul tavolo adesso proprio là sul tavolo disse lord emsworth indicandolo se venite qui potete vederlo chiaramente deve essere stata una vespa tu non hai lasciato la stanza clarence no sono stato qui tutto il tempo allora sarebbe stato impossibile per george spararvi mister baxter assolutamente disse lord emsworth una vespa indubbiamente a meno che come ho detto non vi siate immaginato tutto il segretario si irrigidì io non sono soggetto ad allucinazioni lord emsworth ma lo siete mio caro amico mi immagino che sia causato dal fatto che sforzate troppo il cervello ne avete di continuo clarence ebbene così sai bene quanto me che andò a frugare in molti vasi da fiori perché pensava che tu vi avessi nascosto la tua collana io non l'avete fatto mio caro amico oso dire che ve ne siete dimenticato ma l'avete fatto e poi per qualche ragione che conoscevate solo voi mi avete lanciato i vasi da fiori contro la finestra della mia camera baxter si voltò verso lady constance di un rosso intenso l'episodio cui si riferiva il suo ex datore di lavoro era uno che non desiderava gli venisse ricordato lord emsworth si riferisce all'occasione in cui fu rubata la vostra collana di diamanti lady constance fu indotto a credere che il ladro l'avesse nascosto in un vaso da fiori ovviamente mister baxter ebbene e ditela pure a modo vostro disse lord emsworth piacevolmente ma a benedetto me non dimenticherò mai l'essermi svegliato e aver trovato tutti quei vasi da fiori che entravano dalla finestra e poi quando guardai fuori e vidi baxter sul prato con il pigiama color limone lo sguardo di pazzia nei clarence oh va bene l'ho solo ricordato allucinazioni le ha continuamente disse testardamente anche se a bassa voce lady constance stava attubando col suo segretario come una madre col suo figlio letto è davvero impossibile che george abbia fatto questo mister baxter il fucile non ha mai lasciato questa si interruppe la sua bella faccia sembrò diventare improvvisamente di pietra quando parlò di nuovo quell'accento era scomparso dalla sua voce ed il tono era diventato metallico clarence mia cara lady constance tirò bruscamente il fiato mister baxter e mi chiedo se poteste lasciarci un momento desidero parlare con lord emsworth la chiusura della porta fu seguita da un silenzio seguito a sua volta da un curioso rumore sibilante come gas che fugga da una tubatura era lord emsworth che cercava di fischiettare con non curanza clarence sì sì mia cara la pietrificazione dell'espressione di lady constance era diventata sempre più marcata ad ogni momento cosa l'avesse causata all'inizio era il ricordo che le era palenato che quando era entrata in quella stanza aveva trovato il fratello che sembrava un'anatra morente l'unico uomo che un osservatore imparziale può confondere con uno di questi uccelli in extremis è l'uomo che ha un crimine sulla coscienza clarence sei stato tu a sparare a mister baxter fortunatamente nei suoi modi c'era stato qualcosa che aveva indotto lord emsworth ad aspettarsi la domanda era pronto io chi io sparare a baxter perché diavolo avrei dovuto sparare a baxter possiamo approfondire dopo i tuoi motivi quello che ti sto chiedendo è sei stato tu ovviamente no il fucile non ha lasciato la stanza sparare a baxter davvero mai sentito niente di così dannatamente assurdo in vita mia e tu sei stato qui tutto il tempo ebbene con questo e se l'avessi fatto io e se avessi voluto sparare a baxter supponi che ogni fibra del mio essere abbia desiderato da nazione sparare a quel tipo come potrei averlo fatto se non so neanche come caricare quell'arnese un tempo sapevi come fare sapevo fare molte cose è facilissimo caricare un fucile ad aria compressa lo saprei fare anche io ebbene io no allora come spieghi il fatto che a mister baxter si è sparato con un fucile ad aria compressa che non ha mai lasciato la stanza in cui ti trovi lord emsworth alzò al cielo delle mani imploranti come fai a sapere che gli è stato sparato da questo fucile ad aria compressa che dio mi benedica il modo in cui le donne saltano alle conclusioni basta come fai a sapere che non c'era un altro fucile ad aria compressa come fai a sapere che il posto non polluli di fucili ad aria compressa come fai a sapere che beach non abbia un fucile ad aria compressa o chiunque altro non riesco a immaginare che beach voglia sparare a mister baxter come sai che non vorrebbe farlo un tempo avevo un fucile ad aria compressa quando era ragazzo lo ha detto lui io osserverei bene quell'uomo per favore non essere ridicolo clarence non sono ridicolo neanche la metà di quanto lo sei tu dici che sparo alla gente con fucili ad aria compressa perché dovrei sparare alla gente con fucili ad aria compressa e come immagini che abbia preso baxter da questa distanza che distanza stava sulla terrazza no lo ha detto lui che stava sulla terrazza e io ero quassù vorrei vedere un tiratore esperto a prenderlo da una distanza tale chi pensi che io sia uno di quei tipi che sparano via le mele dalla testa dei loro figli il ragionamento era innegabilmente specioso colpile di constance si accigliò incerta ebbene molto strano che mister baxter sia così convinto che qualcuno gli abbia sparato non è affatto strano non ci sarebbe niente di strano se baxter fosse convinto di essere una rapa e fosse stato morso da un coniglio bianco con occhi rosa sai perfettamente bene anche se lui non vuole ammetterlo che il tipo è matto da legare clarence non serve dire clarence il tipo è matto fino al midollo e lo è sempre stato non l'ho forse visto alle 5 di mattina in un pigiama color limone che gettava vasi da fiori contro la mia finestra ovviamente tutta la cosa è frutto dell'immaginazione malata di quell'uomo sparato non ho mai udito una sciocchezza simile e ora disse lord emsworth alzandosi fermamente sto uscendo a dare un'occhiata alle mie rose sono venuto in questa stanza per godermi un po di quiete leggendo e meditando e da allora c'è stato un costante flusso di persone dentro e fuori che mi dicono che stanno per sposare uomini di nome aver combri e che dicono che li hanno sparato e che dicono che li ho sparato io e così via benedetto me allo stesso modo si potrebbe leggere e meditare in piccadilli circus cià disse lord emsworth che si era ora avvicinato abbastanza alla porta per sentirsi al sicuro nel pronunciare questa sgradevole esclamazione cià disse e aggiungendo pa per buona misura fece una rapida uscita ma anche allora il suo spirito turbato non doveva conoscere requie per raggiungere il giardino del castello di blendings se partite dalla biblioteca e scendete la scala principale dovete passare dall'ingresso a sinistra dell'ingresso c'è un piccolo studio e fuori di questo studio si trovava jane la nipote di lord emsworth yuhu esclamò lei zio clarence lord emsworth non era dell'umore per sentirsi dire yuhu dalle nipoti georgia bercrombie avrebbe potuto essere felice di chiacchierare con questa ragazza così herbert lord roigate ma lui voleva solitudine nel corso del pomeriggio aveva avuto così tanta compagnia femminile attorno a sé che se elena di troia fosse apparsa sulla soglia dello studio e gli avesse gridato yuhu si sarebbe limitato ad accelerare il passo ora lo accelerò non posso fermarmi mia cara non posso fermarmi oh sì che puoi vecchio mira sicura disse jane e lord emsworth scoprì che poteva si fermò così bruscamente che quasi si slogò la spina dorsale la mandibola gli cadde e il suo pesne stava danzando attaccato al cordino come foglia al vento due pistole thomas il tiratore della prateria non sbaglia mai un colpo gentilmente passa di quasi o clarence disse jane vorrei scambiare una parola con te lord emsworth passò di là seguì la ragazza nello studio e si chiuse attentamente la porta alle spalle tu tu mi hai visto balbettò certo che ti ho visto disse jane sono stata un'interessata testimone di tutta la cosa dall'inizio alla fine lord emsworth traballò fino ad una sedia e vi affondò guardando con occhi vitre la nipote qualsiasi uomo d'affari di chicago della scuola moderna avrebbe capito quello che stava provando e avrebbe simpatizzato con lui era la cosa che avvelena la vita dei tiratori e che a volte li fa dubitare tristemente se sia conveniente continuare nella loro tendenza a sparare al pubblico in momenti poco opportuni se sistemi qualche disputa di affari con un commerciante concorrente per mezzo del tuo fucile si scopre sempre che c'è qualche testimone casuale che passa di là ed ecco che vi trovate a confronto con un nuovo problema il lord emsworth si trovava in una situazione peggiore rispetto al suo fratello spirituale di chicago perché quest'ultimo avrebbe potuto sciogliere le sue perplessità spazzando via il testimone a lui questo malinconico piacere era negato un importante proprietario terriero dello shropshire con una posizione da mantenere nella contea non può spazzar via le sue nipoti tutto quello che può fare quando gli rivelano che l'hanno visto perpetrare il suo crimine è fissarle con occhi vitrei avevo un posto in prima fila per l'intero spettacolo proseguì jane quando ti ho lasciato sono andata nel boschetto per versare tutte le mie lacrime a causa della tua spaventosa crudeltà e disumanità e mentre stavo versando tutte le mie lacrime improvvisamente ti ho visto scivolare alla finestra della biblioteca con uno spaventoso sguardo di vile astuzia sulla tua faccia e il fucile del giovane george in mano e stavo giusto chiedendomi se potevo trovare un sasso e lanciartelo perché mi sembrava coerente con quello che avevo chiesto fin dall'inizio quando tu hai sollevato il fucile e ho visto che stavi prendendo la mira un attimo dopo c'è stato uno sparo un grido e baxter nuotava nel suo sangue sulla terrazza e mentre stavo là un pensiero mi si è insinuato nella mente ed era cosa avrà da dire zia constance al riguardo quando glielo dirò lord emsward emise un basso suono gorgogliante come il rantolo finale di quell'ana tramorente cui sua sorella lo aveva paragonato tu tu non hai intenzione di dirglielo perché no una convulsione malarica scosse lord emsward ti imploro di non dirglielo mia cara sai com'è fatta non la smetterebbe più ti darebbe il tormento pensi sì e anche io e tu lo meriti mia cara ebbene non vedi guarda come ti stai comportando stai lavorando come un castoro per rovinare la felicità della mia vita non voglio rovinare la felicità della tua vita no allora siediti a questa scrivania e scrivi una breve lettera a george dandogli quel lavoro ma cosa hai detto ho solo detto ma non ridirlo quello che voglio da te zio clares è un servizio rapido e allegro sei pronto caro mister aber crombie non so come si scrive disse lord emsward con l'aria di un uomo che abbia trovato una via soddisfacente a entrambe le parti te l'ho detto io abbi ab e r er c r o m crom b i e b il tutto costituisce la parola aber crombie che è il nome dell'uomo che amo capito sì disse lord emsward in tono sepolcrale ho capito allora procedi caro mister aber crombie in conseguenza una q una z e scrivi la in staccata dall'altra parola in conseguenza della nostra recente conversazione ma io non ho mai parlato a quell'uomo in vita mia non importa è solo una forma in conseguenza della nostra recente conversazione con molto piacere vi offro il posto di amministratori al castello di blendings e sarò felice se vorrete prendere servizio immediatamente in fede vostro emsward jane prese la lettera la premette amorevolmente sul tampone assorbente e la ripose nei recessi del suo vestito bene disse ecco tutto grazie mille zio clares questo ti fa riparare al tuo recente schifoso comportamento con cui cercavi di rovinare la felicità della mia vita hai fatto un inizio ostentato ma sei arrivato magnificamente alla fine baciatolo affettuosamente uscì dalla stanza e lord emsward affondato nella sua poltrona cercò di non guardare la visione di sua sorella constance che sorgeva davanti ai suoi occhi cosa coni avrebbe detto quando avrebbe saputo che in sfida i suoi recenti ordini aveva assunto questo giovanotto riflettei su lady constance e si chiese se ci fossero altri uomini nel mondo così tormentati dalla sorella come lui era una sua debolezza lo sapeva raggricciarsi in una palla che si scusava quando veniva salito da una semplice sorella la maggior parte degli uomini riservavano una tale condotta alle loro mogli ma era sempre stato così fin da quei giorni dell'infanzia che ricordava così bene ed era troppo tardi per cambiare le cose immaginava l'unica consolazione che poteva sostenerlo in questa ora buia era la riflessione che anche se le cose erano brutte erano indubitabilmente meno brutte di quanto avrebbero potuto essere almeno il suo terribile segreto era al sicuro quell'impulso di un momento di recuperata fanciullezza non gli sarebbe mai stato imputato coni non avrebbe mai saputo di chi fosse la mano che aveva tirato il fatale grilletto poteva sospettare ma non avrebbe mai potuto saperlo neanche baxter poteva saperlo baxter sarebbe diventato un vecchio canuto e con gli occhiali e sempre questa cosa sarebbe rimasta per lui un insolubile mistero dannata fortuna pensò lord emsworth che quel tipo non avesse ascoltato alla porta durante la recente conversazione fu in questo momento che un suono dietro di lui lo fece voltare e dopo essersi voltato balzò dalla sedia con una convulsione che quasi gli causò delle lesioni interne sul davanzale della finestra aperta come quelle di un cadavere che emerga dalla tomba per affrontare il suo assassino la testa e le spalle di rupert baxter si stavano lentamente alzando il sole della sera cadeva sui suoi occhiali e sembrò lord emsworth che brillassero come gli occhi di un drago rupert baxter non aveva ascoltato alla porta non ne aveva avuto la necessità immediatamente fuori della finestra dello studio al castello di blendings c'era una panchina rustica e su questa era rimasto seduto dall'inizio alla fine del colloquio che è appena stato descritto se fosse stato direttamente nella stanza avrebbe udito un po meglio ma non molto quando due uomini stanno faccia a faccia uno dei quali ha recentemente sparato all'altro con un fucile ad aria compressa e il secondo lo ha appena scoperto è raro che la conversazione scorra vivacemente fin dall'inizio si sente un certo imbarazzo quello che i francesi chiamano jeanne nel primo mezzo minuto di questo incontro l'unica cosa che accadde in modo vocale fu che lord emsworth si schierì la voce e immediatamente dopo divenne di nuovo silenzioso ed è possibile che il suo silenzio si sarebbe prolungato per un certo tempo se baxter non avesse fatto una mossa come se si stesse ritraendo per tutto il tempo in cui era rimasto a fissare il suo ex datore di lavoro la sua faccia era un libro aperto in cui era facile anche per l'occhio meno acuto leggere varie emozioni di sconcerto egli fece ora un passo indietro e l'afasia di lord emsworth lo lasciò baxter c'era un appello pressante nella voce del nono conte non capitava spesso che volesse fermare rupert baxter per parlare con lui ma ora era ardentemente desideroso di trattenerlo desiderava placarlo scusarsi spiegare era anche preparato se fosse stato necessario a offrire all'uomo il suo vecchio posto di segretario privato come prezzo del suo silenzio baxter mio caro amico un'alta voce tenorile alzata quasi a un do di petto per l'agonia dell'anima ha una qualità imperiosa qui è difficile resistere anche per un uomo nella condizione mentale di rupert baxter egli non aveva avuto intenzione di fermare la sua ritirata ma lo fece e lord emsworth arrivato alla finestra e sportane fuori la testa fu sollevato nel vedere che era ancora alla portata di una parola mielata baxter disse potete dedicarmi un momento gli occhiali del segretario balenarono freddamente desiderate parlarmi lord emsworth esattamente assenti sua signoria come se pensasse che fosse un modo felice di porre la cosa si desidero parlarvi si fermò e si schiarì di nuovo la voce ditemi baxter ditemi mio caro amico eravate eravate seduto qua poco fa lo ero avete per caso sentito parlare me e mia nipote sì allora mi immagino credo forse possibilmente indubbiamente siete stato sorpreso da ciò che avete udito ne fui esterrefatto disse rupert baxter che non aveva intenzione di privarsi di nessun verbo debole in un momento del genere lord emsworth si schiarì la voce per la terza volta voglio parlarvi di questo disse o disse rupert baxter sì io sono felice dell'occasione di parlarvene disse lord emsworth anche se con minor piacere nella sua voce di quanto ci si sarebbe aspettati da un uomo che era felice dell'occasione di poter parlare a qualcuno di qualcosa immagino che le affermazioni di mia nipote possono avervi fuorviato niente affatto possono avervi messo su una falsa pista al contrario ma se ricordo correttamente lei dava l'impressione da quello che diceva mia nipote dava l'impressione da quello che diceva chiunque avesse ascoltato quello che diceva mia nipote avrebbe ricevuto l'impressione che io avessi deliberatamente mirato a voi col fucile precisamente si sbagliava completamente disse lord emsworth calorosamente ha preso proprio un abbaglio le ragazze dicono cose così dannatamente sciocche causano un mucchio di guai turbano le persone dovrebbero essere più attente quello che è accaduto realmente mio caro amico è stato che stavo guardando fuori dalla finestra della biblioteca col fucile in mano e senza saperlo devo aver messo il dito sul grilletto perché d'un tratto senza la minima visaglia avreste potuto stendermi con una piuma è successa quella dannata cosa per caso davvero solo per caso non mi piacerebbe che pensaste che io miravo proprio a voi davvero e non vorrei che diceste a nessuno dello sfortunato evento in un modo che potrebbe darle intendo l'impressione che io mirassi verso di voi davvero lord emsworth non riusciva a persuadersi che i modi del suo compagno fossero incoraggianti aveva la sensazione di non fare alcun progresso è così che è andata disse dopo una pausa capisco solo un incidente nessuno è stato più sorpreso di me capisco e così lord emsworth capiva che era giunto il momento di giocare la sua ultima carta non era il momento di trattenersi e badare al prezzo doveva procedere fino allo spaventoso estremo che aveva contemplato ditemi baxter disse avete da fare in questo momento baxter sì replicò l'altro senza alcuna esitazione sto andando a cercare lady costas una convulsa deglutizione impedì al lord emsworth di parlare per un istante voglio dire balbettò quando lo spasmo fu passato mi dice mia sorella che in questo momento non avete occupazione che avete lasciato quel tipo di cui non ricordo il nome l'americano e stavo sperando mio caro baxter disse lord emsworth parlando con la voce roca come se le parole lo soffocassero di poter persuadervi ad accettare a riprendere di fatto stavo per chiedervi se voleste ridiventare mio segretario si fermò e trovato il fazzoletto debolmente si asciugò la fronte quel terribile discorso era finito e questa emergenza lo aveva lasciato sfinito e debole davvero esclamò rupert baxter sì disse cupamente lord emsworth un grande cambiamento e meglio si era verificato in rupert baxter era come se quelle parole fossero state una formula magica colmando di dolcezza e luce uno che fino a quel momento era stato più una nuvola temporalesca con gli occhiali che un essere umano cessò di incombere cupamente la sua aria di essere sul punto di scagliare fulmini lo lasciò arrivò addirittura al punto di sorridere e se il sorriso fu un sorriso che fece sentire a lord emsworth come i suoi organi vitali venissero sbattuti con una frusta per uova questo non era colpa sua stava cercando di sorridere in modo solare grazie disse ne sarò felice lord emsworth non parlò sono stato sempre bene al castello lord emsworth non parlò grazie mille disse a rupert baxter che bella serata scomparve alla vista e lord emsworth esaminò la serata come baxter aveva detto era bella ma non portava il balsamo che le belle serate in genere gli arrecavano una maledizione sembrava incombere su di essa il sole del tramonto splendeva valorosamente sul giardino formale che osservava ma erano le ombre lunghe piuttosto che il sole che impressionavano lord emsworth il suo cuore era piegato dal peso della disperazione o dice il poeta che rete intricata tessiamo quando prima pratichiamo la menzogna ed era precisamente lo stesso realizzava lord emsworth quando prima pratichiamo gli spari con fucili ad aria compressa solo un non curante sparo a baxter kino e che retribuzione che raccolto come il risultato di quel singolo sparo era stato costretto ad aumentare il suo staff personale di un amministratore cosa che avrebbe fatto infuriare sua sorella constance e di un segretario privato che avrebbe reso ancora una volta la sua vita l'inferno che era stata nei vecchi brutti giorni baxter non si sarebbe potuto cacciare in guai peggiori neanche se fosse andato in giro a sparare con una mitragliatrice lentamente distrattamente strascicando i piedi si tolse infine dallo studio e procedette col suo progetto precedente di andare ad annusare le rose e talmente abbattuto era ancora il suo umore dopo averle annusate per circa mezz'ora che beach il suo fedele maggiordomo che lo aveva seguito fu costretto a parlargli due volte prima di poterlo indurre ad allontanare il suo naso da una gloire de dijon è un biglietto per voi my lord un biglietto da chi mister baxter my lord se lord emsward fosse stato meno abbattuto avrebbe potuto notare che la voce del maggiordomo non aveva il suo consueto tono fruttato aveva un tono ottuso mancante di espressione era la voce di un maggiordomo che ha perso il pigolo ma essendo nell'abisso in uno stato mentale da non poter analizzare la produzione vocale dei maggiordomi si limitò a prendere la busta dal vassoio e ad aprirla pigramente chiedendosi cosa riguardasse quel biglietto la comunicazione era così breve che poté scoprirlo subito lord emsward dopo quello che è avvenuto devo riconsiderare la mia decisione di accettare il posto di segretario che mi avete offerto lascerò immediatamente il castello r baxter solo questo e niente altro lord emsward sgranò gli occhi davanti alla cosa non basta dire che era esterrefatto era sopra fatto se la gloire de dijon che aveva annusato da poco gli fosse saltata al naso staccandogli nella punta a stento sarebbe stato altrettanto sorpreso non poteva capirci niente come in sogno si accorse che beach stava parlando è il mio preavviso di un mese mi lord il vostro cosa il mio preavviso di un mese mi lord riguardo a cosa stavo dicendo che desidero darvi il mio preavviso di un mese mi lord una vaga irritazione per tutto questo parlare prese lord emsward eccolo qua che cercava di cogliere il senso di questa cosa spaventosa che gli era capitata e beach insisteva nell'indebolire la sua concentrazione continuando a parlare si 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 disse capisco tutto bene si si benissimo mi lord lasciato solo lord emsward affrontò i fatti comprendeva ora cosa fosse accaduto il biglietto non era più misterioso quello che significava era che per qualche ragione quella sua ultima carta da giocare si era rivelata inutile aveva pensato di tappare la bocca di baxter corrompendolo e aveva fallito l'uomo era sembrato accettare il ramoscello d'olivo ma in seguito doveva esserci stato qualche brusco rivolgimento di sentimento che gli aveva fatto cambiare idea indubbiamente un'improvvisa fitta di dolore nell'area ferita lo aveva fatto inondare dalla memoria dei torti subiti cosicché si era trovato a preferire la vendetta alla prosperità materiale e ora stava andando a sputare il rospo perfino in questo stesso momento tutti i fatti del caso avrebbero potuto venire spiattellati a lady constance e in questo stesso momento lord emsward pensò ora previdendo conny poteva essere in cerca di lui la vista di una donna che avanzava attraverso i cespugli di rose gli causò il brivido più forte del giorno e per un istante restò ad ansimare come un cane ma non era sua sorella constance era sua nipote jane jane era di umore eccellente salve zio clarence disse hai visto le rose ho inviato quella lettera a george zio clarence gliel'ho fatta recapitare dal ragazzo che pulisce coltelli e scarpe bravo ragazzo si chiama cyril jane disse lord emsward è accaduta una cosa terribile spaventosa baxter era fuori dalla finestra dello scrittoio dove stavamo parlando e ha udito tutto per giove davvero sì ogni parola e ha intenzione di dire tutto a tua zia come fai a saperlo leggi questo jane prese il biglietto disse dopo averlo scorso ebbene mi sembra zio clarence che ci sia una cosa sola da fare per te devi farti valere farmi valere sai cosa voglio dire essere duro quando zia constance viene a cercare di bullizzarti tu tira fuori i gomiti china la testa da una parte e rispondile con l'angolo della bocca ma ma cosa le dico santo cielo ci sono un centinaio di cose da dire oh sì davvero ehi solo un attimo ascolta bambina smamma smamma significa vai al diavolo lontano da qui ma non posso dire a conny di andare al diavolo lontano da qui perché no non sei padrone in casa tua no disse lord emsworth jane riflette allora ti dirò cosa fare nega tutto potrei credi ovviamente potresti e poi zia constance lo chiederà a me e io negherò tutto categoricamente dovrà crederci saremo due contro uno non preoccuparti zio clarence andrà tutto bene parlava col facile ottimismo della gioventù e quando andò via qualche momento dopo sembrava pensare di lasciare uno zio con la mente tranquilla lord emsworth poteva dirla cantare una canzonetta allegra non si sentiva affatto propenso ad unirsi al coro non poteva indursi a condividere la sua visione luminosa guardava il futuro e continuava a trovarlo buio c'era solo un modo di allontanare la mente da questo buio futuro solo un mezzo di realizzare un temporaneo oblio da cosa era in serbo per lui cinque minuti dopo lord emsworth era in biblioteca e leggeva la cura dei maiali di wiffle ma c'è un punto oltre cui la magia del più nobile scrittore cessa di funzionare wiffle era buono non si poteva dubitarne ma non era abbastanza buono da liberare la mente da un tale carico di preoccupazioni come quello che pesava su lord emsworth aspettarsi che vi riuscisse era una sfida troppo grande era come chiedere a wiffle di distrarre e divertire un uomo che si è messo alla ruota lord emsworth stava già iniziando a trovare una difficoltà nel concentrarsi su quella prosa perfetta quando qualsiasi possibilità che ci riuscisse fu allontanata lady constance apparve sulla soglia oh eccoti qui clarence disse lady constance si disse lord emsworth con voce bassa e tesa 3 un attento osservatore avrebbe notato nei modi di lady constance mentre entrava nella stanza un certo nervosismo e ansia un po di diffidenza ma a lord emsworth che non era un attento osservatore sembrava più o meno come al solito e lui rimase a guardarla come un uomo che si confronti con una bomba ad orologeria e provò una sensazione di stordimento fu in un modo quasi distaccato che si trovò a speculare su quale dei suoi crimini sarebbe stato per primo messo in discussione aveva incontrato jane e saputo della lettera fatale oppure veniva direttamente da un colloquio con rupert baxter in cui quell'uomo offeso le aveva detto tutto era così certo che dovesse essere uno di questi due argomenti che lei era venuta a recriminare che i suoi modi quando aprì la conversazione lo riempirono di stupore non solo mancavano di ferocia ma erano assolutamente amichevoli era come se un leone fosse entrato nella biblioteca e avesse iniziato a belare come un agnello tutto solo clarence lord emsworth tirò su di nuovo la mandibola e disse che si era tutto solo che stai facendo leggendo lord emsworth disse che si stava leggendo non ti disturbo vero lord emsworth anche se lo stupore lo aveva quasi privato della parola cercò di dire che non lo stava disturbando lady constance andò alla finestra e guardò fuori che bella serata sì mi stupisco che tu non sia fuori ero fuori sono rientrato sì ti ho visto nel giardino delle rose lady constance tracciò un disegno col dito sul davanzale della finestra stavi parlando a beach sì sì ho visto che beach veniva a parlarti ci fu una pausa lord emsworth stava per chiedere alla sua visitatrice se si sentisse bene quando lady constance parlò di nuovo quell'ansia nei suoi modi quel nervosismo erano ora ben marcati tracciò un altro disegno sul davanzale era importante cosa era importante voglio dire voleva qualcosa chi beach beach sì mi stavo chiedendo per cosa voleva vederti d'un tratto valenò in lord emsworth il ricordo che beach aveva fatto più che porgergli il biglietto di baxter e con esso dannazione si ricordò tutto con esso gli aveva dato un mese di preavviso e questo mostrava solo pensava lord emsworth in che razza di guaio si era ficcato visto che il fatto che questo superbo maggiordomo si era licenziato non gli aveva fatto nessuna impressione se una tale cosa fosse accaduta anche solo ieri avrebbe creato una grande crisi avrebbe sentito che le fondamenta del suo mondo stessero vacillando e stavolta aveva malapena ascoltato sì sì aveva detto se ricordava correttamente sì 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 tutto bene o parole simili volgendo ora la sua attenzione al disastro lord emsworth sedette stordito quasi dall'inizio dei tempi questo super maggiordomo era stato al castello e ora stava per svanire come neve al sole neve al sole quanto poteva farlo un uomo che pesava sedici stones era spaventoso era un incubo non avrebbe potuto fare a meno di beach la vita senza beach sarebbe stata insopportabile parlò e la sua voce era acuta e angosciata conny lo sai cos'è accaduto beach ha dato il preavviso cosa sì il preavviso di un mese l'ha dato beach l'ha dato e non una parola di spiegazione nessun motivo nessun lord emsworth si interruppe la sua faccia si indurì all'improvviso quella che sembrava l'unica possibile soluzione del mistero lo aveva colpito in fondo a tutto questo c'era conny conny doveva aver fatto la grandama col maggiordomo ferendo la sua sensibilità sì doveva essere questo era proprio il tipo di cose che faceva lei l'aveva sorpresa a fare la vecchia aristocratica inglese non una sola volta ma un centinaio di volte quel suo modo di stringere e sporgere le labbra e sollevare le sopracciglia e fare in genere la figlia di un centinaio di conti naturalmente nessun maggiordomo poteva sopportarlo conny gridò aggiustandosi il pensne e guardando in modo penetrante accusatorio cosa hai fatto a beach qualcosa che era quasi un singhiozzo sfuggì dalle labbra di lady constance la sua bella carnagione era impallidita e in qualche modo strano sembrava essersi ritirata gli ho sparato bisbigliò lord emsworth era un po' duro di orecchio hai fatto cosa gli ho sparato sparato sì vuoi dire che gli hai sparato sì 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 gli ho sparato col fucile di george un sospiro similante sfuggì a lord emsworth si appoggiò alla sedia e la biblioteca sembrò danzare vecchie danze di campagna davanti ai suoi occhi dire che si sentì debole per il sollievo sarebbe sottostimare l'effetto di questa straordinaria comunicazione il suo sollievo fu così intenso che si sentì totalmente privo di ossa non una ma molte volte nell'ultimo quarto d'ora si era detto che solo un miracolo avrebbe potuto salvarlo dalle conseguenze dei suoi peccati e ora il miracolo era avvenuto nessuno era più consapevole di lui del fatto che le donne sono abbondantemente munite di faccia tosta ma dopo questo certamente perfino conny non avrebbe avuto la faccia tosta di rimproverare lui per quello che aveva fatto gli hai sparato disse recuperando la parola un tocco della vecchia imperiosità ritornò in lady constance smetti di dire gli hai sparato clarence non è abbastanza brutto aver fatto una cosa così pazza senza dovere anche ascoltarti parlare come un pappagallo oh povera me oh povera me io ma perché l'hai fatto non lo so ti dico che non lo so qualcosa mi ha colpito improvvisamente era come se fossi stata stregata dopo che sei uscito pensavo di portare il fucile a beach perché io ebbene pensavo che sarebbe stato più al sicuro da lui che lì in biblioteca perciò l'ho portato in dispensa e per strada continuavo a ricordarmi che magnifico colpo avevo sparato da bambina che lord emsworth non poteva lasciar passare questo che vuoi dire che magnifico colpo avevi sparato da bambina tu non hai mai sparato in vita tua sì invece clarence tu stavi parlando di giulia che aveva sparato a miss mappleton non era giulia ero io lei mi aveva fatto restare in casa a ripetere i fiumi d'europa perciò le ho sparato è stato un colpo splendido a quei tempi scommetto che non era buono quanto i miei disse lord emsworth piccato io sparavo ai ratti anche io sparavo ai ratti a quanti ratti hai sparato oh clarence clarence non ti preoccupare dei ratti no disse lord emsworth richiamato all'ordine no da nazione non preoccupiamoci dei ratti dimmi di questa storia di beach ebbene quando sono arrivata alla dispensa era vuota e ho visto beach fuori accanto al cespuglio di alloro che leggeva in sedia sdraio quanto era lontano non so che importa circa sei piedi direi sei piedi e io gli ho sparato non ho potuto resistere era come un'orribile ossessione c'era una specie di spaventoso quadro nella mia mente di come sarebbe saltato perciò gli ho sparato come fai a sapere che l'hai colpito credo che tu l'abbia mancato no perché è saltato su e poi mi ha visto alla finestra ed è entrato e io ho detto oh beach voglio che prendiate questo fucile lo teniate e lui ha detto benissimo milady non ha detto niente del fatto che gli hai sparato no e io ho sperato e sperato che non si fosse reso conto di cosa era successo sono stata in un'agonia di attesa ma ora tu mi dici che ha dato il suo preavviso perciò deve essersene accorto clarence gridò le di costas torcendosi le mani come un'eroina perseguitata capisci la mia spaventosa situazione vero se lui ci lascia diffonderà la voce per tutta la contea e la gente penserà che sono pazza non sarò mai in grado di sopravvivere devi persuaderlo a ritirare le dimissioni offrigli uno stipendio doppio offrigli qualsiasi cosa non gli si deve permettere di andarsene se lo fai io non st cosa vuoi dire cost o a disse lord emsworth osservando alla fine che la porta si stava aprendo era sua nipote jane che entrava oh salve zia constance disse mi stavo chiedendo se fossi qui ti sta cercando mister baxter lady constance era distratta mister baxter sì l'ho sentito chiedere a beach dove fossi penso che voglia vederti a proposito di qualcosa disse jane indirizzò un rapido sguardo al lord emsworth accompagnato da una strizzatina d'occhio ricorda diceva quello sguardo categoricamente diceva la strizzatina al di fuori si sentirono dei passi rupert baxter entrò nella stanza precedentemente in questa cronaca abbiamo paragonato l'aspetto di rupert baxter quando ardeva di risentimento a una nuvola temporalesca ed è possibile che il lettore possa essersi formato un quadro mentale di una comune nuvola temporalesca quel genere che romba un po ma non conta molto in realtà non era questo tipo di nuvola quello a cui somigliava ora il segretario ma a una che scoppia sulle città dei tropici che inonda campagne mentre migliaia di persone fuggono si mosse cupamente verso lady constance con le mani tese lord emsworth lo ignorò sono venuto a dirvi arrivederci lady constance disse non c'erano molte affermazioni che avrebbero potuto riscuotere lady constance dalla sua preoccupazione ma questa lo fece e lei cessò di essere la cacciatrice persa in reminiscenza di caccia grossa e lo guardò stupefatta arrivederci arrivederci ma mister baxter ci state lasciando precisamente per la prima volta rupert baxter si degnò di riconoscere che era presente il nono conte non sono preparato disse amaramente a restare in una casa dove il mio compito principale sembra agire da bersaglio per lord emsworth e il suo fucile ad aria compressa che esattamente nel silenzio che seguì queste parole jane ancora una volta lanciò suo zio quello sguardo di incoraggiamento e stimolo quello sguardo che diceva si fermo con suo stupore vide che non era necessario lord emsworth era già fermo la sua faccia era calma gli occhi fermi e il suo pince ne non vibrava neanche quel tipo è pazzo disse lord emsworth con voce chiara e risuonante assolutamente pazzo te l'ho sempre detto che lo era bersaglio per il mio fucile puh pa di che sta parlando rupert baxter vibrò i suoi occhiali lampeggiavano come fuoco negate di avermi sparato lord emsworth certamente forse negate anche di aver detto a questa signorina nello studio che mi avete sparato certamente mi avevi detto di aver sparato a mister baxter zio clarence disse jane non ti ho sentito ovviamente non l'ho fatto credo bene me ne sarei ricordata le mani di rupert baxter si alzarono al cielo come se stesse invocando la giustizia divina lo avete ammesso con me personalmente mi avete pregato di non dirlo a nessuno avete cercato di sistemare tutto assumendomi come vostro segretario e io ho accettato a quel punto ero perfettamente disposto a dimenticare tutto ma quando neanche mezz'ora dopo lord emsworth sollevò le sopracciglia jane sollevò le sue straordinario disse jane davvero disse lord emsworth si tolse il pince né e iniziò a pulirlo parlando nel frattempo con voce soave ma questi modi anche se i suoi denti erano molto risoluti baxter mio caro amico disse c'è solo una spiegazione a tutto questo è proprio quello che vi stavo dicendo avete avuto di nuovo queste vostre allucinazioni non vi ho mai detto una parola sul fatto di avervi sparato perché avrei dovuto visto che non l'ho fatto e in quanto al fatto che dite che io vi abbia assunto come segretario l'assurdità della cosa è manifesta in se stessa non c'è niente al mondo che potrebbe indurmi ad avervi come mio segretario non voglio urtare i vostri sentimenti ma preferirei morire in un fosso ora ascoltate mio caro baxter vi dirò cosa fare saltate su quella vostra motocicletta e riprendete il giro dell'inghilterra da dove l'avevate lasciato e presto scoprirete che l'aria fresca fa meraviglie su quella vostra follia in un giorno due non saprete rupert baxter si voltò e uscì dalla stanza mister baxter gridò le di constance la sua intenzione di seguire il tipo e chiedergli di continuare ad infliggere la sua presenza bestiale alla quieta casa del castello di blendings era così evidente che lord emsworth non esitò conny ma clares constance tu rimarrai dove sei non muovere un passo ma clares non un dannato passo mi senti lascia che smammi lady constance si fermò irresoluta poi improvvisamente incontrò la piena forza del pensne e fu come se lei come rupert baxter fosse stata colpita da un proiettile collassò su una sedia e sedette là a giocherellare con gli anelli con fare desolato oh e a proposito conny disse lord emsworth avevo intenzione di dirtelo ho dato a quell'aber crombie quel lavoro che chiedeva ci ho pensato su attentamente e ho deciso di scrivergli due righe dicendogli che in conseguenza della nostra recente conversazione gli offrivo il posto di simmons mi sono informato e so che è un ragazzo eccezionale è un agnellino disse jane senti jane dice che è un agnellino proprio il tipo di persona che vogliamo in questo posto così ora ci sposeremo così ora si sposeranno un matrimonio eccellente e non credi conny lady constance non parlò lord emsworth alzò un po la voce vero conny lady constance balzò sulla sedia come se avesse udito la tromba del giudizio molto disse oh molto giusto disse lord emsworth e ora andrò a parlare a beach nella dispensa beach il maggiordomo sedeva sorseggiando un bicchiere di porto e guardando tristemente il cortile posteriore nei momenti di stress mentale il porto era per beach quello che il wiffle era per il suo datore di lavoro o come dobbiamo ora purtroppo dire il suo ex datore di lavoro vi correva quando la vita lo aveva abbattuto e mai prima di ora la vita lo aveva abbattuto in tal modo seduto nella sua dispensa quella dispensa che presto non lo avrebbe visto più beach era sprofondato era afflitto come qualche monarca caduto che stia per dire addio a tutta la sua grandezza e andare in esilio il dado era tratto la fine era giunta 18 anni 18 anni felici era stato in servizio al castello di blendings e ora doveva andar via per non più ritornare poco da stupirsi che sorseggiasse del porto un uomo più debole avrebbe sorseggiato del brandy qualcosa di tempestoso spalancò la porta e si accorse che la sua intimità era stata invasa dal lord emsworth si alzò e lo fissò in tutti i 18 anni in cui era stato in servizio il suo datore di lavoro non gli aveva mai fatto visita in dispensa ma non era semplicemente la presenza dell'altro che gli fece venire la pelle d'oca e sgranare gli occhi per quanto fosse notevole il mistero era maggiore di questo perché questo era uno strano e poco familiare lord emsworth un lord emsworth che fissava dove una volta aveva sbattuto gli occhi che scalpitava come un cavallo indomito e che batteva pugni sul tavolo rovesciando il porto beach tuonò questo sosia che diavolo è questa dannata sciocchezza mi lord sapete cosa voglio dire sul fatto di lasciarmi siete andato fuori di testa un sospiro scosse alla massiccia struttura del maggior domo temo che in queste circostanze sia inevitabile mi lord perché di cosa state parlando non siate stupido beach inevitabile davvero mai sentita una sciocchezza simile in vita mia perché è inevitabile guardatemi in faccia e rispondetemi penso che sia meglio che io mi dimetta piuttosto che essere licenziato mi lord stavolta toccò a lord emsworth sgranare gli occhi licenziato sì mi lord beach siete ubriaco no mi lord non vi ha parlato mister baxter mi lord ovviamente mi ha parlato ha dato fiato alla bocca per metà del pomeriggio cosa c'entra questo un alto sospiro che sembrava provenire dalla pianta dei suoi piedi piatti fece vibrare il panciotto del maggior domo come il grano al vento vedo che mister baxter non vi ha ancora informato mi lord pensavo che l'avrebbe già fatto ma è una semplice questione di tempo temo prima che faccia il suo rapporto informarmi di cosa mi dispiace dire mi lord che in un momento di impulso incontrollabile io ho sparato a mister baxter il pensney di lord emsworth volò via dal suo naso senza di esso poteva vedere solo indistintamente ma continuò a fissare il maggior domo e nei suoi occhi apparve un'espressione che era un misto di varie emozioni lo stupore sarebbe stata la principale se non fosse stata superata dall'affetto non parlò ma i suoi occhi dicevano fratello mio col fucile ad aria compressa del signorino george mi lord che sua signoria ha lasciato in mia custodia mi dispiace dire mi lord che al ricevere l'arma io sono uscito e mi sono avvicinato a mister baxter che camminava vicino al boschetto ho cercato di resistere alla tentazione mi lord ma era troppo intensa sono stato afferrato da un impulso che non avevo provato da quando ero un ragazzino e in breve io l'avete beccato sì mi lord lord emsworth riuscì a fare due più due ecco di cosa stava parlando in biblioteca ecco cosa gli ha fatto cambiare idea e mandarmi il biglietto quanto era distante quando gli avete sparato alcuni piedi mi lord ho cercato di nascondermi dietro un albero ma lui si è voltato rapidamente ed ero così convinto che mi avesse scoperto che sentivo di non avere alternative se non dare le mie dimissioni prima che lui potesse riferirvi la cosa a mi lord e io che pensavo che ve ne steste andando perché mia sorella conny vi aveva sparato sua signoria non mi ha sparato mi lord è vero che è partito accidentalmente un colpo dall'arma in mano di sua signoria ma la pallottola mi è passata accanto senza farmi del male lord emsworth sbuffò e lei ha detto che era un gran tiro non sa colpire nemmeno un maggiordomo seduto a sei piedi di distanza ascoltatemi beach non voglio più sentire questa sciocchezza di dimissioni benedetto me come pensate che potrei andare avanti senza di voi da quanto siete qui 18 anni mi lord 18 anni e parlate di andarvene di tutte le maledette idee assurde ma a temo mi lord che quando sua signoria saprà sua signoria non saprà baxter non glielo dirà baxter è andato andato mi lord andato per sempre ma avevo capito mi lord non importa cosa avevate capito è andato distava solo pochi piedi avete detto mi lord avete detto che baxter distava solo pochi piedi quando lo avete beccato sì mi lord disse lord emsworth prese il fucile con fare assente dalla tavola e con fare assente infilò una cartuccia in canna si sentiva compiaciuto e fiero come un campione il cui valore è indiscusso conny aveva mancato un bersaglio come beach praticamente un covone a sei piedi beach aveva sparato a baxter vero e così il giovane george ma solo con la canna del fucile che quasi toccava il tipo era toccato a lui clarence nono conte di emsworth a tirare il vero colpo un pensiero avvilente giunse a diminuire il suo compiacimento era come se una voce gli avesse bisbigliato all'orecchio la parola fortuna la sua mandibola cadde un po e restò fermo per un po a meditare si sentiva scoraggiato e abbattuto e se fosse stato solo un colpo di fortuna quel superbo tiro dalla libreria della biblioteca se si fosse sbagliato nel supporre di avere ancora l'antica maestria e se lui era questo quello che diceva la voce in condizioni simili avesse mancato nove colpi su dieci un rumore di scoppiettio interruppe la sua fantasticheria sollevo gli occhi alla finestra fuori nel cortile delle stalle robert baxter stava accendendo la sua motocicletta mister baxter milord lo vedo un sopraffacente desiderio afferrò lord emsworth di mettere la cosa alla prova per tacitare per sempre quella voce maligna quanto dite che sia distante beach venti yard e tutte milord guardate disse lord emsworth nello scoppiettio della moto si inserì uno scoppio secco fu seguito da un forte ululato rupert baxter che era chino sul manubrio si alzò dei sei pollici portando la mano alla coscia la disse lord emsworth baxter aveva cessato di strofinarsi la coscia era un uomo intelligente e aveva capito che chiunque sul territorio del castello di blendings perdesse tempo a star lì a strofinarsi le cosce se la stava semplicemente cercando per chi fosse intrappolato nell'inferno del castello di blendings una fuga immediata era l'unico modo di conquistare la salvezza lo scoppiettio salì in un crescendo poi diminuì e svanì del tutto rupert baxter era partito per girare l'inghilterra lord emsworth stava ancora guardando fuori dalla finestra rapito come se guardasse il punto x che segnava il luogo per un lungo momento beach restò in piedi ad osservare con riverenza la schiena che gli era rivolta poi come se effettuasse qualche rito simbolico in armonia con la dignità della scena prese il suo bicchiere di porto e lo sollevò in un brindisi silenzioso la pace regnava nella dispensa del maggior tomo la dolce aria della sera estiva si riversava dalla finestra aperta era come se la natura avesse suonato il cessato allarme il castello di blendings era di nuovo nascita di un venditore il giorno era così bello la brezza così gentile il cielo così azzurro e il sole così solare che lord emsworth quel vago estordito nobile che amava il bel tempo sarebbe dovuto essere allegro e spensierato specialmente mentre osservava i fiori una cosa che gli piaceva sempre ma sulla sua faccia che si sporgeva dalla siepe oltre cui stavano i fiori un attento osservatore avrebbe notato un brutto cipiglio stava pensando al suo figlio minore freddi venendo in america per assistere alle nozze di una delle sue nipoti con un milionario locale di nome tipton plimsoll lord emsworth si era trovato in materia di vito e alloggio a confrontarsi con una scelta difficile il governo britannico notoriamente tirato riguardo ai dollari gli aveva rifiutato di portare fuori dall'inghilterra una somma sufficiente a farlo vivere in un hotel di new york avrebbe potuto essere ospitato dalla zia dello sposo che stava agendo come maestra delle cerimonie delle nozze oppure avrebbe potuto stare insieme a freddi in un subborgo di long island dove quest'ultimo aveva stabilito la sua residenza avvertito dalle sue spie che miss plimsoll aveva in casa sua non meno di sei cani pechinesi una razza di animali che si dirigevano sempre alle sue caviglie aveva deciso per freddi e ora si era accorto di aver fatto la scelta sbagliata i pechinesi masticavano il corpo ma freddi lacerava l'anima i fiori crescevano nel giardino di una grande casa bianca alla fine della strada e lord emsworth li aveva occhieggiati per circa 40 minuti perché era un uomo cui piaceva prendere il suo tempo per queste cose quando la sua fantasticheria fu interrotta dal suono di un clacson e da una voce stonata che cantava buttons and bows la macchina di freddi si fermò con freddi al volante oh sei qui capo disse freddi sì disse lord emsworth che era lì stavo guardando i fiori una bella esibizione un giardino attraente dove ogni visione piace e solo l'uomo è vile disse freddi austeramente stai alla larga dal suo proprietario capo abbassa il tono del vicinato davvero perché non è degli elementi migliori la moglie è via e lui organizza delle feste ho dimenticato il suo nome grigs o follansby o qualcosa del genere ma noi lo chiamiamo lupo della foresta fa qualcosa nel commercio del legname e organizza delle feste ripetutamente potresti dire incessantemente riceve folle di bionde tutto sbagliato mia moglie è via ma mi vedi circondato da bionde no sto in pena per il suo ritorno beh devo proseguire sono in ritardo vai via da qualche parte freddi fece schioccare la lingua te l'ho detto ieri capo e te l'ho detto due volte stamattina che oggi è un pranzo di lavoro al golf club ti ho spiegato che non potevo chiederti di unirti a noi perché sto per fare a questo tipo un colloquio di vendita per tutto il pranzo troverai il tuo pranzo su un vassoio pranzo freddo oggi perché giovedì e il giovedì i domestici hanno il giorno libero si allontanò tutto brio ed efficienza e lord emsward tut disse un contrariato tut tut ecco si stava dicendo in sintesi ciò che rendeva freddi un compagno così irritante per i nervi faceva sentire il suo peso si comportava come se fosse lo spirito del commercio moderno era come se fosse uscito da una di quelle pubblicità che mostrano l'impiegato che ha fatto il corso per corrispondenza in fiducia in sé e autostima che guarda il suo capo negli occhi e lo fa arretrare freddi lavorava per la donaldson incorporated commercianti in biscotti per cani di long island city e lo faceva da tre anni in quei tre anni un qualche miracolo lo aveva trasformato da una vuota giovane lucertola londinese in un pigliatutto un filo elettrico e un uomo che pensava all'istante e lo faceva in quel momento ogni sera da quando lord emsward era arrivato a godere della sua ospitalità se godere è la parola giusta aveva parlato liricamente a lungo del suo successo nel promuovere gli interessi della gioia del cane donaldson fate pensare al vostro cane alla donaldson non facendo segreto della sua idea che era stato un giorno fortunato per la cara vecchia ditta quello in cui lo aveva messo sul suo libro paga come venditore era bravo un tipo che cuoceva col gas e non si risparmiava e lo ammetteva tutto questo avrebbe potuto essere musica per le orecchie di lord emsward perché un figlio minore che si guadagna da vivere in america è indubitabilmente un gran miglioramento rispetto a un figlio minore che ciondola in giro e si indebita in inghilterra se non fosse stato per una circostanza non riusciva a liberarsi dalla crescente convinzione che dopo anni in cui aveva considerato questo suo figlio come un fannullone uno sprecone il figlio stava ora considerando lui allo stesso modo diventato ora lavoratore nel mondo freddy guardava con disprezzo uno che come lord emsward non faticava né sudava manteneva lord emsward non aveva mai realmente definito lord emsward uno scroccone ma aveva chiarito che era in questa categoria che aveva mentalmente classificato l'autore della sua esistenza e se c'è una cosa che penetra nell'armatura di un padre inglese delle classi superiori è l'essere guardato dall'alto in basso dal suo figlio minore c'era poco da stupirsi che lord emsward mentre camminava lungo la strada stesse stringendo i denti un uomo più debole li avrebbe digrignati la sua tristezza non fu illuminata dalla vista del pranzo freddo che lo aspettava al suo ritorno a casa c'era il vassoio di cui aveva parlato freddy e su di esso un piatto su cui come dei cadaveri dopo una battaglia giacevano una fetta di prosciutto vermiglio una fetta di carne in scatola color seppia e un cerchio di salsa a base di fegato color malva e fra tutte le cose rivoltanti un grande cetriolo sott'aceto verde sembrava lord emsward che lo staff domestico di freddy fosse per temperamento incapace di distinguere tra i bisogni di un vecchio gentiluomo che doveva stare attento a ciò che mangiava e quelle di un gruppo di buzzurri che mangiano quello che capita nelle everglace della florida per alcuni momenti restò a guardare a bocca aperta questo sgradevole quadro di natura morta poi scivolò nella sua mente il pensiero che potessero esserci delle uova nel frigorifero andò a mettere alla prova la sua teoria e si rivelò corretta disse lord emsward ricordò la frequenza con cui mangiava uova strapazzate a scuola ma i suoi giorni di scuola si trovavano a mezzo secolo alle sue spalle e il tempo nella sua marcia ci deruba dei doni della nostra gioventù dall'era in cui aveva indossato colletti di itone macchie di inchiostro sulla faccia aveva perso quello che mostrò fin troppo rapidamente che l'operazione uova non sarebbe stata la passeggiata che aveva previsto giunse a un momento in cui sarebbe per lui stato difficile dire se fosse lui che stava strapazzando le uova o le uova a strapazzare lui e si era fermato per chiarire i suoi pensieri su questo punto quando il campanello del portone d'ingresso suonò intensamente intriso di bianco d'uovo si trascinò a rispondere al richiamo sul portico si trovava una ragazza la ispezionò attraverso il suo pensne con lo sguardo vacuo che gli avevano spesso criticato i membri femminili della sua famiglia gli sembrava mentre la assorbiva lentamente un tipo carino di ragazza da uomo con moltissime nipoti che li sbucavano sempre attorno e lo tampinavano quando voleva leggere il suo libro sui maiali era arrivato a temere e a non fidarsi dei membri più giovani del sesso opposto ma l'aspetto di questa gli piacque subito in lei non c'era niente di quella bellezza altezzosa ed emozioni tempestose in cui erano specializzate le sue nipoti era piccola amichevole e socievole buongiorno le disse buongiorno vi piacerebbe un'enciclopedia dello sport riccamente rilegata per niente disse cordialmente lord emsward sapete fare delle uova strapazzate certamente allora entrate disse lord emsward entrate e scusatemi se vi lascio vado a cambiarmi vestiti è riconosciuto che le donne sono meravigliose non ci volle molto a lord emsward allevarsi il suo vestito migliore che aveva indossato per rispetto ai desideri di freddi che era un purista dell'abbigliamento e indossare quello più vecchio e informe che lo faceva sembrare un impiegato minore di qualche oscura ditta di investigazioni private ma per quanto breve fosse stato quell'intervallo la ragazza era riuscita a rimettere ordine nel caos non solo aveva placato quello che stava minacciando di divenire una brutta rivolta tra le uova ma aveva trovato la pancetta e il caffè e aveva prodotto del pane tostato quello che era virtualmente un banchetto fu servito nel tinello e lord emsward stava per mettersi sotto a mangiarlo quando si accorse di una mancanza dov'è il vostro piatto chiese il mio la ragazza sembrò sorpresa devo partecipare anche io certamente è molto carino da parte vostra sto morendo di fame queste uova disse lord emsward alcuni momenti dopo parlando con la bocca piena di esse sono deliziose sale grazie pepe e mostarda ditemi disse lord emsward perché era una questione che lo aveva reso molto perplesso perché andate in giro per il paese offrendo alla gente delle enciclopedie dello sport riccamente relegate dannatamente gentile da parte vostra ovviamente si affrettò ad aggiungere perché non pensasse che la stava criticando ma perché lo fate le piazzo le piazzate sì una luce brillante si accese sul lord emsward è stato ben detto di lui che aveva un quoziente intelligenza circa 30 punti più basso di quello di una medusa non troppo brillante ma aveva ferrato il punto lei le vendeva ovviamente sì assolutamente capisco cosa vuol dire voi le state vendendo giusto vi costano 5 dollari e io prendo il 40 per cento solo che non lo prendo perché no perché la gente non le compra no no sir la gente non vuole enciclopedie dello sport riccamente relegate se è così non me lo dicono povera cara lord emsward inghiottì con emozione un pezzo di pancetta il suo cuore sanguinava per questa povera bambina deve essere duro per voi lo è ma perché dovete vendere queste cose ebbene così avrò un bambino buon dio o non subito il gennaio prossimo ebbene quel tipo di cose costa soldi ho ragione o no ragione decisamente disse lord emsward che non era mai stato una giovane madre lui stesso ma conosceva certe cose ricordo che la mia povera moglie si lamentava delle spese quando nacque mio figlio frederick o povera me povera me ricordo che diceva era viva a quel tempo spiegò lord emsward ed lavora in un garage davvero non credo di averlo conosciuto chi è ed mio marito o vostro marito volete dire vostro marito lavora in un garage vero giusto e dalla sua paga non resta molto per gli extra come bambini come bambini perciò ho preso questo lavoro non l'ho detto a detto ovviamente gli verrebbe un colpo è soggetto a colpi vuole che io stia sdraiata e mi riposi penso che abbia ragione o ha ragione va bene ma io come posso ho dovuto darmi da fare e vendere enciclopedie ricamente rilegate dello sport dello sport ed è duro continuare ci si scoraggia oltre che avere le vesciche ai piedi vorrei che poteste vedere i miei piedi adesso sul punto di dire che ne sarebbe stato felice lord emsward si fermò aveva avuto un'idea brillante che gli aveva tolto il fiato questo accadeva sempre quando aveva idee brillanti ne aveva avuta una nella primavera del 1921 e un'altra nella primavera del 1933 e anche quelle gli avevano tolto il fiato vi venderò io le vostre enciclopedie dello sport ricamente rilegate disse voi la brillante idea che aveva tolto il fiato al lord emsward era che se lui andava a vendere enciclopedie dello sport ricamente rilegate che veniva ammesso da tutti gli esperti erano molto difficili da vendere si sarebbe liberato una volta per tutte del complesso di inferiorità che lo opprimeva da quando era in compagnia di suo figlio freddi i giovanotti con la maggior faccia di bronzo non possono sbattere quello spirito del commercio moderno su un padre se il padre è praticamente lui stesso uno spirito del commercio moderno precisamente disse ma non potreste lord emsward mordeva il freno un'ondata di autostima e fiducia in sé stava sorgendo in lui chi dice che non potrei mio figlio freddi vende cose e io mi risento dell'idea che sia incapace di fare qualsiasi cosa sappia fare freddrick si chiese se sarebbe stato possibile spiegarle che giovane testa di rapa fosse freddrick poi rinunciò al tentativo ritenendolo inutile lasciatelo a me disse state sdraiata su quel divano e riposatevi ma non discutete disse lord emsward pericolosamente divenendo il maschio dominante sdraiatevi su quel divano due minuti dopo stava camminando lungo la strada sempre colmo dell'ondata di autostima e fiducia in sé il suo obiettivo era la grande casa bianca dove c'erano i fiori stava ricordando cosa aveva detto freddi sul suo proprietario l'uomo secondo freddi dava ricevimenti e riceveva bionde in assenza di sua moglie e mentre si può non vedere di buon occhio che fa una cosa del genere dobbiamo ammettere che questo suggerisce il possesso di un sangue sportivo questo tipo poco convenzionale e impulsivo probabilmente compra all'ingrosso enciclopedie dello sport ma una delle cose che rende la vita così difficile è che le ondate di autostima e di fiducia in sé non durano nascono ma poi si ritirano lasciandoci con menti dubbiose e pavide lord emsward aveva iniziato su di giri ma arrivato al cancello della casa bianca quel calore cominciò a svenire non era che si fosse dimenticato la tecnica della cosa freddi gliel'aveva spiegata fin troppo spesso perché se la dimenticasse bussate alla porta dite mi chiedo se potrebbe interessarvi un buon biscotto per cani e poi per puro magnetismo personale gettate un incantesimo sul padrone di casa così che diventa cera molle nelle vostre mani tutto perfettamente semplice e diretto eppure dopo aver aperto il cancello ed aver fatto qualche passo nel vialetto lord emsward si fermò si levò il pensne lo pulì lo rimese sul naso ammicò deglutì una o due volte si passò un dito sul mento la prima piacevole follia si era abbattuta si stava sentendo come un uomo nervoso che in un momento impulsivo si fosse offerto volontario di gettarsi nelle cascate del niagara in un barile era ancora in piedi sul vialetto lasciando che il non oso seguisse il vorrei come fanno i gatti nei proverbi quando l'aria si riempì di clacson e stridore di freni e voci urlanti che dio benedica la mia anima disse lord emsward uscendo dal suo coma la macchina che era andata così vicina a creare un seggio vuoto nella house of lords stava traboccando di bionde c'era una bionda al volante un'altra accanto a lei altre bionde nei sedili posteriori e sul grembo della bionda accanto alla bionda guidatrice c'era un cane pechinese biondo stavano tutti urlando e il cane pechinese urlava insulti in cinese che dio benedica la mia anima disse lord emsward chiedo scusa devo davvero scusarmi ero immerso nei miei pensieri o era in quelli che eravate immerso disse la bionda al volante addolcita dalla sua suavità parlate educatamente alle bionde e loro parleranno educatamente a voi stavo pensando ai biscotti per cani ai biscotti per cani ai in breve biscotti per cani mi chiedo disse lord emsward battendo il ferro finché era caldo potrebbe interessarvi un buon biscotto per cani la bionda al volante soppesò la questione non a me disse io non li tocco mai non a me disse una bionda sul retro ordini del dottore e se state pensando di fare una buona vendita ad eisenhower qui disse la bionda accanto alla guidatrice baciando il pechinese sulla punta del naso un ardimento di cui si meravigliò lord emsward lui mangia solo pollo lord emsward si corresse quando ho detto biscotti per cani spiegò in realtà volevo dire un'enciclopedia dello sport riccamente rilegata le bionde si scambiarono degli sguardi sentite disse quella al volante se non sapete la differenza tra un biscotto per cani e un'enciclopedia dello sport riccamente rilegata mi sembra che fareste meglio in qualche altro ramo di impresa molto meglio disse la bionda accanto a lei un mucchio meglio concordò la bionda sul retro non c'è futuro nella strada che state facendo disse la bionda al volante riassumendo questa è la prima cosa che dovete sistemare la differenza tra biscotti per cani e enciclopedia dello sport riccamente rilegata è una cosa che vi farà risparmiare tempo c'è una differenza non potrei spiegarvelo qui in un attimo ma se vi mettete tranquillo in un angolo da qualche parte e ci meditate sopra quietamente vedrete che vi verrà presto in mente disse la bionda sul retro come un colpo di fulmine assentì la bionda al volante sarete stupito anche del perché abbiate confuso le due cose e bene arrivederci è stato un piacere la macchina avanzò verso la casa e lord emsward chiudendo le orecchie paonazze alle allegre risate che venivano dall'interno uscì per strada trotterellando il suo spirito era distrutto era sua intenzione tornare a casa e restarvi e aveva iniziato il suo ritorno quando si insinuò nella sua mente un pensiero disturbatore quella ragazza quella giovane graziosa missis ed che avrebbe avuto un colpo a gennaio o piuttosto un bambino era suo marito si ricordò quello che aveva i colpi lei stava puntando tutto sul suo lavoro di venditrice poteva deluderla poteva tradire la sua semplice fiducia l'ovvia risposta era sì certamente ma alla cavalleria ereditata da una lunga linea di antenati tutti quali erano stati notati per aver fatto le cose giuste per damigelle in difficoltà spingeva lord emsward a ritrarsi da detta risposta nei vecchi tempi in cui la cavalleria fioriva e occorreva qualcuno per salvare una femmina sofferente da un drago o da un gigante a due teste il grido era sempre lasciatelo fare a un emsward e l'emsward del tempo aveva indossato la sua cotta di maglia sfoderato la spada attaccato il ceo in gam sotto la tavola rotonda e si era buttato nella mischia proprio un bel caso se il possessore del titolo del ventesimo secolo si fosse lasciato intimidire da delle bionde diventato rosso paonazzo lord emsward si voltò e si diresse di nuovo alla casa bianca nel tinello della casa bianca fresca all'ombra dell'albero che si trovava fuori della finestra era iniziata una di quelle deplorevoli orge neo-babilonesi che sono così frequenti quando si avvicinano bionde e uomini che sono nel commercio del legno stavano circolando dei cocktail e la bionda che era stata al volante della macchina era la vita e l'anima della festa quando faceva la sua imitazione dell'uomo al di fuori che non riusciva a distinguere i biscotti per cani dalle enciclopedie il suo lord emsward era un'opera un po' impressionista brillante ma non lusinghiera stava dando un secondo bis quando la sua esibizione fu interrotta da un acuto latrato che veniva da fuori e la bionda che era stata seduta accanto a lei aggrottò alla fronte con materna preoccupazione qualcuno sta stuzzicando Eisenhower disse probabilmente ha trovato un gatto disse il lupo della foresta dimmi ancora che tipo di personaggio era questo personaggio alto disse una bionda vecchio disse un'altra bionda magro disse una terza bionda e una quarta bionda aggiunse che aveva un pince un'improvvisa serietà cadde sul lupo della foresta stava ricordando che in varie occasioni negli ultimi giorni aveva visto un uomo simile che sbirciava sulla sua siepe in modo furtivo e minaccioso come charlotte coms sulla pista quella stessa mattina lo aveva visto era rimasto fuori dalla siepe immobile a osservare e osservare il problema per gli uomini che danno ricevimenti con bionde in assenza della moglie la cosa che agisce come uno scheletro alla festa e fa loro venire la pelle d'oca quando il divertimento è al culmine è il fatto che non possono mai liquidare totalmente la possibilità che queste mogli anche se dovrebbero vergognarsi di sé nel nutrire indegni sospetti potrebbero aver ingaggiato dei detective privati per scoprirli privatamente e riferire sulle loro attività fu questo pensiero che ora giunse sibilando come un vento dell'est nella mente del lupo della foresta il cui nome, giusto per essere dei cronisti fedeli non era Griggs o Follansby ma Spenlow, George e mentre vacillava sotto questo impatto una delle sue ospiti che fino a quel momento non aveva preso parte alla conversazione disse oh guardate, Eisenhower l'ha fatto salire su un albero e George Spenlow, seguendo la direzione del suo indice vide che aveva detto giusto eccola quel tipo appollaiato fra i rami mentre si aggiustava il pensne come per vedere meglio la scena sotto di lui vibrava come gelatina e guardava Lord Hemsworth Lord Hemsworth guardava lui i loro occhi si incontrarono molto è stato scritto sul linguaggio degli occhi ma eccessione fatta per gli amanti non è mai un mezzo di comunicazione molto soddisfacente George Spenlow, cercando di leggere il messaggio negli occhi di Lord Hemsworth ne perse completamente il succo quello che Lord Hemsworth stava cercando di trasmettere con il linguaggio degli occhi era una scusa per il suo comportamento che a prima vista ammetteva poteva sembrare un po' strano aveva bussato alla porta stava cercando di spiegare ma incapace di attrarre l'attenzione sulla sua presenza aveva fatto il giro della casa verso il punto in cui udiva delle voci senza altro pensiero nella sua mente che un appassionato desiderio di vendere enciclopedie dello sport riccamente rilegate e improvvisamente qualcosa era esplosa come una bomba di terra sul terreno accanto a lui e guardando in basso aveva visto un cane pechinese che avanzava su di lui con i denti snudati questo non gli aveva lasciato altra scelta che salire sull'albero per evitare le sue mascelle o per le ali di una colomba si era detto e aveva continuato a muoversi concluse le sue affermazioni sorridendo con un sorriso conciliatore questo trafisse George Spello come un pugnale gli sembrava che questo investigatore privato felice di averlo colto in flagrante stesse giubilando malignamente diglutì voi ragazze restate qua disse con voce roca vado a parlare a quel tipo scavalcò la finestra si chinò a prendere il pechinese lo restituì alla sua proprietaria e si rivolse a Lord Hemsworth con voce tremante ora ascoltate disse questi uomini che commerciano il legno sono rapidi pensatori George Spello aveva visto una via d'uscita ora ascoltate disse George Spello aveva preso affettuosamente Lord Hemsworth sotto braccio e stava camminando con lui su e giù per il prato era un uomo robusto roseo tondo così simile nel suo aspetto al maiale di Lord Hemsworth l'imperatrice di Blendings che quest'ultimo provò un'ondata di nostalgia di casa ora ascoltate disse George Spello penso che voi ed io possiamo accordarci Lord Hemsworth per mostrare che il suo cuore era al posto giusto fece un altro sorriso conciliatorio sì sì lo so disse George Spello ritraendosi ma penso che possiamo metterò le carte in tavola so tutto mia moglie si mette delle idee in testa immagina delle cose Lord Hemsworth anche se annebbiato fu in grado di capire questo la mia defunta moglie era proprio così disse tutte le donne sono così disse George Spello è qualcosa che ha a che fare con la struttura ossea della loro testa lasciano che la loro immaginazione le porti via con sé nutrono indegni sospetti qui di nuovo Lord Hemsworth fu in grado di seguirlo disse che aveva notato la stessa cosa in sua sorella Constance e George Spello iniziò a sentirsi incoraggiato certo sorelle mogli defunte mogli sono tutte uguali e non si deve permettere che si facciano portare via dall'immaginazione quindi ecco quello che voi le direte è che mi avete trovato a godere di un quieto pomeriggio con alcuni compagni di college aspettate aspettate disse con urgenza George Spello aspettate finché non finisco aveva osservato il suo ospite scuotere la testa questo accadeva perché una zanzara aveva appena morso sull'orecchio Lord Hemsworth ma lui non aveva avuto modo di indovinarlo gli scuotimenti di testa sono difficili da interpretare quanto il linguaggio degli occhi aspettate finché finisco disse George Spello sentita cosa stavo per dire voi siete un uomo di mondo vorrete assumere una visione aperta ragionevole vorrete studiare la situazione da ogni punto di vista e scoprire quale vantaggio vi possa portare ora quanto volete dire quante eh quante ne vorreste quante cosa enciclopedie dello sport riccamente relegate oh sì 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 disse George Spello illuminato oh certo 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 non vi avevo capito per un attimo quante ne suggerireste 50 lord Hemsworth scosse di nuovo la testa in modo petulante sembrò a George Spello la zanzara era tornata ebbene naturalmente proseguì George Spello quando ho detto 50 intendevo dire 100 penso che sia una bella cifra tonda ottimo concordò lord Hemsworth o preferireste un acquisto all'ingrosso all'ingrosso potrebbe andar meglio potreste darli agli amici giusto al loro compleanno o a Natale ovviamente è così difficile pensare ad un regalo di Natale adatto straordinariamente difficile diciamo 500 dollari di acconto sarebbe fantastico e ricordate disse George Spello con tutta l'enfasi a sua disposizione vecchi compagni di college un passante osservando lord Hemsworth mentre tornava circa 20 minuti dopo alla casa dei sogni di Freddy in fondo alla strada si sarebbe detto che passava un vecchio signore che aveva vinto un terno all'otto e avrebbe avuto ragione lord Hemsworth mentre maneggiava il rotolo frusciante di banconote nella tasca dei pantaloni non stava dicendo realmente yahoo ma ci andava molto vicino si sentiva come se fosse stato tolto dalle sue spalle un pesante fardello la ragazza era addormentata quando arrivò alla casa gentilmente senza disturbare il suo sonno lord Hemsworth prese la sua borsa e vi depositò i 500 dollari poi uscì in punta di piedi e si diresse al golf club voleva trovare suo figlio Freddy ah Frederick avrebbe detto quindi vendi biscotti per cani vero chiunque può vendere biscotti per cani dammi qualcosa di più tosto come enciclopedie dello sport riccamente rilegate ora sono uscito poco fa e ho venduto una partita all'ingrosso alla prima casa che ho visitato perciò non parlarmi di biscotti per cani di fatto non parlarmi affatto perché sono stufo del suono della tua voce e smetti di cantare sì quando Freddy cominciava a cantare Battons and Bows quello sarebbe stato il momento di colpire sticky wicket a blendings era un bel pomeriggio il cielo il cielo era azzurro il sole giallo le farfalle volavano gli uccelli cinguettavano le api ronzavano e per farla breve tutta la natura sorrideva ma sul figlio minore di Lord Hemsworth Freddy Tripwood mentre sedeva nella sua macchina sportiva davanti al portone del castello di blendings con un bel cane al saziano al fianco queste eccellenti condizioni del tempo facevano poca impressione stava pensando ai biscotti per cani Freddy era solo un visitatore occasionale del castello in questi giorni alcuni anni prima aveva sposato l'affascinante figlia di Mr. Donaldson della gioia del cane Donaldson l'organizzazione il cui scopo è mantenere il cane americano in forma perfetta fornendogli biscotti salutari e nutrienti e si era trasferito a Long Island City USA a lavorare per la ditta si trovava ora in Inghilterra perché suo suocero ansioso di estendere la sfera di influenza della gioia del cane ve lo aveva rimandato per vedere cosa potesse fare per aumentare le vendite nel regno insulare Edgy sua moglie lo aveva accompagnato ma dopo una settimana circa aveva trovato la vita a Blendings troppo tranquilla per lei ed era andata in Costa Azzurra avevano deciso che alla conclusione della sua campagna inglese Freddy l'avrebbe raggiunta là si stava giusto asciugando l'orecchio sinistro su cui l'alsaziano aveva deposto una carezza umida quando giunse dai gradini anteriori un piccolo ed elegante anziano signore con un monocolo cerchiato di nero questi era una figura notevole nella bohème londinese suo zio Galad che il mondo del teatro o delle corse dei cavalli e dei ristoranti più brillanti aveva indicato con orgoglio per anni lo salutò cordialmente per le sue sorelle Constance Giulia Dora e Dermione Galli poteva essere la pecora nera della famiglia ma in Freddy suscitava solo ammirazione lo considerava un uomo dalle infinite risorse e sagaccia come in effetti era ebbene giovane Freddy disse Galli dove vai con quel cane lo porto dai Fanshow a Marlin Hall è dove vive quella graziosa ragazza che ho incontrato con te l'altro giorno vero? vero Valery Fanshow suo padre è il Master of Hounds locale e tu sai cosa significa? cosa significa? che è il responsabile di più cani di quanto tu possa immaginare ed ogni cane ha bisogno del suo biscotto giornaliero e cosa potrebbe esserci di meglio per loro della gioia del cane Donaldson che contiene tutte le vitamine essenziali? ha intenzione di vendergli i biscotti per cani? non vedo come possa fallire Valery è la pupilla dei suoi occhi lui non le nega niente a lei piace questo Alsaziano e dice che se glielo regalo fare in modo che il vecchio faccia un grande ordine sto per consegnarglielo Franco a bordo ma il mio buon Freddy quel cane di Agi andrà su tutte le furie oh tutto bene ho già sistemato ho già pronta la mia storia le dirò che è morto e che ne ho preso un altro altrettanto bello questo sistemerà Agi ma non devo stare a perdere tempo con te devo andar via subito ci vediamo dopo disse Freddy scomparve in una nuvola di fumo lasciò Galli a mordicchiarsi le labbra una vita passata in compagnia di allibratori corse dei cavalli e giocatori lo aveva reso singolarmente di ampie vedute ma non poteva guardare queste tattiche con approvazione scuotendo la testa rientro in casa e nell'ingresso incontro a Beach il maggiordomo del castello Beach stava ansimando un po' perché si era affrettato e non era più lo snello e giovane maggiordomo che era quando era entrato in servizio la prima volta ho perso mister Frederick sir per un pelo perché è arrivato questo telegramma per lui mister Galahad pensavo che potesse essere importante difficile probabilmente qualcuno che li telegrafa il risultato della corsa delle quattro da qualche parte datelo a me vedrò che lo abbia quando torna continuò sulla sua strada sentendosi ora un po' alle perse essendo un uomo socievole voleva qualcuno con cui parlare poteva ovviamente andare a chiacchierare con sua sorella Lady Constance che stava leggendo un romanzo sul terrazzo ma a qualcosa gli diceva che ci sarebbe stato poco profitto e divertimento in questo gran parte della sua conversazione consisteva in aneddoti del suo passato turbolento e Connie non era un gran pubblico per essi decise riflettendo di cercare suo fratello Clarence con cui era sempre un piacere scambiare delle idee e scoprì che il nobile mite e sognatore era in biblioteca con lo sguardo fisso nel vuoto ah eccoti qui Clarence disse e Lord Hemsworth si tirò su con uno stupito eh cosa mentre tutto il suo corpo magro vibrava oh sei tu Galad nessun altro che accade Clarence che accade hai qualcosa in mente i sintomi sono inconfondibili un uomo la cui anima è a riposo non salta come una ninfa sorpresa al bagno quando qualcuno gli dice che c'è confidati Lord Hemsworth era fin troppo felice di farlo un ascoltatore comprensivo era proprio quello che voleva e Connie disse hai sentito cosa diceva a colazione non sono sceso a colazione ah allora probabilmente non hai sentito ebbene proprio a metà colazione stavo mangiando una ringa fumicata in quel momento mi ha detto che aveva intenzione di liberarsi di beach cosa liberarsi di beach è così lento ha detto andiamo dovremmo avere un maggiordomo più giovane e svelto ero terrorizzato mi è andata di traverso la ringa non ti piassimo certo blendings senza beach è impensabile e anche blendings con al timone quello che lei definisce un maggiordomo giovane e svelto buon dio posso immaginare il tipo che vuole qualche ragazzo acrobatico che fa salti mortali e scivola sulle ringhiere devi puntare i piedi Clarence chi io disse lord Hemsworth l'idea gli sembrava troppo bizzarra per essere presa in considerazione egli era come è stato detto un uomo mite e sognatore sua sorella Constance una donna forte e imperiosa modellata sulle linee della defunta Cleopatra nominalmente era lui il padrone di casa e in quanto tale con diritto di esercitare il veto presidenziale ma in pratica la parola di Conny era sempre legge testimone il modo in cui gli faceva portare un cappello a cilindro alla festa scolastica annuale del villaggio lui aveva ragionato e implorato indicando nel modo più chiaro possibile che per una festività puramente rurale di quel genere un semplice cappello da pescatore sarebbe stato molto più adatto ma ogni anno quando arrivava agosto eccolo lì a bilanciare in testa quella cosa bestiale che chiedeva semplicemente ai ragazzini nel tendone del tè di lanciarli dolci della consistenza di pietre non posso puntare i piedi con Conny ebbene io posso e ho intenzione di farlo licenziare Beach davvero dopo 18 anni di devoto servizio l'idea è mostruosa ovviamente riceverebbe una pensione non va bene che lei pensi di poter cavarsela con una qualunque pensione resta il fatto che pensa di licenziarlo non le si deve permettere di fare una cosa così orribile santo cielo potresti allo stesso modo licenziare l'arcivescovo di Canterbury avrebbe parlato ancora ma in quel momento venne dalle scale al di fuori uno scalpiccio che annunciava che Freddy era di ritorno dai fanshow e diretto alla sua stanza Lord Hemsworth si ritrasse come tanti padri aristocratici era allergico ai figli minori e da quando Freddy era andato a vivere in America aveva acquisito una baldanza vivace da pigliatutto che gli faceva l'effetto di una stonatura Frederick disse con un brivito e Galli sussultò ho un telegramma per Freddy disse meglio che glielo porti vai disse Lord Hemsworth e penso che sarà meglio che vada a dare un'occhiata ai miei fiori lasciò la stanza e si diresse al giardino delle rose passeggiando su e giù e annusando il suo contenuto era una procedura che di regola gli faceva molto piacere ma oggi il suo cuore pesante non trovava sollievo nel profumo delle rose lentamente ritornò in biblioteca e prese dallo scaffale il suo favorito libro sui maiali ma perfino i libri sui maiali non erano un palliativo il pensiero di Beach che svaniva dalla scena di Blendings se si poteva dire svanire di un uomo della sua stazza gli impediva di concentrarsi era affondato in una cupa fantasticheria quando fu interrotto dall'ingresso del soggetto delle sue tristi meditazioni scusatemi milord disse Beach Mr. Gallad desidera che vi chieda se volete scendere nel salotto da fumo per parlargli perché non può salire lui si è storta una caviglia milord lui e Mr. Frederick sono caduti dalle scale oh disse Lord Hemsworth non particolarmente interessato Freddy faceva sempre strane cose e anche Gallad come è accaduto Mr. Gallad mi informa che ha consegnato a Mr. Frederick un telegramma Mr. Frederick dopo averlo aperto il letto ha pronunciato una forte esclamazione ha vacillato si è afferrato a Mr. Gallad ed entrambi sono caduti dalle scale anche Mr. Frederick si è storto una caviglia si è ritirato al letto benedetto me si sono fatti male penso che l'agonia sia abbastanza passata sono stati curati dalla cameriera della cucina è una brownie è una cosa? una brownie milord credo che sia una specie di Boy Scout femmina hanno ricevuto istruzioni di elementare primo soccorso eh? primo soccorso? oh volete dire primo soccorso? disse Lord Hemsworth leggendo tra le righe vende quel genere di cose è vero? precisamente milord quando Lord Hemsworth arrivò nel salotto da fumo la brownie aveva completato il suo intervento ed era tornata nel suo regno Galli era sdraiato sul sofà e non sembrava molto turbato per il suo incidente stava fumando un sigaro Beach mi dice che sei caduto disse Lord Hemsworth Galli assentì come capita quando uno stupido di nipote ti si aggrappa quando sei in cima ad una rampa di scale Beach sembra pensare che l'azione di Frederick sia stata causata da qualche cattiva notizia nel telegramma che gli hai dato giusto giusto veniva da Hagi Hagi sua moglie credevo che si chiamasse Frances no Niagara che nome particolare una botta di sentimento da parte dei suoi genitori avevano passato la luna di miele alle cascate del Niagara ah sì ho sentito parlare delle cascate del Niagara la gente ci si butta nei barili vero? è una cosa che non vorrei proprio fare molto scomoda direi anche se indubbiamente col tempo ci si può fare l'abitudine perché il suo telegramma lo ha disturbato tanto? perché dice che sta venendo qui e sarà da noi dopo domani non vedo nessuna obiezione freddi sì e ti dirò perché è andato a regalare il suo cane a Valerie Fansho chi è Valerie Fansho la figlia del colonnello Fansho di Marlin Hall quel tipo della caccia del Tally Ho e View Hallow lo hai mai conosciuto? no disse Lord Hemsworth che non conosceva mai nessuno se poteva farne a meno ma perché Frances dovrebbe obiettare a che Frederick dia a questa giovane un cane non ho detto un cane ho detto il suo cane il suo personale al saziano che lei ama alla follia tuttavia la cosa potrebbe essere sistemata immagino con qualche bacio e una parola o due di pentimento se Valerie Fansho fosse una ragazza dalla faccia di torta e occhiali ma sfortunatamente non lo è ha i capelli d'oro gli occhi azzurri e anni di caccia spari e pesca per non parlare di nuoto tennis e golf che hanno reso la sua figura snella e flessuosa ha un aspetto come una bellezza del coro e come probabilmente sai le donne piccole raramente approvano che il loro marito sia in termini affettuosi con qualcuno di quell'aspetto se oggi darà un'occhiata a Valerie Fansho e scopre che Freddy le ha dato dei cani probabilmente vorrà divorziare davvero ha scritto le mogli americane divorziano anche per molto meno bene detto me e allora cosa farebbe Frederick ebbene suo padre ovviamente non vorrà più che lavori al suo emporio di biscotti per cani immagino che tornerà a vivere qui cosa al castello esclamò Lord Hemsworth terrorizzato buon dio quindi vedi come seria la situazione tuttavia ci ho pensato molto esplorando una strada e poi un'altra e sono felice di dire che ho trovato la soluzione dobbiamo riprenderci quel cane prima che arrivi aggi chiederai a Rosalie Fansho di restituirlo non proprio lei non lo restituirebbe mai deve essere rubato ed ecco dove entri in gioco tu io chi altri c'è Freddy e Dio siamo entrambi sul nostro letto di dolore incapaci di muoverci e non possiamo chiedere questo favore a Connie sei l'unica forza mobile la tua pronta intelligenza ti ha già forse detto cosa devi fare cosa fa la gente quando ha un cane istruisce il maggiordomo per portarlo fuori per un ultimo giretto prima di notte davvero invariabilmente ogni cane ha il suo ultimo giretto prima di notte e credo che potremmo certamente presumere che sarà via porta posteriore cosa porta posteriore via ah oh via sì sì certo perciò devi fare un salto dai fanshow diciamo circa alle dieci stare in agguato alla porta posteriore finché il cane non appare e riportarlo qui lord emsward lo guardò terrorizzato ma galad non serve dire ma galad deve essere fatto non vuoi che l'intero futuro di freddi venga distrutto no lo avresti al castello per il resto della sua vita ah vedo che rapprividisci pensavo che l'avresti fatto ah dannazione non è molto quello che ti chiedo devi semplicemente andare nel giardino posteriore e portar via un cane lo saprebbe fare un bambino se non fosse che vogliamo tenere segreta la cosa tra noi farei fare il lavoro alla brownie ma se il cane rifiuta di accompagnarmi dopo tutto non ci siamo quasi mai incontrati ci ho pensato devi spruzzare i tuoi pantaloni di anisetta i cani seguono l'anice fino in capo al mondo ma non ho anisetta beach dovrà mettere le mani su un po' di anisetta e beach non fa mai domande diversamente dal giovane brillante maggiordomo di coni che ne sarebbe probabilmente pieno oh beach disse galli che aveva suonato il campanello avete dell'anisetta in casa si mister galad portatemene una coppetta volete benissimo sir disse beach se la richiesta lo sorprese non lo mostrò il vero maggiordomo esperto non si permette mai di mostrarsi sorpreso per niente portò l'anisetta allora decisa lord emsworth dando via sulla macchina sportiva di freddi in una nuvola profumata e galli lasciato solo si accese un altro sigaro e rivolse la sua attenzione al cruciverba del times trovò tuttavia difficile concentrarvisi questo non era solo perché questi cruciverba sono diventati così astrusi oggi di e lui era fondamentalmente un uomo dio del sole ra e grande uccello australiano emu avendo visto partire lord emsworth per il suo viaggio lo assalirono dubbi e timori desiderava poter essere più fiducioso sulle possibilità di successo della missione che gli aveva affidato una sua conoscenza di tutta una vita gli aveva lasciato la sensazione che il capo della famiglia fosse una fragile canna su cui appoggiarsi in caso di emergenza il suo genio per fare la cosa sbagliata era un luogo comune nel cerchio delle sue conoscenze quali si stava chiedendo dei molti modi a sua disposizione per combinare dei guai avrebbe scelto lord emsworth finire con la macchina in un fosso andare alla casa sbagliata o si sarebbe dimenticato dell'incarico e si sarebbe seduto accanto alla strada per meditare sui maiali era impossibile dirlo e le emozioni di galli erano simili a quelle di un generale che avendo progettato un brillante atto strategico si trova in dubbio sull'abilità delle sue truppe nel portarlo a termine i generali in tali circostanze si masticano i baffi in modo nervoso e galli si sarebbe masticato i suoi se ne avesse avuti un respiro pesante si fece sentire fuori della porta entrò beach miss fansho sir annunciò la conoscenza di galli con valeri fansho era solo superficiale e nel tempo trascorso da quando si erano incontrati l'ultima volta lui aveva dimenticato alcuni dei suoi punti di forza vedendola ora capì quanto fosse stata accurata la descrizione che ne aveva fatto a lord emsworth nel senso più profondo e migliore delle parole era uno zuccherino in breve proprio l'ultimo tipo di ragazza a cui un giovane marito avrebbe dovuto regalare l'alsaziano di sua moglie buonasera disse dovete perdonarmi per non alzarmi seguendo le regole dell'etichetta mi sono storto la caviglia oh mi spiace disse valeri spero di non disturbarvi per niente ho chiesto di mister triput dimenticando che eravate due con lo stesso nome sono venuta a vedere freddi è andato a letto si è storto una caviglia la ragazza sembrò sconcertata forse avete confuso il cast dei personaggi disse eravate voi che vi eravate storto una caviglia anche freddi ma come tutti e due cos'è successo siamo caduti insieme dalle scale e come mai oh pensavamo di poterlo fare posso dare a freddi un messaggio se non vi dispiace diteli che va tutto bene vi ha detto che stava cercando di vendere a papà quei suoi biscotti l'ha detto bene ho avvicinato papà sull'argomento e lui ha detto oh tutto bene li proverò ha detto che non immaginava che avrebbero avvelenato i cani e poiché ci tenevo tanto avrebbe dato loro un'occasione splendido e ho riportato il cane erano solo le notizie sensazionali che facevano cadere il monocolo dall'occhio di Galli a queste parole cadde come una stella cadente avete fatto cosa? esclamò recuperando il monocolo e rimettendolo a posto per poter guardarla oggi pomeriggio mi ha dato un cane al saziano e l'ho riportato volete dire che non lo volete? lo voglio certamente ma non posso ottenerlo il suo primo atto è stato andare dietro allo spegnel di papà e cercare di assassinarlo l'unica cosa calcolata per farlo rifiutare socialmente papà vuole un gran bene a quello spegnel chi ha messo questo cane paranoico in questa casa? ha tuonato con la bava alla bocca me lo ha dato freddi ho detto allora puoi portarlo dannatamente indietro a questo freddi chiunque sia ha vociferato? sì vociferato e lasciami aggiungere ha detto che sto per prendere il mio fucile e contare fino a dieci e se l'animale è sempre qua in giro quando arrivo a quel numero gli staccherò la testa e il signore abbia pietà della sua anima ebbene io capisco rapidamente e ho visto subito che stava alludendo al fatto che preferiva non trovarsi in compagnia del cane perciò l'ho riportato indietro penso che sia andato nella sala della servitù per prendersi un po' di cena mi mancherà ovviamente pure presto venuto presto andato e così dicendo Valery Fansho ritornando al soggetto della caviglia di Galli espresse la speranza che non la dovesse amputare e se ne andò se in quel momento qualcuno avesse iniziato ad amputare la caviglia di Galli è poco probabile che lo avrebbe notato talmente concentrati erano i suoi pensieri su questa straordinaria fortuna che era capitata a un nipote cui aveva sempre voluto bene se come aveva supposto era l'angelo custode di quest'ultimo che aveva organizzato il lieto fine come un mago che tiri fuori un coniglio dal cappello gli sarebbe piaciuto dargli una pacca sulla schiena e dirgli quanto fossero stati apprezzati i suoi sforzi la gioia viene al mattino si disse spostando un po' avanti l'orologio e per celebrare l'occasione suonò per Beach e gli chiese di portargli un whisky in soda ci vuole un po' di tempo prima che l'ordine fosse realizzato e Beach fu pieno di scuse per la sua lentezza devo esprimere il mio rincrescimento per averci messo tanto tempo mister Galad sono stato trattenuto al telefono dal colonnello Fanshoe alla famiglia Fanshoe sembra stare molto con noi stasera c'è una Mrs. Fanshoe credo di sì mister Galad indubbiamente capiterà qui fra breve cosa voleva il colonnello stava chiedendo di sua signoria ma non sono stato in grado di trovarlo è andato a fare una passeggiata davvero? non lo sapevo il colonnello Fanshoe desiderava che andasse a Marlin Hall domattina nella sua qualità di giudice e di pace sembra che il maggiordomo di Marlin Hall abbia preso una persona sospetta che si nascondeva nei dintorni della porta posteriore e l'abbia chiuso in cantina il colonnello Fanshoe spera che sua signoria emetterà a suo carico una rapida sentenza per la seconda volta quella sera il monocolo di Galli cante dall'orbita del suo occhio non era come abbiamo visto ottimista riguardo alla possibilità che suo fratello arrivasse alla fine della serata senza combinare guai ma non aveva previsto una cosa del genere questo era sorprendente perfino per Clarence Beach disse questo apre una nuova linea di pensiero parlate e di una persona sospetta sì sir che stava in agguato alla porta posteriore dei Fansho e ora è nella cantina dei Fansho sì sir ebbene ecco qualcosa per i vostri archivi la persona sospetta che avete in mente altri non era che Clarence nono conte di Hemsworth sir ve lo assicuro l'ho mandato a Marlin Hall in missione segreta la cui natura non ho il potere di svelarvi e come si è riuscito a farsi beccare non lo sapremo mai basti dire che l'ha fatto e ora è in cantina cantina dei vini o del carbone carbone mi è stato fatto capire e sir il nostro compito allora è di farlo uscire non parlate devo pensare devo pensare quando un uomo comune cerca di formulare un piano per districare il suo fratello da una cantina del carbone la procedura è probabile che sia lunga e comporti una fronte corrugata una grattata di testa e poi lo schiocco delle dita ma nel caso di un uomo come Galli non è così solo un tempo minimo era trascorso prima che potesse annunciare che ce l'aveva Beach? sì? andate nella mia camera dal letto guardate nel cassetto dove sono i fazzoletti e troverete una boccetta che contiene delle pasticche bianche portatemele benissimo sir potrebbe essere questa la boccetta a cui vi riferite sir? chiese Beach tornato dopo pochi minuti è quella ora alcuni fatti necessari il maggiordomo dei fan show è un vostro amico? ci conosciamo sir allora non sarà sorpreso se andate improvvisamente a fargli visita immagino di no mister Gallad a volte lo faccio quando mi trovo nelle vicinanze di Marlin Hall e in queste occasioni ci da dentro sir? bevete una tazza o due? oh sì sir mi offre sempre qualcosa allora è tutto a posto vedete questa boccetta Beach? contiene quelle che sono note come Mickey Fins il nome vi è familiare? no sir sono un sedativo famoso negli Stati Uniti quando sono andato a New York l'ultima volta un mio grande amico un bartender dell'Ottava Avenue me ne ha parlato e si sorprese molto nel sapere che non ne avevo erano cose diceva che non dovrebbero mai mancare a nessuno me ne diede qualcuna assicurandomi che prima o poi mi sarebbero tornate utili fino ad ora non ho avuto occasione di usarle ma penso che sarete d'accordo con me che ora è il momento in cui vengano in aiuto alla compagnia mi seguite Beach? no sir su su conoscete i miei metodi applicateli fate scivolare una di queste nel drink di questo maggiordomo e quasi immediatamente lo vedrete accasciarsi come un giglio appassito essendo sgombra la strada procedete alla cantina e liberate sua signoria e lo portate a casa ma Mr. Gallad che c'è? non credo che non fate obiezioni frivole se Clarence non viene estratto da quella cantina prima di domattina il suo nome sarà infangato diventerà uno zimbello sì sir ma e non trascurate un altro aspetto della cosa fate questo semplice compito e non ci saranno limiti alla sua gratitudine borse di oro cambieranno mano cammelli che portano scimmie avorio e pavoni tutti indirizzati a voi giungeranno presto alla porta posteriore del castello di Blendings ne verrete fuori grandiosamente era un appello potente i due menti di Beach che avevano vibrato infelicemente smisero di vibrare una luce di risoluzione comparve nei suoi occhi sembrava come un maggiordomo che avesse irrigidito le sue articolazioni e richiamato a raccolta il sangue come raccomandato da Enrico V benissimo Mr. Gallad disse Galli riprese il suo cruciverba più che mai convinto che il compilatore delle definizioni soffrisse di rammollimento cerebrale e a tempo debito un respiro pesante lo svegliò dal leggero sonno in cui era caduto mentre cercava di risolvere il sette orizzontale scoprì che Beach era tornato dal fronte aveva l'aria di uno che abbia da poco attraversato qualche grande esperienza spirituale ebbene disse Galli tutto a posto tutto liscio sì Mr. Gallad avete somministrato la dosa media per un adulto sì Mr. Gallad hai liberato sua signoria sì Mr. Gallad bravo ragazzo dov'è sta facendo un bagno Mr. Gallad era un po' impolverato c'è altro Sir niente potete andare a letto e dormire pacificamente buonanotte buonanotte Sir qualche minuto dopo mentre Galli stava riposando con un 12 verticale scoprì che la sua praiva si era stata invasa da un visitatore con cui non si era aspettato di intrattenersi molto raramente sua sorella Constance cercava la sua compagnia a parte rabbrividire austeramente ogni volta che si incontravano essa raramente aveva molto a che fare con lui oh salve Connie disse sei brava nei cruciverba Lady Constance non disse all'inferno i cruciverba ma era evidente che solo la sua educazione le impediva di farlo era in uno di quegli umori di rabbia impetuosa che così spesso avevano ridotto Lord Hemsworth ad una gelatina colpevole Galad disse hai visto Beach ho parlato da poco con lui perché ho suonato per farlo venire per mezz'ora realmente non fa il suo dovere Clarence mi stava dicendo che è quello che pensavi di lui ha detto che stavi pensando di licenziarlo sì io non lo farei cosa vuoi dire te ne pentiresti fino alla fine dei tuoi giorni non ti capisco allora lascia che ti racconti una piccola favola della buonanotte per favore non blatterare Galad davvero penso a volte che tu abbia meno senno di Clarence è una storia procedette ignorandola di devozione feudale agli interessi della famiglia che sarebbe difficile lodare troppo mostra Beach in una luce così favorevole che penso che sarei d'accordo con me che penso che mi perdonerai se quando parli di dargli il ben servito ti dico che stai davvero parlando a Vanvera hai bevuto Galad solo una serie di brintisi a un maggiordomo che entrerà nei canti e nelle leggende ora viene la storia la raccontò bene senza omettere alcun dettaglio per quanto minimo e mentre il suo racconto si snodava un pallore cinereo si diffondeva sulla faccia di Lady Constance e lei iniziava a inghiottire in un modo che avrebbe interessato qualsiasi dottore specialista in malattie della cavità toracica e quindi ecco tutto disse Galli concludendo anche se non sei commossa dal suo servizio altruista e non sei persa in ammirazione per la sua abilità nel far scivolare le micchi fin nei drink della gente devi realizzare che sarebbe una follia dargli il ben servito non puoi permettere che lui vada in giro a raccontare la storia delle attività di Clare per tutto il paese e sei bene come me che se buttato fuori vivrà di cene di rendita per mesi e fossi in te Connie ci ripenserei dette un'occhiata con soddisfazione al relito di quella che una volta era stata una bella e imponente sorella poteva leggere il messaggio di quelle deglutizioni e poteva vedere che ci stava ripensando